E allora mi dica un poco, dal momento che lei ha ammesso questa sua partecipazione all'associazione denominata Cosa Nostra, vuol dire ora alla Corte che la sente per la prima volta perché lei non lo abbiamo sentito, in quanto delle sue dichiarazioni, quelle che erano allora è stata data lettura all'udienza del 13 aprile, ora vuol dire alla Corte in questa sua interezza che cosa era questa organizzazione, com'è che lei ne venne a far parte, in che cosa essa si esprimeva, quali rapporti c'erano tra i componenti, come si veniva nella determinazione di compiere delle azioni criminose degli illeciti. Io ho visto e ho letto le sue dichiarazioni e molte delle cose che ho lette appunto attengono a questo argomento, ma la Corte è giusto che le senta dalla sua viva voce, se anche lei le abbia dette al giudice istruttore Pime e al procuratore della Repubblica, dopo le ripeta alla Corte, ne ci faccia una descrizione. Io sono entrato a far parte di Cosa Nostra nel 1975, nella primavera inoltrata del 1975, nella famiglia di Stefano Bontade. Sono stato aggregato personalmente in diretta dipendenza Stefano Bontade, di cui eravamo dieci persone in diretta dipendenza di Stefano Bontade, tra cui ero io, Salvatore Contorno, Pietro Fernengo, Manuele D'Agostino, Mimmo Tarese, prima di diventare sotto capo, Salvatore Federico, detto Pinzetta, Giovanni Bontade, Giovanni Bontade, Gaetano Grato e Tanino Grato. Io in precedenza ero stato vicino alla famiglia di Posto dei Mille, ma vicino nel senso che ero intimo con Carmelo Zanca, parlo negli anni precedenti, dopo questa amicizia con Carmelo Zanca, ho abbracciato un'amicizia con Stefano Giacomia, che anch'esso apparteneva alla famiglia di Santa Maria di Gesù, perché lui a suo tempo faceva parte della famiglia di Palermo Centro, di La Barbera, che allora è stata sciolta per motivi della prima guerra di mafia, e sono state aggregate alla nostra famiglia di Santa Maria di Gesù tutti i componenti della famiglia di Palermo. Noi parliamo di un'epoca. Io sono entrato a far parte, qualche mese dopo, che è entrato a far parte Salvatore Contorno e Giovanni Battista Pollarano. Il mio rito è stato celebrato dinanzi a Stefano Bontà, che è stato il mio padrino, che allora si alternava dal confine, andava e veniva, in presenza di Nino Bontà, Saro Enrico Bono, Manuele D'Agostino e altri che adesso non mi vengono in mente. In quell'occasione sono stato iniziato io e Salvatore Federico. Dove avveniva questa iniziazione? L'iniziazione, nel caso mio, è avvenuta nel baglio Bontade, in una specie di caseggiato. Non c'è un posto preciso dove avvenire, perché anche qui in Cacera abbiamo celebrato uomini d'onore durante la mia detenzione, tra cui Ruggero Vernengo, Gaetano Lopresti e Giuseppe Labbocchiaro. Durante la sua prima o la sua segretà? Questa detenzione, è la prima detenzione, prima dell'evasione. Lei era stato arrestato il 2 dicembre dell'80 e vedevase il 12 maggio dell'83, per cui poi ha riportato condanna definitiva. Sono stato riarrestato il 21 gennaio dell'85. Quindi passando alle domande successive, cosa voleva che le dica? Ecco, questo fatto dei suoi rapporti con i componenti, delle strutture dell'organizzazione, dei vertici... La parola stessa cosa nostra già sta a indicare... Lei tutto quello che... L'unitarietà, diciamo, dell'appartenenza, della cosa nostra in sé stesso che riguarda tutta l'intera Sicilia, a eccezione di qualche piccola regione come Ragusa, Siracusa e alcune poste del Messinese, per quelli che sono i miei ricordi. Se adesso qualcosa è cambiato, non lo so. Ma ad eccezione di questa regione... E allora lei a quale periodo si riferisce in questo momento? Io mi sto riferendo al 1975, quando sono entrato a far parte di cosa nostra. E nel 75 l'organizzazione com'era allora? Lei parli di questo... Noi dobbiamo parlare, dobbiamo andarci per ordine... E ci vada per ordine lei stesso. Io posso cominciare nel senso della conoscenza dei membri della nostra famiglia, di cui io ho iniziato a far parte. E tutto quello che poi... Perché poi, man mano, man mano, un uomo d'onore ha opportunità, quando gli si presenterà in varie occasioni, di conoscere altri vari uomini d'onore, che saranno di volta in volta presentati ritualmente, con un'altra persona di cui già si ha conoscenza che la terza persona sia uomo d'onore. Cioè, io sono uomo d'onore, un altro già è uomo d'onore che io ho avuto presentato. Quindi successivamente da uno dei due possiamo presentare, in presenza di un altro membro, la terza persona nuova aggiunta. I componenti della nostra famiglia erano moltissimi, che adesso non potrebbe essere sufficientemente preciso, perché, come ne dicevo, c'era anche la famiglia di Palermo aggregata. Ma in quel periodo, quando sono entrato a far parte io, la famiglia era così composta. Rappresentante Stefano Bontate. Consiglieri, allora, erano in tre. Consiglieri, era Giovanni Terese, detto Pacchione, Lillo Motise, che soffriva con la vista. Michele Saccone, Orazio Saccone sarebbe, noi lo chiamavamo Michele Saccone. Sotto capo era Pietro Loiacono. Capitecina c'era Orazio Saccone, Nino Bontà, Arturo Veggiano, che vendeva macchine in via, in una travessa di via Romanova. Comunque, ho cominciato a conoscere vari membri della nostra famiglia, di cui ci sono persone che non sono imputate in questo, ma anche se processo. Se voi mi elencate imputati perché ho dimenticato, potrei dirvi con esattezza che io partendo. Allo Stato, all'organizzazione, lei ha detto come è entrato, ha fatto dei riferimenti anche in... La solita plassa che già voi sapete, dopo una persona che è avvicinata... I rapporti con le altre, va bene, famiglie, con i mandamenti, il rapporto con il vertice, come si esplicava, come si strutturava? Io, come le ho detto, ero un semplice soldato, però non avevo il dovere di passare da nessun graduato, né da capodecina, né da sotto capo, né da consigliere. E perché questo? Perché eravamo aggregate, come le dicevo, dieci persone. Allora lei dice, si riferisce a quella parte della sua comunicazione, avevo, si dice, dei fedelissimi di Stefano Bontate. Diciamolo fedelissimi. Eravamo persone alle dette di rette dipendenze di Stefano Bontate. Quindi non dovevamo passare da nessun... Come? Non dovevate rendere conto. Non dovevamo rendere conto ad altri membri della nostra famiglia. Mentre gli altri semplici uomini d'onore erano aggregati ai loro rispettivi capodecina. Mentre noi eravamo direttamente alle dipendenze di Stefano Bontate. Chieda... Mi dica cos'altro. Il rapporto con le altre famiglie, come funzionava? Il rapporto con le altre famiglie, c'era in ogni... Ognuno ha la sua famiglia con un'estensione di territorio. Quindi ci sono diverse famiglie nel territorio palermitano e fuori provincia. quindi ognuno ha le sue... le sue mansioni che riguardano la propria gestione delle proprie famiglie. Poi c'è un vertice, così chiamato, che sarebbe composto dalla commissione. La commissione è composta dai vari capi mandamenti, ma non sono tutti i capi mandamenti che fanno parte della commissione. Noi dobbiamo precisare di che epoca, in epoca dobbiamo parlare, perché queste cose si evolgono e succedono dei cambiamenti avvolti internamente in seno a Cosa Nostra. Ma come le dicevo, la parola stessa, Cosa Nostra, tende a dimostrare l'unitarietà. E lei è in grado di dirmi, per esempio, a partire dal 1978, come si esternava, come si manifestava questo vertice? Ecco, il 78 che lei mi chiede è una fase un pochettino critica, di mutamenti. Lei mi deve chiedere a me prima o dopo il 78? E facciamo allora un po' prima e un po' dopo, dato che è un'epoca di transizione, lei dice... No, perché c'è stato... c'è stato nel 78 l'espromissione di capomandamento di Gaetano Batalamente dopo l'uccisione di Peppe Di Cristina che è scaturita prima dell'uccisione di Peppe Di Cristina che prima era stato ucciso Ciscino Madonia. Sarebbe il padre di quel Pippo Madonia rappresentante di Vallelunga. Quindi Gaetano Batalamente poiché allora era messo a capo della commissione si è riunita alla commissione attribuendogli le responsabilità specifiche in questo ruolo della sua che aveva dato il consenso all'insaputa dei membri di Cosa Nostra a Pippo Calderone ad altri di poter eliminare Cicino Madonia Cicino Madonia era molto intimo dei collonesi collonesi si intende un gruppo ristretto di persone non collonesi come paese o come quale sarebbe questo gruppo ristretto di persone io ne conosco pochi perché loro alcuni fatti che gli hanno dato ragione a loro sono i fatti e sono perché sono stati sempre malvagiamente riservati mentre se dovevano andare a trovare Stefano Bontate sapevano che potevano andarsi andarlo a trovare o a Magliocco nella sua tenuta o alla sua casa di Villa Grazia al Vellino o in qualche posto loro erano molto riservate nei loro nei loro posti e nei loro proprietà dove stavano quindi come lo dicevo in quel periodo nel 78 come fino al 1978 la commissione era composta di quel che io ripeto a dire io sono un semplice soldato ma ciò non significa perché a volte un semplice soldato può essere portatore o fiduciario dipende il ruolo che ha vestito in sé a Cosa Nostra o di validità o di chiamamole diciamo delle valenze insieme a Cosa Nostra che noi capiamo cosa significa di commettere atti criminali anche i più afferrati e allora sono medaglie medaglie nel senso che un ragazzo viene messo una persona viene valorizzata viene valorizzata e a volte custodisce la stima e anche dei segreti delle cose e lei è appunto uno di questi che conosceva delle non posso conoscere tutto di tutti e non c'è nessuno che sappia tutto di tutti o quando sono al vertice chi è capomandamento o chi fa parte della commissione volta per volta dei normali fatti di comune amministrazione che rivardano varie famiglie a volte se vuole può chiedere e può avere delle risposte parlando di normali fatti delle varie famiglie quando invece si parla di deliberare omicidi di una scelta eclatanza e ora si è all'obbligo di riunire la commissione per tutti questi fattori anzi a premettere volevo dire questo che dal 77 c'è stato un cambiamento perché Saro Riccobono con il suo gruppo adesso non vi so dire specificatamente con chi ha eliminato ha strangolato per meglio dire Angelo Graziano che in quel periodo era sotto capo della famiglia del borgo poiché in quel periodo non c'era ancora in seno alla commissione l'ordine che prima che un rappresentante o un capomandamento eliminasse un membro della sua pertenenza informasse alla commissione dopo quel fatto si è rinnovato si è rinserito in seno alla commissione questo nuovo elemento che chiunque rappresentante o capomandamento avrebbe motivo di eliminare un membro della sua famiglia o del suo mandamento doveva prima informare la commissione e spiegare i motivi il quale avevano scaturito a parer suo questa eliminazione questo motivo di eliminarlo quali potrebbero essere i motivi per eliminare vediamolo se completi questo concetto poi ho finito poi è cambiato questo discorso che prima di fare un uomo d'onore di eliminare un uomo d'onore doveva informarsi non la commissione e i motivi quali potevano essere per eliminare i motivi noi siamo un antistato proprio la prude e semplice parola antistato quindi siamo un'organizzazione con le nostre regole tutte particolari e quando dico antistato le regole che concessano le istituzioni dello Stato questa espressione antistato è di che esiste nel linguaggio ma in questo caso è coniazione sua o lei lo ha sentito in seno all'organizzazione no questo è frutto di averlo sentito era l'organizzazione che parlava di antistato è frutto dell'averlo sentito è frutto delle mie esperienze di aver vissuto a lungo in seno cosa nostra la domanda non era qui dunque i motivi che potevano portare all'eliminazione di un uomo d'onore o di altra persona in che cosa specialmente si incentravano perché si arrivava alla determinazione se era diventato molto arrogante cioè che non rispettava le regole della sua famiglia o del suo capo o se ci erano fatti gravissimi di tendere a evadere diciamo appunto essere antistato avvicinarsi alle leggi dello stato essere un quasi diciamo sbirro o che so io importunare essere una persona di facili costume di non avere una vita regolare e sono numerevoli cose che a volte noi siamo critici nel senso di valutare gli altri nel comportamento anche nella loro condotta di vita special modo quando queste cose vengono aggravate quando non si è subordinati alle regole di cosa nostra che consistono appunto in questo di essere osservanti o seguiose alle regole di cosa nostra ciò che il suo rappresentante il suo capodecino gli impone o gli dice di fare va bene ma questo dico siccome abbiamo parlato di motivi che possono condurre alla eliminazione cioè alla soppressione e anche in questo antistato e in questo esercizio critico che voi facevate dei comportamenti degli altri una misura ci doveva pur essere cioè passare subito così a deliberare l'eliminazione perché uno poteva avere una irregolarità di vita o perché aveva fatto uno garbo ho detto oltre all'irregolarità di vita non era osseguioso alle leggi appunto e quindi l'infrazione di qualsiasi legge chiamiamola così per ora per comodità di linguaggio della vostra organizzazione quella che è stata la sua organizzazione conduceva all'eliminazione del soggetto o una punizione anche di carattere diverso per esempio una buona dose di legnate lascia stare queste cose legnate in seno a membri di Cosa Nostra non esistono io lo posso raccontare un piccolo aneddoto credo nel 77 adesso non posso essere preciso io abitavo in un villino fittato a Ciaculli questo villino quindi siamo nel territorio di Michele Greco io all'insaputa di Michele Greco avevo fatto una cortesia di fare conservare delle sigarette di contrabbando in uno scantinato del villino perché c'erano stati dei ragazzi che erano in difficoltà perché avevano lavorato sbarcato chiamiamo così queste sigarette erano in difficoltà per trovare un posto dove occultarle io mi sono messo a disposizione perché mi sono sembrati talmente poveracci in difficoltà io non ho informato come era mio dovere sia il mio rappresentante e sia Michele Greco io ho detto l'indomani però queste sigarette dovevano venire e le ritirare tutto ciò l'ho fatto all'insaputa di Michele Greco e di Stefano Bontà fatalità del destino vengono a ritirarsi queste sigarette ma si portano la finanza appresso il fatto è diventato pubblico Michele Greco ha chiamato Stefano Bontà e gli aveva detto di mettere fuori famiglia perché io in effetti avevo fatto una mancanza ecco quelle sono delle regole che bisogna osservare in quel caso specifico io avevo fatto una mancanza di non informare il mio rappresentante e tantomeno di informare di fare informare Michele Greco non sono stato messo fuori famiglia solo perché Stefano Bontà ha insistito dicendo che io ero una persona di cui lui era molto affezionato era molto intimo con Stefano Bontà e questa sua richiesta è stata esaurita quindi nell'ipotesi che non fosse stata accolta la perorazione del Bontà io sarei stato messo fuori famiglia cioè una punizione diciamo si sarebbe giattato di una cosa non tanto grave però un fattore un fattore certo di non servanza le regole che sicuramente dopo un po' avrei potuto rientrare a far parte di cosa quindi sarebbe stato una riabilitazione diciamo ma nell'ipotesi appunto delle infrazioni più gravi che possono portare che lei ha parlato di eliminazione lei eliminazione si riferiva alla soppressione dell'individuo e quali sono queste infrazioni così gravi da determinare alla soppressione dell'individuo queste infrazioni maturano volta per volta e variano da persona in persona tuttora la persona come è classificata insieme alla sua famiglia e che stima ha insieme alla sua famiglia il peso il peso insieme il peso parliamo non peso di grado per forza il peso effettivo il peso effettivo che lui ha che lui ha dato se io comincio ad essere una persona nei confronti di Stefano Bontate o di altri membri della mia famiglia cioè arrogante scostumato nel parlare nel linguaggio offensivo e tutte queste altre cose comincio a lamentarmi del più e del meno queste cose automaticamente a lungo andare apportano a una soppressione come è stato nel caso di Giovanni l'ha legata lei a noi è un episodio sì sì vabbè io parlo interessa ma lei chiede nella sua dichiarazione noi non ci occupiamo di questo e le mie ricordi riaffiorano delle motivazioni per cui lei mi ha chiesto perché può avvenire una soppressione di un uomo d'onore quindi io solo per questo sto rispondendo questo va bene il resto lei lo aveva già detto io volevo appunto cogliere questo rapporto tra il tipo di infrazione commesso e la punizione che si veniva ad infliggere o che si sarebbe potuta infliggere al trasgressore di queste regole e quindi in sostanza va bene in quel momento in cui si decide la soppressione significa che l'individuo è stato totalmente messo al bando significa che è stato abbandonato da tutti no è stata decretata la sua uccisione punto e basta quindi non ha trovato più possibilità di protezione in chi che sia ma le protezioni lui le può trovare in seno alla famiglia di cui appartiene se in seno la famiglia di cui appartiene se riunisse il consiglio della propria famiglia rappresentante consigliere capedecina e decretano che quelle sue responsabilità attribuite a quel singolo individuo sono talmente così eccessive gravi che lui non è un tipo inosservante alle regole di cosa nostra parliamo di regole di cosa nostra ecco signor Presidente si può solo leggere a volte solo dal di dentro però uno può cercare in qualche modo di far capire più possibile quello che è il movimento di cosa nostra perché è quello che vogliamo capire purtroppo è molto complicato è molto difficile che ci sono cose che a volte non si possono accettare a volte si possono anche capire e condividere io sto dicendo perché noi dobbiamo cercare di stabilire la verità perlomeno ci auguriamo di poter stabilire in modo più vicino possibile questo lo spetterà a voi questo ora allora lei ha parlato poc'anzi di queste famiglie del compito di taluni componenti del contributo che davano altri che pur non avendo un grado gerarchico tuttavia valevano come fatto personale e venivano apprezzati come contributo personale ai lavori all'attività dell'organizzazione o della famiglia e vediamo un poco per fare un passo più avanti alla struttura della commissione lei aveva fatto un riferimento all'anno 1978 e alla caduta diciamo di Gaetano Badalamenti come era prima e come era dopo io come le dicevo non ero un membro di commissione per quello che lei per quello che lei ha saputo meglio per quello che le costa direttamente essendo una persona molto ma molto intima di Stefano Bontade di cui era membro della commissione addirittura non solo era membro della commissione ma negli anni passati c'era un triumpiario così chiamato questo è stato fino questo io l'ho appreso dopo la mia celebrazione che come nel 75 c'era già il triumpirato nel 75 dopo la scarcerazione di Stefano Bontade del 114 credo credo forse fino al 75 forse fino al 75 76 fino al 75 qual era il compito di questo triumpirato perché allora c'era stata la cosiddetta la prima guerra di mafia alcune famiglie ancora erano sciolti come supervisori erano stati diciamo delegati Stefano Bontade dapprima Luciano Ligio e Gaetano Badalamenti poi il posto di Luciano Ligio l'ha preso Salvatore Reina questo triumpiario poi si è eliminato completamente perché dopo la scarcerazione di Stefano Bontade dai 114 il quale nel frattempo c'era stato il sequestro Cassina ci sono stati dei malumori e cose comunque successivamente questo triumpirato è stato eliminato io le posso dire di quello che ho preso direttamente e fedelmente da Stefano Bontade e anche da qualche intimo della famiglia di Stefano Bontade di cui eravamo dipendenza che può dire chi? quelli che facevano parte direttamente da Stefano Bontade che lei ha detto che ha saputo direttamente da Stefano Bontade e da qualche altro personaggio può dire di quest'altro personaggio che sia? Salvatore Federico Giovanni Battista Pullarà i membri che eravamo noi i più vicini alla famiglia ha preso dica che cosa ha preso la composizione della struttura della cosiddetta commissione non cupola e non tutte queste altre cose letterarie giornalistiche come si sono dette in quel periodo capomandamento era Stefano Bontade e Salvatore Reina Bernardo Brusca si alternava con con Tonio Salamone perché era Antonino Salamone Tonio Salamone il vero capomandamento si alternava con lui e Saro Riccobono e Saro Riccobono Pippo Calò Pippo Calò il capomandamento il capo commissione in quel periodo dopo il 75 era Gretano Battalamenti Michele Greco credo di averlo detto quindi allora di lei abbiamo Michele Greco Stefano Bontade e Pippo Calò Rosario Riccobono poi c'è stato un periodo che hanno messo a Salvatore Scaglione Rosario Di Maggio sarebbe il zio di Salvatore inserirlo Gaetano Battalamenti Gaetano Battalamenti che era il capo il capo sì capo della commissione che aveva pare diritto non è che era perché era il capo della commissione rappresentava lui un supervisore della commissione l'unus inter pares diciamo perché avevano avevano pare dignità e pare diritto adesso qualche nome mi sfugge un pochettino ma credo e mi dica un po' altri soggetti che non fossero per istituzione componenti della commissione potevano essere presenti alla commissione stessa Giuseppe Panno a quel periodo c'era che prima c'era Antonino Meneo di Bagheria il vecchio Antonino Meneo che è stato eliminato l'anno scorso anche lui il capo della commissione poi il suo posto è stato preso da Piglio Panno quindi è una parentesi di periodi di periodi e quindi noi ci soffermiamo al 78 questa parentesi nel 78 avviene un cambiamento dopo che avviene questo cambiamento nel 78 viene estromesso Gaetano Batalamenti per la fare Madonia fare Madonia però da premettere che mentre Gaetano Batalamente era ancora capo mandamento Michele Greco faceva anche le parti di un un supervisore di organizzare gli incontri di queste varie commissioni vari gruppi della commissione dopo l'estromissione di Gaetano Batalamente nel 78 gli avevano detto a Stefano Bontate di dimettersi anche lui perché volevano attribuirgli delle responsabilità quanto riguarda la morte di Cicino Madonia Stefano Bontate ha detto questo me l'ha detto personalmente a me che ha riferito che potevano fare la guerra ma lui non si sarebbe dimesso perché non aveva responsabilità in quel periodo mi ricordo perfettamente Stefano Bontate ha avuto una macchina Madarino Salvo macchina blindata e camminava con la macchina blindata ed eravamo in un periodo particolare di cui eravamo in allarme il periodo successivo all'anno successivo all'anno quindi il cambiamento in che cosa consistette consistette di qualche membro di cosa nostra di commissione ma non cambiamento totale si è alternato sostituito si è elevato Gaetano Batalamenti e al posto di Gaetano Batalamenti al posto di Gaetano Batalamenti è subvengiato Michele Greco con quella con quell'incarico di supervisore che lei ha detto poc'anzi ora le avevo fatto poco fa una domanda che lei non ha sentita però alle deliberazioni della commissione ai lavori della commissione alle riunioni della commissione si dava il caso che potesse essere presente anche qualche soggetto estraneo alla commissione stessa che mi risultano Gianni per eccezionanti motivi se volevano sentire qualche membro di cosa nostra anche se era un semplice soldato appunto perché volevano sapere qualcosa di una certa quella non è una partecipazione quella è veniva invitato per dire alcune cose e basta io sto dicendo se qualcun estraneo alla commissione potesse essere presente mentre la commissione faceva il suo lavoro prendeva le sue deliberazioni o essa si riuniva in segretezza in segretezza e i presenti erano sempre quelli che o qualcuno i componenti o qualcuno poteva essere assente qualcuno poteva essere assente qualcuno e in questo caso che cosa avveniva se era assente era un discorso che era omogeneo e che c'era la deliberazione della diciamo della maggiorità e se qualcuno per motivi personali o cose era assente e non si poteva aspettare il suo riengio o meno sia tranquillo che la maggioranza deliberava quello che doveva deliberare l'individuo assente si adeguava alla volontà stabilita in seno a cosa nostra in seno alla commissione si adeguava una volta che fosse stato informato di questa deliberazione certamente non è che avesse dato una preventiva adesione cioè fate voi quello che voi fate per me va bene lo si informava dopo se c'era il tempo si se non c'era il tempo si informava dopo non si informava dopo come avveniva la trasmissione del contenuto di questa deliberazione presa dalla commissione a coloro i quali dovevano eseguire materialmente la deliberazione stessa non ho afferrato bene la commissione faceva una deliberazione per esempio diceva bisogna punire tizio e bisogna che tizio la commissione si riuniva per una miriade di cose non è che era solo per fatti delittuosi riguardanti le deliberazioni io non sto dicendo io questo ma siccome noi ci occupiamo dei fatti delittuosi io vorrei sapere appunto come avveniva il contatto tra la commissione che prendeva le sue deliberazioni e coloro che poi dovevano mettere in esecuzione questa deliberazione si decideva un omicidio di una certa importanza naturalmente quell'omicidio si si stabiliva il luogo in cui si doveva fare e naturalmente il territorio dichiara il comandamento se ciò riguardava Stefano Bontade Stefano Bontade si assumeva la paternità di compiere questo coso o altrimenti col consenso anche degli altri potevano potevano effettuarlo anche altri normali soldati di Cosa Nostra chiamati singolarmente volta per volta e che non dovevano dare spiegazione a nessuno completamente se Stefano Bontade doveva fare eseguire un delitto di una certa gravità a me mi chiamava personalmente lui e io eseguivo il suo mandato che a sua volta era stato deliberato dall'intera commissione quindi il centro diciamo l'elemento di unione tra la commissione e l'individuo prescelto o che si doveva scegliere o gli individui per eseguire il carico se lo prendeva se lo prendeva il componente della commissione che era interessato in modo più particolare all'esecuzione di quella dipende l'importanza di quel delitto che si doveva commettere non era né che si verificasse che gli individui si prescegliessero prima per esempio era la stessa commissione che diceva per questo fatto daremo incarico a Tizio Caio e Filano la commissione per esempio dovevano ecco io lei mi porta a fare dei paragoni che non potrebbero neanche riguardare questo processo per esempio dovevano eliminare il capitano Tizio quando si deliberava in seno alla commissione l'eliminazione del capitano Tizio in seno alla commissione stessa valutata la località il luogo di cui apparteneva questa cosa e allora dicevano va bene la cosa è deliberata in seno alla commissione il capomandamento stabiliva me la sbrigo io me la sbrigo in compagnia fornitemi per esempio altri membri anche dei vari gruppi di varie famiglie di cui partecipare a quella cosa perché trattandosi di cose di una certa eclatanza partecipavano spesso e volentieri membri di quasi tutte le diverse appartenenze del gruppo di cosa nostra io di Stefano Bontate uno di un altro di un'altra famiglia di un altro mandamento uno di un altro dipende dall'eclatanza della cosa o altrimenti se il fatto il fatto il capomandamento e membro della commissione diceva me la sbrigo io poteva naturalmente sbrigarsela lui perché quando avviene la partecipazione di un altro membro del capomandamento è solo per acquisire medaglia o acquisire valore in seno la famiglia di cui appartiene tutto qui comunque non c'era importante portare a teme nel discorso non c'era un rapporto diretto tra gli esecutori della deliberazione che la commissione andava a prendere e tutta la commissione nella sua interezza no no non è che per esempio se avessero prescelto lei lei poteva essere chiamato non mi chiamava certamente davanti alla commissione per dire vediamo va bene questo mandato il rapporto poteva avvenire o con il suo capo decina o con un capomandamento o comunque va bene con persona che si fosse presa il carico tassativamente col mio capomandamento col capomandamento di quale come lei ha detto poc'anzi poteva anche però reclutare altri uomini d'onore però la commissione poteva anche deliberare a quali individui fare compiere quel delitto non dicendo niente al proprio rappresentante e mi spieghi meglio questo concetto ecco devo fare sempre per esempio se io non ero intimo di Stefano Bontate o se Stefano Bontate non era un capomandamento e si doveva compiere un omicidio nel territorio della famiglia di Stefano Bontate non era assolutamente necessario che Stefano Bontate di semplice rappresentante fosse informato che io o un altro membro di un'altra famiglia eravamo prescelti o chiamati da uno dei membri della commissione a compiere quel determinato omicidio solo il capomandamento poteva essere l'occorrenza ma non il rappresentante e a volte si poteva chiamare anche qualche soldato di una famiglia senza che il suo rappresentante ne sapesse lei per rappresentante intende il rappresentante della famiglia della famiglia il capofamiglia capofamiglia mentre il capomandamento doveva essere informato il capomandamento può essere rappresentante della famiglia e capomandamento perché raggruppa altre famiglie ma il capomandamento in ogni caso doveva essere informato passativamente doveva essere informato quando lei dice che la commissione poteva stabilire quali individui prescegliere lei per individui intende che la commissione aveva la possibilità di prescegliere individui di questa o di quell'altra famiglia ma senza nominativamente indicarli oppure la commissione poteva fare una scelta nominativa ci affidiamo l'incarico a Tizio col suo nome e cognome è una politica sul presidente e come la politica ci sono i prescelti lei ne ha parlato di politica e ci sono le persone ma mi rispondo a questa domanda la commissione quando lei diceva individui presceglieva individui lei intende dire che presceglieva individui dicendo provvederanno elementi della famiglia di oppure la commissione presceglieva nominativamente le persone poteva dire per esempio scegliamo Francesco Marino Mannoia per fare questo delitto molto più semplice potevano dire benissimo Stefano Bontate è il tuo territorio te la sbrighi tu va bene me la sbrigo io di questo fattore allora poteva intervenire anche un altro membro della commissione a dire portate pure a Tizio per valorizzare quel membro della sua famiglia quindi indicandolo nominativamente nominativamente la commissione funzionò in questo modo lei fu tratto in arresto il 2 dicembre dell'80 ed ininterrottamente rimase in carcere sino al 12 maggio 83 sino alla data del suo arresto del suo primo arresto la commissione funzionò in questo modo sì con la con la partecipazione di Salvatore Inserillo perché aveva preso il posto di suo zio Rosario Di Maggio Rosario Di Maggio quindi l'unica variazione sì Giuseppe Greco Scarpazzedda non è afferminato ecco dice il consigliere altere il Giuseppe Greco quello Scarpazzedda Scarpazzedda già nell'80 faceva parte della commissione nell'80 faceva parte della commissione aveva preso il posto di qualcuno no si alternava con Michele Greco si alternava con Michele Greco ha partecipato pure alle nostre voti e elezioni vota nell'80 mi pare sono state le elezioni di cui lei parla nelle sue dichiarazioni e lei di questo Giuseppe Greco Scarpazzedda ha parlato a lungo perché a quanto pare è stato eliminato lei ha detto così certamente che è stato eliminato lei ne ha parlato in termini di certezza al 100% al 100% quindi conferma i particolari anche che ha dato in ordine a questo episodio al 100% sì del resto poi faremo qualche altra domanda poi lei è stato in questo periodo è stato un periodo in carcere quello di cui parlavamo poc'anzi è stato eliminato nell'autunno inoltrato dell'85 sì questo lei lo ha anche detto bene no parliamo di un altro argomento si è puntualizzato poc'anzi che lei dal 2 dicembre 80 al 12 maggio 83 è stato in carcere e allora le devo dire che una buona parte lei del resto lo sa benissimo perché ha letto gli atti del processo o ne avrà notizia che un numero cospicuo di fatti gravi dei quali noi ci occupiamo si riferisce proprio un arco di tempo che rientra in questo periodo che va dal 2 dicembre 80 al 12 maggio dell'83 nel mentre correva la sua detenzione lei le notizie che erano all'esterno del mondo esterno come le apprendeva perché lei era in carcere attraverso gli altri uomini d'onore di cui eravamo rinchiusi nell'Ucerdon cioè come non possono essere le notizie di scienza diretta è chiaro perché lei naturalmente ci sono parenti che vengono a colloquio ci sono i vari canali di informazione che venivano diciamo attraverso i canali di informazione che solitamente si creano nelle carceri ma non che sia un dovere sapere quello che accade fuori non sto dicendo questo siccome lei ne ha parlato e naturalmente lei ha detto sempre per averlo appreso da tizio per averlo appreso da Caio così come del resto durante il periodo della sua libertà lei ripetutamente ha detto lo ha preso da Stefano Bontate lo ha preso da Bullarà lo ha preso da Verlengo Pietro da altri io non ci posso fare niente se la maggior parte delle persone di cui ho parlato sono morte ma di altri di cui ho parlato sono vivi e ne ho menzionato io qualcuno anche ora non è colpa mia va bene che è viva va bene vegeta ma dico poiché lei ha fatto uno riferimento a notizie avute appunto da terzi ecco ora volevamo sapere meglio di queste notizie che lei ha assunto mentre era in stato di detenzione quindi nonno di scienza diretta lei dice attraverso i soliti canali di informazione che si creano stando nelle carceri parlando con detenuti con compagni di detenzione o attraverso i colloqui che si fanno con persone che vengono dall'esterno no io non ne facevo colloqui con persone perché non avevo nessun membro ad eccezione di quando è stato combinato mio fratello solo con mio fratello solo con con familiari con familiari con familiari con i colloqui così come il regolamento carcerario prescrive che si facciano attraverso componenti anche familiari cioè attraverso suo fratello anche lei apprendeva noi parliamo di un'epoca quale successiva quindi lei stava parlando dall'80 all'83 e in quel periodo dall'80 all'83 tutte le notizie le ha avute in questo modo non da mio fratello non esisteva neppure non da suo fratello e questo è chiaro lo sta dicendo quando lei poi fu latitante sino all'arresto lei tornò a una vita diciamo libera libera con i movimenti che poteva comportare il suo stato di latitanza in quell'occasione lei ebbe contatti diretti con componenti dell'organizzazione sono stato un membro rinserito nella Cosa Nostra di cui reggente professoramente era Ignazio Pullarà ecco quindi era vicino va bene all'Ignazio Pullarà sì e del resto le sue dichiarazioni parlano abbondantemente di tutta l'attività che lei ha fatto anche in quel periodo anche in quel periodo ritornando poi nello stato di detenzione 21 gennaio mi pare dell'85 lei poi ha ripreso i contatti col mondo esterno attraverso quelle informazioni quei canali di informazione di cui parlava poc'anzi nel frattempo era nella primavera inoltrata quasi all'approssimazione dell'estate è stato combinato mio fratello nella famiglia di Ciacull di cui già era un ragazzo che era alla dipendenza di Giuseppe Greco Scarpuzetta di cui già prima di essere combinato aveva commesso degli afferrati delitti suo fratello Ciccarla e li aveva commessi per mettersi all'attenzione per farsi apprezzare come elemento e seguiva gli ordini che gli venivano dati prima ancora questo di essere accolto in seno alla famiglia in seno all'organizzazione che età aveva suo fratello quando cominciò questa sua carriera questa sua attività io sono evasso dal maggio dell'83 e già lui era vicino a Giuseppe Lucchese e a Pino Greco e a Pino Greco Scarpuzza e fra il suo fratello ho sentito qualcuno che ha detto quando è nato si il suo fratello ce lo ricordi credo il 66 comunque ha fatto 23 anni ad agosto passato 23 anni nell'agosto va bene passato quindi era un ragazzo proprio si ragazzo e dico aveva manifestato questa disponibilità era stato indotto era stato purtroppo si non aveva manifestato dico purtroppo aveva manifestato aveva avuto modo anche di parlarne con lei di che cosa di questo ispirazioni di queste si cioè lei gli serviva da modello no io per mio rammare per mio rimpianto io l'ho lasciato bambino un ragazzo quando sono evaso dal cassa dipandamentale l'ho trovato molto cresciuto molto cambiato e mentre io ero l'attetante in una casa di Villa Grazia mi è venuto a trovare Giuseppe Lucchese dicendomi che avevano vicino a mio fratello vicino se già si intende prossimo essere combinato e di cui si servivano di mio fratello per per alcune cose e mi aveva chiesto se io ero poco penso a mantenerlo a farlo stare vicino a lui o avevo delle preferenze per tenerlo vicino nella famiglia di cui appartenevo io io ho detto senti io l'ho lasciato che ero un bambino te lo sei cresciuto tu non posso non posso certo dirti di no perché in queste cose bisogna avere un po' di scaltrezza e cose quindi già mio fratello aveva cominciato a a correre così diciamo nel gergo nostro quindi per me è stata una brutta sorpresa trovarlo molto cresciuto più dell'età che avevo e in questa azione lei dice che aveva avuto un ruolo preponderante lei ha detto Lucchese Giuseppe sì e poi ha detto anche Scarpuzzedda sì e lui era le dipendenze dirette va bene di Scarpuzzedda sì va bene lei riferendosi poc'anzi a questo personaggio Scarpuzzedda ha ribadito che Scarpuzzedda è stato eliminato ha detto al 100% sì sì ha detto al 100% io però ho colto nelle dichiarazioni tutti coloro che abbiamo letto le dichiarazioni che lei ha fatto abbiamo colto altri fatti che avrebbero diciamo un identico sarebbero due errori sarusso russo e un altro no no ma non mi riferisco tanto va bene a questo che mi riferivo al fatto in lecce che lei nel discorso che ha avviato con il giudice istruttore e poi col procuratore della Repubblica oltre che a Greco Scarpuzzedda come personaggio eliminato Greco Scarpuzzedda è un nostro imputato quindi la Corte ha tutto l'interesse di apprendere del fatto che lei ha detto appunto di essere stato che non sarebbe più in vita ma accanto al nome di Greco Scarpuzzedda ho visto che c'è una filza di altri personaggi che secondo quello che lei ha detto sarebbero stati pure eliminati o quantomeno delle quali non ci sono i personaggi dei quali non ci sono notizie da tempo sino al punto da far ritenere che possono non essere più in vita lei in particolare si è riferito a Marchese Filippo anzi c'è una pagina lei ne ha fatto riferimento in più pagine però lei in una pagina ha detto certamente autunno 82 autunno autunno non ci sono 82 lei come ha notizia eravamo alla nona sezione e io l'ho appreso da se non prendo errore da Giuseppe Zanca e da Peppuccio Spataro Francesco Peppuccio comunque il figlio di Epino Spataro comunque membri della sua famiglia che l'eliminazione di Marchese Filippo è certa sì e per quanto riguarda Riccobono Rosario lei pure fa un cenno mi pare nella dichiarazione ho appreso che è scomparso come l'ha appreso? ma io non ho parlato approfondito di Rosario no e infatti è così ma può dire qualche cosa di più concreto? no di concreto no era notorio in seno a Cosa Nostra che era scomparso un fatto così che si diceva si diceva e alcuni altri della sua famiglia tra cui Salvatore Michalizzi si diceva che si è salvato Enzo Sutera e il genero Michele e Michalizzi che si sarebbero salvati questi si sarebbero salvati Michele perché è fuggito Enzo Sutera invece l'hanno l'hanno cioè così assolto mentre Saro Riccobono sarebbe stato eliminato la causa di questa diciamo scomparsa o eliminazione Senato Presidente a spiegarlo è un po' difficile però lei lo può spiegare ce lo spieghi in poche parole dopo questa guerra che è successa dall'eliminazione di Stefano Bontade stanno levando le persone tutte quelle invise a una vecchia generazione punto e basta persone che non sono più affidabili al gruppo emergente alla nuova ricomposizione delle varie famiglie questo è tutto quello che le posso dire siccome quantomeno per un certo periodo di questo gruppo emergente lei ha fatto parte perché per un certo momento almeno sino a quando lei non ha manifestato questa intenzione di parlare ai giudici lei ha fatto parte del gruppo ma non tutti possiamo sapere tutto di tutti quindi anche in seno ai soggetti del gruppo emergente non tutti erano informati di tutto ciò che avveniva nell'organizzazione non esiste che tutti sappiano di tutto e per quanto lei abbia dato le notizie che ha dato alcune di esse non appaiono complete come contenuti lei in che posizione allora si trovava lei era un fedelissimo di Stefano Bontate poi dopo l'uccisione di Stefano Bontate ha fatto le sue scelte giusto o sbagliate che se siano state erano scelte fatte da lei e lei si è schierato con i gruppi che qualche volta vengono denominati vincenti altre volte emergenti non mi sono schierato con nessuno lei c'è un punto in cui fa un confronto con altri personaggi e dice io ho ottenuto una certa tattica ecco così lei dice io ho cercato di condurlo però ufficialmente lei stava dalla parte dei vincenti ma qua vincenti non c'è nessuno perché sono tutti sono tutti illusi e rovinati sia di famiglia sia di caccia sono proposizioni non precise ma comunque il linguaggio adoperato è questo gruppo vincenti non hanno vinto nessuna guerra qualcuno parla di scappati altra parla di gruppi emergenti va bene ecco lei che per un certo tempo quanto meno anche in quella posizione di attesa di stallo di verificare un po' di guardare ha fatto comunque stato vicino a questo gruppo che non era certo quello dei perdenti va bene ecco lei qualche cosa di più di quello che ha detto la potrebbe sapere lei dice non la so perché non tutti sapevamo di tutto lei mi chiede volta per volta ecco le ho chiesto siamo partiti da Riccobono Rosario e io le ho detto che il mio discorso e le mie risposte è limitata quella che ho preso in seno all'ambiente di cosa nostra delle persone della nostra famiglia e con altri di cui di vedere amicizia altro non posso dire e altro non può dire per scaglione salvatore sì che se scusi la domanda è in relazione alla risposta data ora farla domani o dopo domani sarebbe una stonatura e per inserirla organicamente posso farla ma mi dica la domanda è questa poco fa il signor Mannoi ha detto Marino Mannoia il doppio cognome mi pare che sia sì va bene l'avvocato Fileccia lo sa lo sa l'avvocato Fileccia bisogna ripeterlo tutto il signor Francesco Mannoia ha detto questo può dire anche Mozzarella lo stesso no io questo non lo dico non lo ha detto ma però non dobbiamo scantonare restiamo rispettoso di tutto né polemizzare ecco allora Presidente l'imputato Marino Francesco Mannoia poco fa ha detto che di scaglione di che cosa parlava avvocato mi ha fatto distrazione sarò Riccobono avvocato Fileccia parlavamo di Rosario Riccobono nel momento in cui lei ha chiesto la parola e prima di Marchese Filippo no era un Presidente va bene lei è sfuggito ci ritorneremo ha diritto lei di parlare quindi avvocato mi dica mi inserisco signor Presidente anche perché avrò delle difficoltà logistiche di presenza se consente una domanda in relazione alle circostanze finora addotte e cioè il signor Francesco Marino Mannoia ha riferito che loro rappresentavano l'antistato come formazione malavitosa e che essendo l'antistato avevano regole opposte e diverso ovviamente dallo Stato chiedo di sapere com'è conciliabile con questa affermazione con l'appoggio ai partiti di potere e di governo che secondo sue stesse dichiarazioni oltre che per il notorio che noi sappiamo era stato da loro abbondantemente allargito avvocato mi sembra mi sembra una risposta un po' che lei si aspetta una risposta va bene io comprendo benissimo lo spirito della sua domanda ma restiamo nell'ambito del processo ma ha detto antistato in un modo che tutti abbiamo percepito cioè come un'organizzazione contrapposta alle regole civili dello Stato quindi comunque occorrendo ritorneremo semmai per chiarire questo punto ma lo posso dire adesso non intendo parlare di questo argomento non intende parlare cioè di politica in sostanza va bene e allora la risposta è venuta spontaneamente scaglione salvatore parlavamo stavamo parlando di scaglione salvatore cioè di quello che appunto sarebbe non abbiamo più notizie di questo scaglione lei ne ha parlato una pagina del suo interrogatorio ci può dire ci può dire qualche cosa posso dire solo che nel periodo quando salvatore inserillo ha fatto parte anche della commissione anche lui è entrato a fare parte della commissione si è detto l'uvaro o pugilista o quello che esatto proprio rossi lei dice che è stato ucciso intorno al 1982 si in quel periodo della notizie dettagliate non ve le so dire però ha detto qualche cosa che alla corte potrebbe anche interessare cioè lei ha detto che sarebbe stato ucciso dallo stesso gruppo che ha ucciso Stefano Bontate in sedillo salvatore perché stiamo parlando presidente di scaglione salvatore naturalmente si ma quando lei ha detto è stato ucciso dallo stesso gruppo che ha ucciso Stefano Bontate inserillo salvatore e tanti altri poi si legge quando lei ha detto dallo stesso gruppo che cosa intendeva dire perché per noi noi era era scontato in seno alle persone della nostra famiglia e all'ambiente di cosa nostra che quelle persone che avevano avuto il sopravvento nei confronti di Stefano Bontate e di Salvatore inserillo appunto eliminavano avevano un piano una strategia una scacchiera a eliminare tutte quelle persone che erano invise e che scaglione Salvatore era uno di questi per un periodo se ne sono servite perché ha fatto parte era capovandamento della noce poi successivamente l'hanno eliminato tutto qui io non so dare particolare senza soltanto in quel piano di eliminazione di persone che sembra strano che per regioni varie erano diventate invise ancora ce ne saranno ce ne sono state tantissime e molti ce ne saranno solo perché le vecchie ruggine si devono andare levando e c'era una ruggine con Scaglione Salvatore ecco non è che Salvatore Scaglione era ben visto ma lo stesso è per stare un ricco buono a chi era diventato capovandamento a chi era diventato e che poi doveva toccare degli interessi dei contrasti dei rancori gravi perché si tratta di eliminazione non era una persona più affidabile affidabile perché c'era un avvicinamento ad altri gruppi perché era una persona che era stata sempre molto amica di Salvatore Inserillo e altri quindi col tempo non era più affidabile io so solo mi posso limitare a questo quando una cosa non la so non posso andare oltre io la domanda gliel'ho fatta non a caso siccome lei ha adoperato l'espressione era comunemente detto fra la nostra famiglia e il nostro ambiente che era stato eliminato Salvatore Scaglione dal gruppo Mocchino che avevano avuto il sopravvento su Stefano Bontate e Salvatore Inserillo tutto qui lo stesso gruppo che aveva eliminato Stefano Bontate e Salvatore Inserillo in effetti devo dire che lei sulla eliminazione di Stefano Bontate e di Inserillo e Salvatore non è che dia grandi va bene notizie va bene lo dico per metterlo in rapporto a questa proposizione di quel gruppo che ha ucciso Stefano Bontate e Inserillo Salvatore perché se Filippo ne abbiamo parlato Anselmo Vincenzo Anselmo Vincenzo sarebbe stato soppredice al condizionale sarebbe stato soppresso lei mi chiede di Anselmo Vincenzo ci sono solo due parole quella di cui io dico che ho preso ecco io sto dicendo se può dire qualche cosa di più oppure se rimane fermo quelle due parole che ci sono detto Bonanno Armando Bonanno Armando l'ho saputo da Vincenzo Puccio durante la celebrazione del processo d'appello del Capitano Basile che Bonanno Armando era scomparso poiché si parlava del processo che era andato male perché eravamo rinchiusi nella stessa stanza io e Puccio durante la celebrazione dell'appello del processo Basile e dell'appello del Capitano Basile processo d'appello dopo la condanna ho detto poveraccio a meno Armando è fuori e allora Puccio si è scusato e lei questo lo ha detto mi dispiace non te l'ho detto prima perché che vuoi per motivi di processi e cose che era tutto preso da questa situazione dice ma Armando già un bel po' che è scomparso questo è quello che lei può dire alla corte dicendo scomparso intendeva dire morto che era è stato eliminato 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 e inserillo santo santo inserillo è stato eliminato insieme a Calogero di Maggio insieme a Calogero di Maggio questo è un commento che ha avuto anche dentro il carcere insieme a Salvatore Montalto di cui si parlava che erano stati membri della sua stessa famiglia e di cui si parlava anche del particolare che santo santo inserillo Santino inserillo così io lo chiamavo noi lo chiamavamo ha arduito diciamo lo zio che si era messo un pochettino poveraccio perché sono momenti un pochettino a piangere a lamentarsi di questa che lo stavano per strangolare e Santino inserillo l'ha anche sguidato dicendogli di comportarsi bene punto queste sono le notizie che lei aveva dato e che conferma che conferma senta passiamo per un attimo a un'altra domanda che connessa un po' a proposizioni che hanno preceduto questo discorso sulle persone scompassate e lo stesso vale per Franco Mafero e Nino Grado per? per Franco Mafero e Nino Grado in quel contesto con questo ritorneremo su questi personaggi che sono diciamo vittime di episodi appunto e che per i cui noi abbiamo il processo va bene in corso ci ritorneremo facendo delle domande ordinate per i vari episodi dei quali lei ha parlato e di cui la Corte si occupa volevo dirle questo poc'anzi parlando della famiglie della commissione dei compiti della commissione dei ruoli dei persone dei soggetti a cui le deliberazioni della commissione venivano fatte conoscere attraverso i rappresentanti che si pigliavano l'onere di reclutare i soggetti per compiere le azioni delittuose deliberate ecco ho dimenticato di chiederle ma per compiere queste azioni quando bisognava ricorrere al fatto finale all'omicidio all'uccisione bisognava fare ricorso quindi alle armi come avveniva l'armamento di queste persone erano dotate esse di armi improprio c'era una comunanza di interessi che li spingeva a tenere le armi insieme affidate a qualcuno un depositario un luogo dove si andava ad attingere oppure ognuno era dotato andiamo un po' fuori lei mi risponda non occorre che faccia commenti risponda se è così o se non è così non sono commenti e allora risponda la domanda un po' fuori diciamo le regole che ci sono le varie famiglie quindi ogni famiglia autonoma per la propria situazione di armi non è che c'era allora quando un fatto viene fatto unitario uno o due famiglie allora si possono diciamo affluire più armi di ambe le due le famiglie ma ogni famiglia che deve compiere un determinato delitto dispone delle sue armamente e delle sue cose e questi armamenti di cui la famiglia dispone sono armamenti in dotazione ai singoli uomini d'onore ai singoli soggetti oppure c'è un deposito comune la famiglia dispone ci sono uomini d'onore che hanno armi personali per loro e che le possono usare volta per volta ci sono altre che nella stessa famiglia hanno un posto comune dove hanno sufficienza di armi che custodiscono in un determinato posto questo avveniva comunemente sì a te io capisco dove vuole arrivare lei questo parliamo lei deve rispondere alla domanda se il soggetto era egli disponeva di armi improprio e le utilizzava o se attingeva un deposito comune se io dovevo commettere un delitto io avevo armi mie personali o attingevo in seno alla nostra famiglia ci diceva che se farò bontà per esempio posso prendere un paio di anni quelle che avevamo custoditi non della nostra famiglia quindi un posto dove si custodissero delle armi non è detto che ci dovesse essere sempre ma in alcune famiglie c'era no in tutte le famiglie in tutte le famiglie hanno il loro arsenale ad eccezione che singole uomini d'onore della stessa famiglia hanno armi personali va bene questo è il tipo di dire quindi si poteva ricorrere all'arma dotata in proprio in quanto uno proprietario dell'arma o all'arma che si andava l'arsenale della famiglia che si andava a prendere in quello che lei chiama arsenale della famiglia ma non comunitario cioè famiglia non un deposito che interessasse tutta l'organizzazione se poi aveva un'arma particolare e dovevamo commettere un afferrato delitto insieme ad altri membri della nostra famiglia si serviva anche guardasse che ci servivamo assieme e per esempio nella sua famiglia dal momento che lei faceva parte di una famiglia c'era questo deposito e chi era il depositario di queste armi colui per un periodo anche Giovanni Battista Pullarà per un periodo durante la mia detanza Girolamo Mondino detto l'avvocato Nino Bontade e dipende i posti dove si potevano occultare ma dove dice Nino Bontade intende Nino Bontà Bontà quindi il fatto del deposito poteva passare da un soggetto all'altro in questi depositi si custodivano armi di tutti i tipi limitate a quelle che potevano essere diciamo l'affluenza o diciamo l'acquisto di armi la provenienza per esempio chi provvedeva a questi incombenti acquistare prendere in carico va bene come era come avveniva a volte queste armi potevano scaturire anche dalla delinquenza comune che avevano fatto un'armeria vendevano queste armi magari a uno e temuto un altro venivano a ferire a me le mettevamo nella cassa comune della cosa nostra ma c'era qualcuno che doveva pagare naturalmente pagava la cassa comune in ogni famiglia c'è la cassa quindi non ci sono problemi non c'erano problemi senza contabilità senza regole di contabilità come senza regole no no dico c'è una cassa è una cosa semplice spedita si comprava e si caricava va bene se questa introduzione capitava a me io mi ripoggevo a Stefano Bontano ci sono un quantitativo di armi nella sua famiglia si disponeva di armi dicevo poc'anzi di vario tipo per esempio la pistola la rivoltella il fucile si poteva andare anche ad armi di maggiore si aveva avevamo i Thompson avevamo i Sten avevamo diverse armi anche il Kalashnikov no quello no quello no lei sa nella disponibilità di chi erano per esempio i Kalashnikov nella famiglia palemetana quella dei Ciaculli quella di Resuttana insieme a Pippo Gambino disponevano di Kalashnikov per famiglia di Ciaculli lei che cosa intende? la famiglia di Ciaculli i componenti in quel periodo Pino Grevo Scappursetta con gli altri componenti della famiglia e di Resuttana? di Resuttana Nino Madonia Ciccio Madonia questi disponevano di Kalashnikov di altre famiglie che disponevano io non l'ho vista per sentito dire ah non l'ha visto queste no io non l'ho vista queste armi questi fucili questi insomma mitragliatori che siano va bene quello che siano va bene solo per sentito dire va bene sì e vediamo sei attivente un attimo lo dica immediatamente avvocato Fileccia Presidente ci sono state delle affermazioni dell'imputato che sono state lasciate cadere una di queste è questa ad un certo punto lui ha detto nel mio interrogatorio vi sono due errori e io desidero sapere come l'ha saputo che vi sono due errori per cosa? non è che veramente lui ha detto così vi sono due errori sì ha detto essendo stato richiamato il nominativo di ha creduto come l'ha saputo che c'erano due errori è sempre della maniera lei lei non deve assolutamente lei deve semplicemente rispondere se io la interrogo ora lei ha sentito la domanda vediamo un po' che problemi ci sono forse era basso ora si sente no veramente mi pare che ancora non ci siamo pronto ora si mi pare che va bene ma comunque volevo dire questo il fatto forse l'avvocato Fileccia non sa che l'imputato è stato interrogato su questo argomento e gli è stato contestato giusta verbale che qui produciamo cioè è uno dei verbali che noi non abbiamo allora esatto del 19 dicembre scorso e se non è prodotto come lo so io allora io lo dicevo allora avevo ragione bravissima lo sto informando ora e quindi la domanda era corretta era giusta però in relazione a quelle che erano le sue conoscenze e allora direi che è molto più semplice ma va bene lo leggiamo un po' ma che vuoi lo leggiamo una volta cosa ci vuole un'indagine preliminare fatta un'istruzione di giudizio abbreviato esatto avvocato fileccia come si lo capisco ma io lo mettiamo a disposizione vuole va bene vuole insistere o preferisce preferisce prendere visione non mi scusi presidente io ho fatto una domanda l'imputato non ha risposta io desidero la risposta dell'imputato poi prendo visione del verbale di interrogatorio prodotto stamattina dal procuratore generale e allora ne devo prendere avvocato fileccia ne devo prendere visione io ne devo prendere no lo leggiamo dopo non perdiamo tempo è stato prodotto dal procuratore generale per favore per favore vediamo che cosa diceva il procuratore la risposta dell'abvocato fileccia è data in quel verbale in cui il giudice il pubblico il procuratore adagio per favore silenzio e non è non consento assolutamente di questo va bene ma ordinatamente uno per uno il procuratore della repubblica ha posto a questa domanda all'abvocato fileccia ha posto a marino mannola a questa domanda all'abvocato fileccia e ha risposto in quel verbale ecco l'enigma risolta e allora o diamo lettura immediata dell'interrogatorio signor presidente no il deposito il verbale è stato prodotto e regolarmente acquisito agli atti mi scusi presidente vuol dire quello che stava per dire poc'anzi quando io le ho fatto quella domanda su Greco Scarpuzzi ecco che cosa aveva dimenticato non mi ricordo di che cosa stavamo parlando e lei aveva parlato di russo rosario aveva detto ho commesso una inesattezza ho dimenticato quello che stavo per dire presidente che significa che ha dimenticato ho scordato quello che stavo lei stava parlando glielo dico io di russo rosario lei disse qualche cosa e io le ho detto questo particolare alla corte in questo momento non interessa perché la finalità della domanda era un'altra e appenne quello che l'avvocato fileccia ha definito è caduta la risposta non mi ricordo più adesso va bene non ricorda va bene questo ma sì per favore per favore per favore signori un poco di calma non c'è ragione che motivo c'è abbiamo iniziato bene abbiamo iniziato con calma le cose sono andate nel verso giusto che motivo c'è per una cosa da nulla va bene il creare questo baccano non lo vedo avvocato inserillo cosa voleva dire se ci sono delle domande le facciamo dopo 33 giusto 33 e allora attiviamo il 33 il tecnico che ci sta a fare nella sala chiedo scusa io credo di avere chiesto prima ancora che si acquisisse agli atti quel documento la parola per oppormi alla produzione io credo che la questione sia ancora viva che il pubblico ministero abbia appena chiesto di produrlo che non può produrlo così senza che vi sia un provvedimento della corte che il provvedimento della corte deve avvenire dopo che sia stato rispettato il contraddittore delle parti che io chiedo la parola per oppormi alla produzione del documento ed esporne i motivi e che quando la vostra signoria decide mi darà la parola no e gli ho dato la parola ha manifestato intanto vorrei sapere da dove viene quel documento l'hanno detto i procuratori generali dal procuratore della Repubblica un verbale interrogatorio del 19 dicembre 1989 preso da persona sottoposta ad indagini preliminari preliminari cioè a dire si tratta di un documento che nella sua sede naturale che è il processo quello nuovo non può trovare alcuna utilizzazione cioè uno di quei documenti che secondo il nuovo codice non può essere acquisito a meno che non sia stato assunto nel contraddittore delle parti va beh comunque no 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 mi consenta Presidente quell'atto è stato arresto dal Marino Mannoia come imputato o come testimone come persona sottoposta ad indagini quindi non era neanche imputato questo è il nuovo codice le norme del codice di procedura penale attualmente e che noi seguiamo attualmente non mi pare che consentano l'acquisizione agli atti di un documento come quello che il procuratore della Repubblica intende produrre per cui io mi oppongo alla produzione del documento perché di esso ne è proibita l'acquisizione ne è proibita la lettura ai sensi dell'articolo 464 del codice di procedura penale va bene avvocato Clemente rapidamente per favore 34 io vorrei ritornare sull'argomento un attimo di Pino Greco Presidente il signor Mannoio ha dichiarato che Pino Greco faceva parte della commissione già dal 1980 Giuseppe Greco Scarpazzetta Giuseppe Greco in questo processo è stato condannato all'arcastolo per l'omicidio Basile noi non ci occupiamo più dell'omicidio Basile avvocato che importanza c'è Presidente anche di quella domanda di poco fa ci occupiamo non ce ne occupiamo dico se attiene all'omicidio Basile non ce ne occupiamo questo intendo dire attiene comunque al controllo dell'attendibilità delle soggetti e allora dicevamo il Greco Giuseppe secondo la dichiarazione del signor Mannoia avrebbe fatto parte della commissione già nel 1980 ripeto che per questo fatto il Greco Giuseppe Scarpazzetta è stato condannato all'arcastolo per l'omicidio Basile desidero sapere se il Greco Giuseppe partecipò all'omicidio in questione o come concorrente morale cioè in commissione avvocato Clemente ho risposto che dell'omicidio Basile la corte non si occupa quindi io non posso fare la domanda che lei dice di dover porre all'imputato lei lo farà nel processo basile la mia domanda fa riferimento alla componenza della commissione al 1980 e allora lei può limitare a questo dell'omicidio Basile come degli altri omicidi che non sono oggetto di procedimento avanti alla corte e noi non ci occupiamo ma ci occupiamo della commissione ci occupiamo della commissione ma non in relazione va bene all'omicidio Basile quindi va bene se lei la sua domanda è finalizzata stabilire tenga presente va bene che la corte non si occupa dell'omicidio Basile abbiamo sfalciato il procedimento ma si occupa della commissione e allora faccia la domanda in relazione la domanda che pongo è questa da chi ha saputo e come ha saputo la partecipazione all'omicidio in questione di Pino Greco l'omicidio in questione qual è? omicidio Basile avvocato non la pongo la domanda ho detto chiaramente che dell'omicidio Basile la corte non si occupa va bene allora un'altra domanda ecco faccia un'altra domanda l'imputato poco fa ha parlato delle regole generali che sovrastano sovraintendono praticamente a cosa nostra ha fatto riferimento alla rituale presentazione tra uomini d'onore e uomini d'onore cioè quando si verifica questa presentazione è sicuro che quella persona che viene presentata è uomo d'onore è sicuro di questo o ci sono delle eccezioni ha risposto e ha detto che è così vuole precisare questo particolare se ci sono delle eccezioni a quella risposta che lei ha dato poc'anzi circa la presentazione del nuovo uomo d'onore quando la persona non è sconosciuta un illustre sconosciuto in seno a cosa nostra ha bisogno che ci siano due persone già che si conoscono fra di loro per essere presentate va bene va bene allora io vorrei che avvocato Clemente fa finire la domanda ha finito no devo terminare e allora la prego di essere rapido allora quindi quando ci sono due persone che si conoscono la presentazione del rituale quindi è certo che quella persona sia uomo d'onore d'altronde questa dichiarazione l'ha fatta anche Contorno il quale Contorno ha ribadito proprio questo principio adesso io vorrei che venisse posta questa domanda al signor Marino Mannoia come lo spiega allora in riferimento al signor Loverde che esso stesso Mannoia ha dichiarato di aver presenziato all'iniziazione di Loverde Giovanni nel 1979 mentre Loverde Giovanni avvocato Clemente guardi siccome la corte farà delle domande no questa intendo porla io presidente va bene avanti la faccia rapidamente il signor Marino Mannoia ha dichiarato di aver presenziato alla iniziazione di Loverde Giovanni nel 1979 nel Baglio Bontà lei ha presenziato a questa iniziazione sì allora come lo spiega da Magliocco non da Bontà da Baglio Bontà dalla proprietà di Stefano Bontà nel fondo Magliocco nel fondo Magliocco proprietà di Stefano Bontà nel 1979 si ricorda ricorda l'anno e allora io vorrei che venisse posta questa domanda signor presidente al signor Mannoia potrei sbagliare qualche mese Contorno Salvatore Contorno Salvatore ha affermato che Loverde Giovanni gli venne presentato da Loiacono Pietro nell'esercizio commerciale di costui volume 125 foglio 45 65 72 come uomo d'onore nel 1977 ben due anni prima e allora hanno risposto per me vuole spiegare questo contrasto cioè non v'è dubbio che le verità in questo caso qua sono due perché se il signor Mannoia dichiara di aver presenziato l'iniziazione di Loverde nel 79 non v'è dubbio che Loverde nel 77 non era uomo d'onore Avvocato Clementa la risposta è questa qual è la risposta che nel 79 è avvenuto che nel 79 quindi quanto sostiene contorno di aver appreso da Loiacono Pietro non può risultare a verità secondo l'esperienza che ci viene fornita dal signor Mannoia quale partecipante a cosa nostra ci sono delle considerazioni che lei può fare nel momento in cui si occuperà di nuovo del problema la risposta è questa preferirei avere una risposta l'imputato ha sentito ha sentito che il contorno ha dichiarato in quel modo che le ha letto e ha detto la risposta è quella che io ho data e così come lei ha detto c'era oltre all'overde e abbiamo combinato altre persone di cui sono le mancate e se vuole gliele ripeto ecco abbiamo chiuso e io glielo dico ogni volta mi esprimo lei conosceva Sirchia Giuseppe Sirchia Giuseppe quello che è stato ucciso davanti a Lucerdone eh in quel periodo e si avvicini in quel periodo io frequentavo Stefano Giagonia non posso essere sicuro conoscevo Gambino conoscevo un altro della famiglia vicino a Cavataio però del Sirchia non mi ricordo quindi non sa nulla dell'omicidio del Sirchia non ne ha neppure sentito parlare se non come notizia così di cronaca non ne ha sentito adesso non mi viene evidentemente se mi verrà qualcosa glielo dirò comunque allo Stato non ricorda proprio nulla di questo fatto no per il momento va bene passiamo avanti volevo dire qualcosa agli avvocati volevo dire qualche cosa avvocato no non mi pare ha detto che non ricorda proprio nulla ecco sull'omicidio di Cristina mi sa dire in particolare niente sull'omicidio di Cristina io quando è accaduto non mi trovavo non ero a Palermo adesso non mi ricordo se stavo lavorando eroina o ero un po' fuori Palermo non mi ricordo ritornando andando da Magliocco da Stefano Pontate ho visto che c'era confusione nel senso che c'era un riunione della nostra famiglia di cui c'era pure Pippo quanto tempo dopo l'omicidio? ma credo ho la stessa giornata lì domani non mi ricordo di preciso c'erano i fratelli Garderona c'era Salvatore Inserillo Stefano Pontate e la maggior parte del nucleo della nostra famiglia di cui Stefano non sapeva niente di questo omicidio e ci siamo rimasti lì a Magliocco tanto che abbiamo messo le brande i castelletti letti a castello nella casa di Stefano Pontate di Campagna poi Stefano ha avuto delle riunioni e ha raccontato cosa che è successo? è successo quello che ho sentito così non so degli esecutori materiali so che l'omicidio è avvenuto nella zona di Salvatore Inserillo che lui usciva da un appartamento di piazza che era venuto credo il giorno prima era andato anche nel deposito di gasolio di Salvatore Montalto che si era incontrato si era lasciato con alfio fellito e che era venuto per riscuotere alcuni soldi anche dal contrabbando di sigarette ma il contesto in cui si inquadrava il discorso era sempre in merito riguardante all'uccisione di Ciccino Madonia su quel contesto di cose subito dopo c'è stata dopo un periodo di tempo breve la riunione della commissione dove non lo so questo dove ha partecipato Stefano Pontai ci ha detto e ci ha messo in allarme perché gli avevano proposto di mettersi fuori famiglia anche a lui diciamo di abbandonare la carica che aveva e di essere stromesso fuori cosa nostra insieme a Gaetano Botalamente e Stefano gli ha detto che potevano fare la guerra ma non aveva intenzione perché lui non aveva responsabilità e come ho detto poc'anzi poi camminava per un periodo con la macchina una fetta blindata data da da Nino Salvo lei da chi ha saputo questo? direttamente da Stefano Pontai dal componente della nostra famiglia lei lo conosceva il di Cristina? sì l'ho vista come volta aveva confidenza con lui? non particolare non particolare lei è malinformato avvocato Clemente mi dispiace di doverla contraddire mi dispiace di doverla contraddire si documenti meglio dunque un certo Romeo lo conoscevo lei è un certo Romeo Franco Romeo ho capito Franco Romeo lei conosceva? Franco Romeo però adesso non mi viene no della persona del soggetto di Cristina dell'omicidio non sa dire altro oltre quello che ha detto no credo perché ho detto tutto quello che ho saputo noi stiamo chiedendo proprio per questo vi ricordo di aver sentito parlare di un ferimento nella sparatoria che c'è stata di qualcuno che è stato ferito durante la sparatoria qualcuno che è rimasto parla del di Cristina di Cristina omicidio di Cristina ma io ho detto che quel contesto si inquadra sempre attraverso l'uccisione di Ciccino Madonia di percussione e cose che l'Arfio Fellito dice che ha visto che erano stati in due ad eseguire tanto che era incavolato che non poteva non poteva intervenire e si rammaricava di questo fatto adesso non mi ricordo Presidente se c'è stato qualche ferito in quella stessa occasione non ne hai sentito parlare non mi ricordo va bene andiamo avanti passiamo Stefano Bontate sulla persona di Stefano Bontate lei si è fermato ripetutamente nel corso degli interrogatori delineandone un po' la figura e la personalità sia nei rapporti con lei medesimo sia nei rapporti con altri soggetti e ne ha parlato anche diffusamente a proposito del ruolo che Stefano Bontate esplicò specialmente nel fatto di droga lei non dice nulla dell'uccisione di Stefano Bontate anche se aveva promesso di fare e posso precisare che proprio lei in un punto delle sue dichiarazioni ci dice mi riservo anzi di parlarne e soltanto però dice esattamente così riservandomi in proseguo di parlare dell'omicidio di Stefano Bontate posso dire che i rapporti tra i due fratelli erano pessimi e qua scivola all'altro aspetto del discorso che lei fa su Stefano Bontate cioè sui rapporti con vari soggetti compreso il fratello sembra che non fossero molto d'accordo ma sull'omicidio di Stefano Bontate lei non dice nulla solo un accenno e in quella proposizione che io poc'anzi leggevo a proposito dello scaglione Salvatore quando lei fa riferimento al medesimo gruppo che ha eliminato Stefano Bontate inserirlo Salvatore non dice nulla sull'omicidio sa qualcosa su questo omicidio non ne ha parlato perché non sa io come le dicevo prima non è che uno può sapere tutto di tutto specie quando concerne persone a lui molto legate o intime o molto vicine allora si evita di far percepire o di far sapere gli esecutori materiali proprio specificatamente personalmente nominativamente anche perché è meglio sempre evitare lasciare queste cose che un domani possono essere sempre motivo di rancore e cose io quanto riguarda l'omicidio Bontate credo di aver detto non mi ricordo adesso se è verbalizzato adesso a che punto sono arrivate i miei interrogatori io ho appreso perché l'omicidio Stefano Bontate è successo durante la mia detenzione del 1980 io ero detenuto alla nona sezione l'omicidio è avvenuto mentre io ero rinchiuso insieme a Giovanni Bontate mio padre ed altre persone alla nona sezione quello sarebbe rosario quello che ho preso io successivamente quanto concerne l'omicidio di Stefano Bontate è questo che quando succede che poi eleggono una regenza tutto questo io lo so quando arrestano quando succede il Brizio di Villa Grazia anche se devo precisare che in quel periodo c'era detenuto adesso non vorrei prendere errore Francesco Palo Levantino che faceva i colloqui con suo fratello noi ce lo chiamiamo Titidda Levantino Titidda Levantino tutti e due uomini d'onore della nostra famiglia prima ancora di succedere il Brizio di Villa Grazia Titidda e Paolino Levantino ci ha detto che fuori avevano fatto una regenza in merito a questo quando succede il Brizio di Villa Grazia arrestano Giovanni Pullerà Pietro Loiacono e tutti gli altri che voi avete lì scritti elencati noi detenuti io Giovanni Bontate Pietro Vernengo e gli altri della nostra famiglia di Santa Maria e Gesù veniamo informati di quello che era accaduto che avevano creato una regenza e che proprio Pietro Loiacono e Giovanni Pullerà mi hanno detto di questa regenza che avevano che Michele Greco questo mi è stato raccontato da Pietro Loiacono subito dopo l'uccisione di Stefano Bontate lo ha mandato a chiamare a Pietro Loiacono sarà stato l'indomani adesso non mi ricordo Michele Greco accompagna Pietro Loiacono questo sempre raccontato da Pietro Loiacono ecco non parliamo sempre dei morti parliamo qualche volta anche dei vivi lo accompagna in una zona di Gb. Ross dove c'era Salvatore Rina ed altre persone e Salvatore Rina gli dice a Pietro Loiacono che avevano voluto tenerle escluse dal piano dell'eliminazione di Stefano Bontate quindi Pietro Loiacono non scelta niente quanto concenne la partecipazione morale nell'omicidio di Stefano Bontate gli dice Salvatore Rina di fare una regenza questa regenza di fare tre regenti Pietro Loiacono nomina Carlo Terese numero uno Lillo Motisi quell'anziano e poiché Giovanni Bullerà essendo cugino di Bernardo Brusca c'è stato un periodo che Giovanni Bontate era un po' in viso a Stefano Bontate chiedendo di fare cosa gradita Pietro Loiacono nomina anche Giovanni Bullerà e nomina questi tre regenti però sotto la supervisione di Pietro Loiacono fatti specifiche o persone individualmente specificatamente chi ci è andato c'è stato solo un commento sempre a distanza di tempo nella lungaggine detenzione o qualche parola scambiata con qualcuno della nostra famiglia di cui era scontato che partecipare a deliberare questa situazione erano stati i gruppi avversi a Stefano Bontate di Salvatore Inserillo di Giuseppe Gambino Pippo Calò e Michele Greco Scarpa e tutti questi altri con la partecipazione di Rino Rotolo e di Mario Pesti Filippo Lucchese di tutti quelli che erano unanimamente e da tanti anni una corrente diversa un'amicizia particolare diversa noi avevamo un'amicizia con Salvatore Inserillo con Gegino Pezzuto e con altre persone e queste nonostante eravamo tutti componenti di Cosa Nostra c'erano le simpatie e le antipatie questo era quello che si diceva in Seno a Cosa Nostra nominativi precisi non ne ho mai avuto ma e le ragioni allora simpatie e antipatia le ragioni appunto le ragioni di quello che a loro mi hanno detto a me di questa soppressione di Stefano Bontate dica rapidamente questa c'è un giudice popolare che non sta molto bene dovremmo sospendere e possiamo sospendere ma è un po' complessa la cosa 5 minuti un po' di silenzio ecco lo sta avvenendo infatti dunque e allora stavamo chiedendo stavamo parlando le ragioni che avevano che avevano portato ecco si eravamo interrotti quando le avevamo chiesto di darci qualche spiegazione sulle ragioni che avevano indotto qualcuno a eliminare Stefano Bontate io ero arrivato io ero arrivato al punto quando ho detto che era stato incaricato Pietro Loiacono di nominare una regenza ciò più dettagliatamente lo ha preso da lui e da Giovanni Battista Pullarà dopo il loro arresto del Brizio di Villagrazi ritornando indietro nel tempo parlando prima di arrestarmi non è che regnava una tale tranquillità una tale ma non di questi livelli di aspettarsi un'uccisione di Stefano Bontate all'improvviso perché mi hanno arrestato il 2 dicembre dell'80 la sua morte è venuta in aprile dell'81 quindi sono passati pochissimi mesi sapevo dei turbamenti di Stefano Bontate che condivideva con me e soprattutto con Salvatore Federico e con qualche altro della nostra famiglia con Manuela D'Agostino e con Salvatore Federico credo che l'ho detto con Nino Grado e qualche altro della nostra famiglia che lui a volte sfogava del brutto comportamento sia di Salvatore Reina e sia il principal modo del comportamento di Michele Greco nei suoi confronti perché lo bleffava bleffava nel senso che alcune paternità di certi omicidi che erano di chiara natura deliberate dalla commissione con esclusione di informare Stefano Bontate e di cui Michele Greco diceva Stefano Bontate di non saperlo e di averlo appreso successivamente Stefano Bontate poteva avere modo di constatare che determinate omicidi come del colonnello russo come tanti altri di cui erano partecipi i membri delle rispettive famiglie di Michele Greco stesso e degli altri nel frattempo lo scarpa pieno greco scarpuzeta cominciava a essere un pochettino più arrogante ed è diventato anche lui membro della commissione in cui si alternava con Michele Greco ed era un po' inviso anche Stefano Bontate Stefano Bontate in poche parole stava affacciato alla finestra perché Michele Greco diceva che le cose si dovevano aggiustare che così non poteva andare nel senso che Salvatore Reina con i suoi affiliati deliberavano determinati omicidi senza che ci fosse un'omogeneità della commissione consapevole nella situazione anche se Stefano era successivamente dopo informato faceva un tacito consenso perché non poteva tirare tanto la corda perché a volte una noce nel sacco non scuote non fa rumore e in quel periodo si era legato anche con Totuccia e Zerillo si dice dicono mi hanno raccontato sulle regioni cioè il perché il perché il motivo mi hanno raccontato sulla versione a me fornita da Piecio Loiacono da Pullarà è un po' da tutti diciamo persone di una certa importanza in seno a Cosa Nostra che Stefano Bontate aveva preparato un piano di svantellamento diciamo di queste cosiddette persone che non rispettavano le leggi collaudate da tantissimi decenni in seno a Cosa Nostra di rispettare Cosa Nostra è le regole della Commissione e deliberare le cose volta per volta con un'unitarietà di decisione mi è stato detto sempre da queste persone di cui parlo e anche confidenze falte da qualche altro che so Salvatore Montalto o qualche altro scambiando delle parole così che Stefano aveva preparato un complotto di questo complotto aveva volevano attirare in un appuntamento il Pippo Calò in un determinato posto credo l'appuntamento da Magliocco di cui doveva essere strangolato da Magliocco contemporaneamente un altro appuntamento a Salvatore Reina in un altro posto dove non mi è stato specificato dopo per un motivo di cui mi è detto per sua fortuna di Salvatore di Salvatore Reina non è potuto andare all'appuntamento quindi questo piano di Stefano Bontade eliminando Salvatore Reina e Michele Greco avrebbe appianato un po' la situazione in Cosa Nostra gli è fallito per un puro caso sempre quello che mi è stato detto nel frattempo qualcuno di quelli che era consapevole del complotto ordito da Stefano Bontade di cui il complotto dovevano fare parte Salvatore in Serilli Rosario Riccobono di cui Rosario Riccobono dice che gli ha detto a Stefano Bontade va bene Stefano tu comincia che io sono presso di te però prima comincia tu l'unico a lamentarsi dicevano che era stato Totino Michalizzi fratello di Michele Michalizzi genero di Salvatore Riccobono perché era consigliere in quel periodo di Salvatore Riccobono Stefano Bontade in una mangiata da favarella a Magliocco gli ha sbattuto la mano nella spalla a Totino Michalizzi dicendogli mangia che bene e ci finisce perché Totino Michalizzi non condivideva questo complotto di Stefano Bontade quindi ci sono state delle fughe di notizie attraverso Salvatore Montalto di quello che si è detto che ha informato chiamiamole sempre con Leonese che ha informato Totor Reina ha informato Michele Greff e ha informato gli altri di cui c'era questo complotto preparato da parte di Stefano Bontade e Salvatore Inserillo e che quindi ha accelerato questa situazione di eliminare Stefano Bontade ma perché io conoscevo benissimo Stefano Bontade di cui ha partecipato e è stato il promotore l'autore della prima guerra di mafia insieme anche a Salvatore Reina Luciano Liggia ed altri a mio avviso ha fatto una fine di un dilettante che si è fatto accompagnare da Magliocco facendosi battere la strada da un semplice modonore come Stefano Di Gregorio il quale è ritornato indietro vedendo che Stefano ritardava ad andare da Magliocco quindi per me io ho accettato questa versione ma per me non era tanto convincente ma l'ho accettato per quello che mi hanno detto in quel periodo mi ricordo anche Pietro Loiacono mi ha raccontato che avevano ucciso e soppresso fatto scomparire Piddo Panno Giuseppe Panno prima dell'eliminazione di Stefano Pontato un giorno Pietro Loiacono recandosi da Magliocco trovo una nuvola di ragazzi della nostra famiglia tra cui anche giovannello greco Pietro Marchesi e persona della famiglia di Salvatore in Serillo e gli chiede Piddo Loiacono perché in effetti è una persona che non è un sanguinario anche se tutti noi uomini d'onore o prima o dopo siamo coscetti a macchiarci le mani di sangue perché la base principale di quando siamo iniziati siamo iniziati la prima cosa di cui ci viene chiesto e con quale dito spariamo se siamo d'essi o mancini e il dito che viene punto per la celebrazione è il dito che dovrebbe usare il grilletto o passivamente o attivamente chi o me o chi o più prima o dopo partecipa o a strangolamento o a eccezione o a eccezione di qualcuno che ne rimane fuori per pure case quindi ritornando a questi discorsi Stefano Bontate alla domanda di Pietro Loiacono perché c'era tutta quella riunione a Magliocco Stefano Bontate gli dice senti Pietro l'hai sentito il fatto di Pidopanno Stefano Bontate tendeva ad attribuire questa uccisione di Pidopanno a un gruppo di Mili ed è Altavilla Milicia di cui era composto dal noto di tante Parise e da altri Romengo e cose che questa è la versione che mi è stata detta durante la mia detenzione perché io con Stefano non ho potuto fare nessuna seduta spiritica per poterci parlare tutte quelle che sono rimaste in seno alla nostra famiglia piano piano ci siamo aggregati ci siamo sottomessi alla volontà del rinnovamento di questa nuova direttiva mi è stato detto anche che ho potuto anche constatare con la presenza poi in carcere da Nenei Geraci che è il vecchio Nenei Geraci che noi siamo stati aggregati a Partenico ecco questo è tutto un piano predisposto da molto tempo prima è appunto come dicevo una scacchiera che muovevano le loro petine a momento opportuno perché potevano benissimo aggregarci in una famiglia molto più vicina in questo caso a Michele Greco ma poiché Michele Greco c'era Pino Greco Scarpa che era una testaccia calda e per noi non simpatizzare tanto con Giuseppe Greco Scarpozzetta ci hanno aggregato un po' più distanti da Nenei Geraci Partenico persone anziane di cui i reggenti dovevano di volta in volta rispondere degli andamenti della nostra famiglia questa è quanto concerne la situazione di quello che ho appreso dell'uccisione di Stefano Pontato che si diceva che è stato Salvatore Montalto e poi successivamente da Pietro Marchese si è appreso che anche Angelo la Barbera della famiglia di Passo del Rigano sarebbe stato uno di quelli che avrebbe uscito fuori questo piano che avrebbe voluto sviluppare Stefano Pontate per asserenare le cose in seno a Cosa Nostra perché Stefano Pontate si andava a lamentare sempre da Michele Greco capo commissione e Michele Greco lo palleggiava sempre dicendo Stefano di qua Stefano di là tanto che a volte hanno avuto anche dei litigi di quello che ho preso io e in queste dimensioni in queste circostanze perché non ero presente non ero fuori il gruppo di fuoco dominante che è stato allora prevalente su questa situazione era voce comune che trattava di Salvatore Reina di Vippo Calò di Pippo Gambino o Tignoso Giuseppe Giacomo Gambino Nino Rotolo che prima era intimo con Stefano e poi invece si è distaccato di Madonia di suo figlio Antonino perché era colui che era più in voga di Pino Greco Scarpo Lucchiserro Mario Presti Filippo diciamo di quelle persone che erano tutte simpatizzanti con queste persone mentre tutti gli altri come Salvatore Serili come Sciccio Cenardi e Gigi Nopezuto e Pino Di Maggio Giuseppe Di Maggio che Giuseppe Di Maggio è stato ucciso solo perché quest'uomo chiamiamolo brav'uomo tra virgolette perché era un brav'uomo però tra virgolette sempre perché parliamo dell'ambiente di cosa nostra non si voleva né schedare né una parte né l'altra dopo l'uccisione di Stefano Bontà voleva mantenersi neutrale non voleva aderire a questa sanguinaria campagna di fuoco che c'era in quel periodo poiché credo che Spitalere e Rosario D'Agostino quello che è stato ucciso parente largo di contorno dopo la scomparsa di Dino Grado e Franco Mafer avevano chiesto ospedalità e consiglio a quest'uomo quest'uomo poi ha fatto sapere di aver avuto questa visita hanno preso il cavillo che lui doveva invece farlo sapere mentre li aveva ancora a casa sua e quindi eliminarli gli è stato attribuito questo purtroppo ancora molti continuano a essere convinti come Nino Loiacon il nipote di Pietro Loiacon come Pietro Loiacon che gli hanno ammazzato il nipote di cui top secret non si sa niente invece il discorso è sempre inquadrabile sotto notte che cosa che ognuno dice fino a che non viene per me va bene andiamo per le lunghe quindi il contesto è in questa situazione di cosa il contesto di Stefano Pontate perché era una persona ancora non perché fosse migliore degli altri o perché fosse un galantuomo perché quando parliamo di cosa nostra parliamo sempre di di antistato e di cose però ancora persistevano delle regole che si potevano dire ancora un po' morali in certe situazioni di cose e quel complotto di cui lei parlava poc'anzi questo piano di smantellamento quello che mi è stato detto quello che di cui io io tuttora non accetto secondo lei non è vero secondo lei non è vero secondo me no ma allora lei che cosa intende dire che lo si voleva attribuire a Stefano Pontate come pretesto come che lei dice perché lei dice io non è vero io quando ho chiesto non subito ma poi quando è successo la morte di Stefano Pontate per dire ero alla nona sezione per me intuitivamente e anche per quello che aveva attraversato insieme a Stefano Pontate a cominciare dalla macchina blindata subito dopo la sua missione di Gaetano Batalamenti perché Stefano gli avevano detto di Demetis perché lui insieme a noi della nostra famiglia di Santa Maria e Gesù aveva detto possiamo fare la guerra invece poi le cose si sono un po' pianate per tutto questo andare di cose Stefano Pontate era una persona molto pericolosa per il suo saper parlare per il suo modo di condurre e diciamo guidare la struttura omogenea della cosa nostra era stata sempre una persona molto valida questa persona è che si creava le sue simpatie come gli altri creavano le loro simpatie nelle varie province nelle varie cose quindi c'è stata una spaccatura di simpatizzanti ecco quello che mi è stato raccontato a me era che Stefano Pontate aveva creato voleva creare un complotto di smantellare quelle teste marce quelle teste criminali di cui facevano efferrati delitti anche politici o anche di funzionare dello Stato senza ripensarci tante volte mentre negli anni precedenti non si facevano siccome lui non poteva tirare tanto le corde perché era solo e chiedeva sempre l'aiuto di Michele Greco nella sistemazione di una certa dignità e segolarità delle cose allora è stato detto questo che Stefano Pontate voleva creare un complotto per eliminare Salvatore Reina Pippo Calò questo è quello che mi è stato raccontato e tutt'oggi io lo rifiuto e chi era d'accordo con Pontate in questo sempre per quello che mi è stato detto Salvatore Inserillo Pietro Marchese Giovannello Greco e Saro Riccobono dove gli ha detto va bene tu cominci che poi noi ti seguiamo e loro poi hanno ucciso pure Gigino Pezzuto perché Gigino Pezzuto era sempre da Magliocco da Stefano Magliocco Siccio Cenard perché apparteneva era dalla famiglia diciamo era dalla questo complotto di cui lei parla questa diciamo macchinazione che a lei è stata raccontata come espressione come versione di un momento diciamo di Stefano Pontate che voleva arrivare quelli di certi contenuti eccetera quale periodo si riferisce rispetto alla morte di Stefano Pontate ecco ecco perché la cosa da me non è accettata perché ho detto che sono stato arrestato il 2 dicembre dell'80 Stefano Pontate viene assassinato in aprile dell'81 quindi sono passati pochissimi mesi non credo che in questi quattro mesi che siano passati ci sia stata una volontà talmente irruenta da Stefano Pontate di voler distruggere un'intera regola di origine secolare di Cosa Nostra ne giro di poco tempo quindi io ho lasciato un mondo prima di arrestarmi e ne apprendo tutta un'altra versione dopo che sono successi i fatti dell'uccisione di Stefano Pontate perché cominciano prima da Stefano Pontate e non da Salvatore Inserillo o da qualcun altro perché sapevano benissimo che Stefano Pontate era una persona che poteva influenzare moltissime persone e non era facile poterlo fregare in quella maniera e ribadisco che Stefano Pontate essendo stato uno degli artefici della prima guerra di mafia del cavataio degli altri in quel periodo non si sarebbe fatto fregare se aveva quel proposito arrecarsi da casa sua a Magliocco con una semplice alfetta anche se aveva una pistola addosso ma in altri tempi nel 1978 eravamo quasi dieci persone che camminavamo con Stefano Pontate e lui con la macchina blindata perché c'era il discorso che gli avevano detto di dimettersi quindi con una cosa molto così più grave complottata da Stefano Pontate io non penso che Stefano Pontate si sarebbe fatto ammazzare come un scemo come un ragazzino quindi per me è stata una sorpresa fatta a lui e non lui che la voleva fare le altre però ribadisco sono cose che sono state raccontate da persone della mia famiglia e anche da qualche altro nel senso che Stefano voleva fare questo voleva fare quell'altro cosa la quale lei non crede no cosa che non credo come per esempio il fattore che Stefano Pontate sarebbe stato un santo che era contro la gioca io vi sto vengo a dire che era uno dei più grandi trafficanti di gioca quindi come vi dico questo lei lo ha detto diffusamente quindi io vi dico quella che è una mia convenzione quella è una scienza diretta nelle cose dove non c'è scienza diretta io mi limito a dire quello che ho percepito mentre per quanto riguarda l'inserimento di Stefano Pontate nel traffico di droga lei ne ha parlato diffusamente nelle sue dichiarazioni era una conoscenza diretta che lei aveva quella di mia personale perché lei aveva rapporti con lui sul piano personale e dei traffici conseguenti ma lei poc'anzi dicendo accostando le due figure i due personaggi Stefano Pontate e Salvatore inserirlo diceva comunque che secondo quello che è il racconto fatto a lei Stefano Pontate veniva ritenuto una persona di maggiore che avesse un prestigio maggiore capacità di incidere una delle più intelligenti più diciamo e più importanti sia la cosa nostra parlando di cosa nostra Salvatore inserirlo rispetto a Stefano Pontate che cosa aveva di meno? non aveva l'esperienza che aveva Stefano Pontate tanto è vero che si è fatto ammazzare perché stava andando per i fatti suoi beh anche Stefano Pontate secondo quello che lei dice si è fatto ammazzare da scemo però c'è una differenza Presidente mi scusi se ciò sarebbe successo a Salvatore inserirlo prima a Stefano Pontate non lo fregavano più e vabbè quella diventa poi un'esperienza ci sarebbe stato una sì guerra ma tutta diversa ma però con l'eliminazione delle teste marce e non con questo esterminio come mai Salvatore inserirlo morto Stefano Pontate non ebbe a prendere precauzioni quali appunto il caso esigeva che fossero prese io se non prendo errore e invece si fece come dire sorprendere uscendo da quella casa se non prendo errore è stato assassinato mentre scendeva da un appartamento sotto aveva una macchina blindata quindi è una precauzione che aveva presa quando c'è il Giuda o il traditore non si è salvato mai nessuno quindi le precauzioni Salvatore inserirlo le aveva prese con la sola macchina blindata diciamo la macchina blindata ma non gli sono bastate e di questo episodio di Salvatore inserirlo che cosa ci vuol dire lei sulle ragioni moventi no le ragioni presidente io forse mi ripeto non si preoccupi le ragioni è meglio ripetersi anche per singoli personaggi piuttosto che lasciare in ombra di cui mi sono state dette erano sempre quelle annesse al complotto con Stefano Bontani anche per inserirlo sì l'ho detto prima anche per inserirlo le stesse motivazioni le stesse motivazioni il complotto che si attribuiva a Stefano Bontani che lei però non crede va bene avrebbe coinvolto ma questa è una valutazione avrebbe coinvolto anche Salvatore inserirlo quindi sul fatto di Salvatore inserirlo lei può dire questo che ha detto ora non può dire altro io posso dire che Salvatore inserirlo che aveva preso delle precauzioni e cose a mio avviso è stato già dito da componente della sua famiglia e lei perché quando adesso diventa rappresentante Salvatore Buscemi e sotto capo Angelo Labarbera di cui erano dalla famiglia di Salvatore inserirlo e penso che le valutazioni le concluderete voi io mi posso limitare ai miei pensieri e di qualche notizia frammentare mi dica una cosa ma il il Salvatore inserirlo lei lo conosceva bene sì e che soggetto era che tipo era ma io le ho conosciute da quando erano laboratori nel senso che delle semplici persone lui e i suoi fratelli poi è diventato uomo d'onore io lo sono diventato un po' dopo di lui perché lui è diventato un po' prima era tutto suo zio Rosario Di Mancio mentre suo padre era il rappresentante dell'uditore nel nel traffico degli stupefacenti il ruolo di Salvatore inserirlo sì quale era esattamente il ruolo di Salvatore inserirlo era quello primoritario diciamo per la spedizione della merce negli Stati Uniti e rispetto al ruolo di Stefano Bontate Stefano Bontate era quello che tramite l'unzio alla mattina per l'approvvigionamento della morfina base di cui noi lavoravamo per conto di Stefano Bontate e Salvatore inserirlo perché erano in società sia Stefano per la lavorazione e l'approvvigionamento e Salvatore inserirlo per la spedizione sì in occasione proprio di qualcosa che riguarda proprio i nominativi di Stefano Bontate e di inserirlo Salvatore a proposito dell'omicidio di uno funzionario dello Stato lei dice al giudice che la interrogava le ragioni dell'omicidio mi riferisco al compianto dottor Boris Giuliano vanno riferite a un certo rinvenimento di 500 mila di fatto connesso al sequestro ma non è stata questa la causa scatenante lei ha detto dice vanno riferite al fatto io per ora mi soffermo sulla seconda proposizione cioè una lei non dice quanti dollari c'erano mi sembra che non ne faccia 500 mila ora lo ho precisa non lo so 500 mila dollari lei dice esattamente ma io tante cose non ho detto e tante cose ancora ho da dire di pertinenza se lei ha da dire delle cose noi per ora no che riguardano questo processo una volta che lei è venuta poi domandate io rispondo nella determinazione di aprirsi va bene alla giustizia lei ha il dovere di dirlo a noi che siamo i giudici naturali dei fatti di questo procedimento di quello che compete in questo processo di cosa ne ricordi perché il suo preciso in questa condizione lei sa benissimo che ha il diritto di non parlare ma una volta che è venuto in questa determinazione e se mantiene questa determinazione non sono venuto in questa determinazione se lei mi domanda e io do qualche risposta che non c'è nel bergale io sono a disposizione mi lasci parlare però se è venuto nella determinazione allora lei deve dire tutto quello che sa sui fatti di questo procedimento ma questa è una parentesi torniamo all'argomento di Pocanzi lei esattamente va a dire che quei dollari erano di pertinenza di Stefano Bontate e di inserirlo Salvatore mi vuole spiegare dicendo di pertinenza di Stefano Bontate e di inserirlo Salvatore che cosa intendeva dire era denaro che apparteneva a Costoro era denaro illecitamente perché proveniva da traffici illeciti va bene ma era denaro che apparteneva a Costoro era parte del denaro di merce spedita da loro e da Salvatore in Serillo e da Stefano Bontate e apparteneva all'oro all'oro sì all'oro esclusivamente all'oro vede signor Presidente noi stiamo parlando di chi erano i promotori di questa situazione se poi Stefano Bontate aveva chiamato a raccolta a fare mettere 50 milioni a Gigino Pezzuto o 20 milioni e 50 milioni Calderone o qualche altra simpatizzante queste sono altre situazioni noi stiamo parlando che erano i promotori di questa e a me siccome io ho fatto una precisa domanda che ho colto nelle sue risposte alle domande del giudice che la interrogava erano di pertinenza di Stefano Bontate e di Salvatore in Serillo ora lei mi dica se sa che erano anche di pertinenza di altri o se quello che lei mi dice erano di pertinenza di Stefano Bontate e Salvatore in Serillo i quali all'interno i quali all'interno poi loro sapevano a chi dovevano dare delle piccole quote che già in precedenza loro si avevano chiamate come partecipanti quindi loro lo facevano abitualmente e come avveniva questo fatto era una cosa abituale che loro raccogliessero per poi investire e quindi poi fare l'ho detto poco anzi Presidente è una politica Stefano Bontate in questo traffico di stupefacenti quanto concenne Stefano Bontate parlo della nostra famiglia della famiglia di cui appartenevo io di Santa Maria di Gesù di cui appartenevo Santa Maria di Gesù era esclusivamente Stefano Bontate e Salvatore in Serillo di cui curavano quella partita di morfina base che la faceva e che era importata attraverso il canale di Nunzo la mattina che si sono allacciati di questo canale attraverso il contrabbando di sigaretti dei turni delle navi a Napoli quanto riguarda poi Stefano Bontate a chi chiamava a partecipare in questa situazione sono persone simpatizzanti di Stefano Bontate perché in quel frattempo Giovanni Bontate si gestiva il suo traffico di stupefacenti insieme a Michele Greco quindi Stefano aveva i suoi simpatizzanti quindi io non sto qui ad elencare chi erano tutti i loro simpatizzanti e cose io mi riferisco a quella di scienza mia personale io raffinavo l'eroina per conto di Stefano Bontate a Quintale a Quintale e quindi diciamo un interesse che rispecchiava l'interesse della famiglia a cui lei apparteneva e a cui apparteneva Stefano Bontate che ne era il capo e Salvatore Inserillo Salvatore Inserillo perché era in società con Stefano avevo a che vedere con Stefano Bontate e anche ogni tanto con Salvatore Inserillo quando mi recavo in qualche posto di sua dipendenza o per altre circostanze attenente al traffico di gioco visto che l'abbiamo toccato completiamo questo quadro di omicidio di Boris Giuliano sì lo possiamo anche fare dell'omicidio dato che poc'anzi si è parlato di quella di quella causale che potrebbe essere a base dell'eliminazione del commissario Boris Giuliano ecco e lei può dire qualche cosa più di quello che non abbia detto nelle pagine quasi iniziali del tanto per cominciare lei ha detto esattamente così sì sì lo so e credo allora era libero sì credo che sia stato il 70 70 no sì era libero lei ha detto proprio sì che è stato riprendendo un tema che era stato trattato in qualche rigo precedente in sostanza i due suddetti ufficiali sono stati uccisi per la loro solezia aggiunge subito i due lo stesso peraltro peraltro va bene altri sì esattamente poi dice aggiunge lo stesso dicasi per Giuliano Boris che venne ucciso per la sua complessiva attività di funzionario di polizia ma soprattutto perché aveva sequestrato una valigia di dollari provenienti dal traffico di stupefacenti e dagli Stati Uniti di pertinenza di Stefano Bontade e di inserirlo Salvatore poi lei dice che l'omicidio era stato deliberato in commissione e per quanto si diceva in seno all'organizzazione autore materiale sarebbe stato quel Bagarella Leo Luca che se io non ricordo male da questa imputazione di omicidio è stato prosciolto va bene in istruttoria mi sembra ma mi sembra che proprio ci deve essere mi sembra forse da Sino è stato assolto comunque potrebbe darsi che io ricordi male avevo l'impressione che con un mandato di cattura dell'81 dell'omicidio Giuliano fosse stato dato carico anche a Bagarella Leo Luca assolto poi prosciolto in istruttoria per l'insufficienza di errore allora sarà un mio errore comunque correggiamo anche gli errori tutti sbagliano comunque lei dice che appunto Bagarella Leo Luca che lei dice così omicidio autore materiale io è stato Bagarella Leo Luca ma erano anche presenti Marchese Pietro Greco Pino Scarpazzetta ed altri il particolare che fosse avvenuto nel bar Lux è noto a tutti e che la zona rientrasse nella gestione della famiglia di Madonia Francesco si sapeva anche questo sui particolari torniamo perché il fatto storico è quello che lo sappiamo sui particolari che indussero qualcuno chi decise e chi eseguì a commettere l'omicidio del compianto Giuliano può dire altro oltre quello che qui ora ha letto e che in un certo senso lei ha qui ripetuto mentre Stefano Bontate aveva tutto questo quantitativo di lavorazione di eroina di morfina di eroina e la spedizione degli Stati Uniti che arrivavano dollari che anche quei dollari forse credo che in quel periodo Giuliano voleva attribuire al rinvenimento di via Pecori Girardi dove è stata trovata eroina eccetera e tutte queste cose in sostanza ci stava sulla pancia sullo stomaco dette in parole così volgare al gruppo di Bagarella Madonia Salvatore Reina cioè insomma dava fastidio dava fastidio mentre gli altri Stefano Bontate era il promotore della raffinazione dell'eroina e alcune cose si volevano tendere ad attribuire a questi gruppi di persone per il rinvenimento di quei quattro chile non so quanti chile erano in via Pecori Girardi io ho aggiunto pure che il proprietario del bar lei dell'omicidio di Vittorio Ferdico lei non dice nulla se non Presidente io volevo concludere con quel fattore di Giuliano nel senso che poiché il gestore o il titolare del bar perché io vedo anche la televisione perché sono un detenuto ma come tutti i detenuti hanno la televisione l'altra volta il tempo addietro in Samarcanda c'era il fratello del compianto come ha detto lei commissario Giuliano di cui commentavano di qualcosa che avrei detto io però dice Marino dice in una cosa non è stato esatto quella dice che proprio quel poveraccio del gestore o del proprietario del bar è stato lui a fornire particolari di questa situazione poiché io avevo detto che questo proprietario o gestore è parente non so a che grado di parentela con Vito Siragusa era stato avvicinato ma io non è che intendevo come ha capito il fratello del dottor Borse Giuliano che fosse stato avvicinato prima dell'esecuzione quindi di non dare ed escrizione quel poveraccio immediatamente dopo che è successo l'omicida ha dato quei particolari che potevano essere utili dopo è stato avvicinato questa situazione questo per rispondere per rispondere al fratello del questo è la situazione comunque nel processo non ce ne dobbiamo occupare in questo di Vittorio Ferdico che era il padre del lavaggista sì era confidente dei carabinieri poi della polizia o dei carabinieri lei non ha detto nulla propriamente perché si è più soffermato al fatto del figlio del lavaggista Antonino io Presidente parlo quando sono cose a volte più di scienza diretta o cose che io le chiedo ora invece di Vittorio Ferdico per scienza sua diretta no per scienza diretta in quel periodo la famiglia era sciolta al corso dei mille di questo periodo aspetta quando è stato assassinato Vittorio Ferdico nella data nel 79 pure nel 79 ancora era sciolta la famiglia al corso dei mille quindi di quel che si vociava nell'ambiente di cosa nostra che Vittorio Ferdico era confidente dei carabinieri e della polizia non so di chi era un confidente ma non sa altro non sa altro dei particolari non sa nulla non sa nulla non sa nulla a chi fosse riconducibile questo fatto no questo non riguarda il fattore di commissione questo riguarda perché la famiglia di questo dei mille era aggregata alla famiglia di Michele Greco perché era sciolta quindi qui non c'era motivo di deliberazione di commissione perché trattasi dei normali omicidi di comune amministrazione quindi ci poteva essere così un procedimento libero o tantomeno previa informazione di Michele Greco tutto qui codici insomma che subiscono anch'esse le loro riforme quando parliamo di criminalità e criminalità spicciola non occorre non occorre che si riunisca il vertice atti riordinari amministrazione ad una sola eccezione quella che è stata deliberata per tutti coloro parlando di territorio rispettare territorio e territorio ad un'eccezione fatta per i cosiddetti scappati o perdenti e lei mi ha parlato di questo dovunque si giovasse chiunque autorizzato e in qualsiasi posto si giovavano potevano essere benissimo eliminati senza chiedere permesso a chi che sia e dopo informavano a chi che si fa e si fa e si fa e si fa così va bene quindi questo ma e quindi per ferdico non c'è vediamo in ordine o dunque Teresi Mimmo Girolamo Girolamo che qualche volta ben errore no io Mimmo lo chiamavo e detto Domenico in qualche altro ma è un errore e Girolamo io personalmente lo chiamavo Mimmo inteso Mimmo detto Mimmo di Franco Giuseppe detto Cagnolo e di due fratelli Federico mi pare Pinsetta e Angelo e Angelo e Angelo va bene di questo fatto lei ha parlato e ha detto va bene qualche cosa lei dice non so quello che ha detto mi faccia la domanda Presidente lo ricorda quello che ha detto lo ricorda ecco lei ha detto di avere ricevuto le confidenze da Pietro Loiacono e poi sono state confermate da un tala ieri Pietro quello fuori successivamente alla mia passione sì signora lei dice che ha trascurato Giovanni Pullarà beh e lo aggiunge lei lo precisa forse io non mi avevo dato peso e ora lei lo ricorda no è importante perché scaturisce il contesto va bene va bene lei lo ha detto e lo sta ripetendo dunque su questo episodio di in relazione a questo episodio di Teresi Giroma e degli altri tre ecco quello che lei ha detto e qui lo potremmo anche leggere salvo magari a chiedere qualche particolare io però che ho letto naturalmente la sentenza e gli altri atti ho visto sempre un accostamento tra questi quattro individui e quel d'Agostino Emanuele che lei anche ha richiamato qualche volta Emanuele D'Agostino lei di questo dell'omicidio di Emanuele D'Agostino non dice nulla come particolari non mi è stato neanche chiesto ah non l'è stato chiesto questo credo che sia cioè un verbale non lo so comunque lei si sofferma a parlare un veloce verbale di Teresi Girolamo più gli altri io ricordo che nel pagine in alcune pagine del processo si legge perché è stato detto evidentemente da qualcuno che il Teresi e gli altri tre si erano visti in una certa località in un certo baglio nel quale era convenuto anche D'Agostino Emanuele che il Teresi e gli altri erano stati convocati e si dovevano recare in un certo posto che contorno Totuccio e D'Agostino Emanuele non vollerò andare gli altri andarono da quel momento non si ebbero più notizie eravamo al 26 di maggio del 1981 ecco lei da chi ha saputo questi fatti i fatti e ne avevamo fatto un cenno poco anzi e come D'Agostino Emanuele non trovo niente qui e se lei mi sa dire qualche cosa ecco io dico quello che so io quello che hanno detto gli altri prima di me a me quello che lei sa di scienza propria se lo sa non lo interessa per un caso o sarà saputo e ci dirà da chi perché contorno dice che sono stati soppressi nel baglio Sorci e sì appunto questa è la conclusione del discorso il discorso può rientrare nei suoi ricordi lei ha parlato di cattivo ricordo perché alcune riunioni si facevano nella villa Sorci appunto questo per sentito dire quando io ero caccerato quanto concerne la scomparsa e la soppressione dei quattro e dei Federico di De Franco e di Mimmo Teresi questo mi è stato a me detto anzitutto ho preso della scomparsa durante la mia caccerazione che erano stati soppressi quando hanno arrestato Pierolo e Acono e Giovanni Pullerà e gli altri dei Brizz e di Villa Grazia ho preso particolari più precisi poiché Mimmo Teresi e Nino Grado e Federico e Salvatore Federico Angelo Federico si incontravano dopo l'uccisione di Stefano Bontade qualche volta andavano a trovare a Salvatore in Serillo Pierolo e Acono che era stato nominato supervisore di quella regenza di quei tre li ha chiamati dicendo sentite qua non andate a trovare a inserirlo perché siamo in un momento particolare e a voi vi sembra che nessuno guardi e invece voi siete osservati i vostri movimenti loro si giustificano dicendo Pierolo ci fa Mimmo Teresi ma noi dobbiamo ancora chiudere dei conti quanto riguarda il traffico di droga va bene questa situazione lo facciamo presente ufficialmente si chiariranno invece di voi andarci a recarvi in quella situazione può apparire come se ci fosse un complotto che continua a persistere in questa situazione il discorso della soppressione di questi quattro è avvenuta al baglio Bontade mi è stato detto personalmente Bontade Bontade cioè Nino Bontà perché io comunemente Stefano lo chiamo Bontà Mese Bontate mentre Nino Bontà Bontà il baglio è Bontà e questo mi è stato detto da Pietro Loiacono e soprattutto il discorso è maturato con Giovanni Pullarà perché condividevamo la stessa cella alla 139 al terzo piano alla nona sezione quando Giovanni Bontade pressato dal nucleo femminile vista la loro grande amicizia perché avevano capito tutto queste poveracce donne questi quattro non è che sono stati attirati in un tranello nel senso che come il discorso del baglio Sorce si recavano spontaneamente su richiesta di Pietro Loiacono e di Giovanni Battista Pullarà e di Nino Bontà che si dovevano fare vedere perché era un periodo molto molto delicato si dovevano fare vedere e si dovevano vedere nel baglio Bontà sono arrivati due per volta i fratelli Federico e successivamente poi è arrivato Mimmo Teresi con Giuseppe De Franco tanto che dice che De Franco gli ha dato anche un morso a uno nel momento in cui veniva acchiappato per essere strangolato gli esecutori materiali di questo strangolamento perché da quando scaturisce questo discorso oppure che Giovanni Bontade ingenuamente pur avendo una vita di uomo d'onore alle spalle che sapeva che mai nessuno si era fatto ritrovare se non accidentalmente come il caso di Stefano Giaconia che è stato un cano una volpe per fatalità gli chiede a Giovanni Pullerà se era possibile fare giovare in un posto il corpo di Mimmo Teresi Giovanni Bontade e Pullerà in mia presenza si incavola si incazza chiedo scusa la corte per esprimere le fedeli parole dette in quell'atmosfera di cose dice ma che cavolo è dice le abbiamo disciolte nell'acido e poi tu non sai che queste cose non si vanno neanche a domandare prima sono state sangolate dal baglio Bontà occultate alle sponde del fiume Moreto dove l'unico conoscitore perfetto di questi luoghi è Nino Bontà di questi luoghi poi per paura che possano nascere sempre di una libera pentita collaboratore qualche cosa dopo alcuni giorni qualche giorno questo racconto vivo da Giovanni Pularà e da Pietro lo Iacono e ha avuto conferma fuori da Pietro a ieri che ha partecipato a questa situazione e un po' da tutti gli altri perché eravamo intimi amici non c'è niente da nascondere sono state occultate portate dalla proprietà di Pietro a ieri detto signorino e sono state disciolte nell'acido sfido chiunque a dimostrare il contrario questo è quanto ho appreso io va bene lasciamo intanto da parte questa sfida ma vediamo un po' non sfido non sfido chi lo so capito a chi si riferisce a lei è chiaro va bene ma dico lasciamo da parte questa intenzione di sfida e vediamo un po' di quel d'Agostino Emanuele del quale le parlavo pocate per favore silenzio si facciano sentire quando hanno qualcosa da dire lo dico io quando si devono far sentire quando do loro la parola altrimenti no ma questo vociare mi disturba e ma Marino Vannoia lei non deve assolutamente si rivolga a me quando va bene deve fare qualche insomma perché potremmo essere più disturbati noi dunque e allora di D'Agostino Emanuele lei che cosa mi può dire il discorso di Emanuele e D'Agostino poiché lei ha detto questo D'Agostino Emanuele che in quell'altra versione di cui ho parlato appare essere andato insieme ma Presidente che colpa ne ho io se quando una persona decide di collaborare o di parlare dice le sue verità io sto dicendo le mie verità io sto facendo nessun appunto io sto dicendo le mie verità lei sto chiedendo semplicemente se lei sa qualche cosa dell'omicidio di Manuele D'Agostino questa Manuele D'Agostino non è andato in questi normali appuntamenti diciamo visite di normale routine ma quando ha appreso che questi quattro erano scomparsi perché se figure che è diventata notoria la cosa tramite le famiglie addirittura qualcuno di loro c'era vestito a lutto si sono fatti trovare dalla polizia che piaceva è stata notoria la cosa subito immediato Manuele D'Agostino perché aveva una grande amicizia e si conosceva da moltissimi anni con Saro Riccobono Rosario Riccobono si è sentito di andare a rifugiarsi da Rosario Riccobono Rosario Riccobono di come hanno fornito la versione loro a me ripeto a dire gli altri della versione che Stefano Bontate voleva organizzare questo complotto e che Saro aveva detto comincia tu che io poi ti vengo dietro credendo di fare cosa gradita a Salvatore Rina a Pippo Calò e agli altri strangola Manuele D'Agostino per fare capire che lui in effetti non aveva niente a che vedere con gli altri e che era partecipe ed era affidabile nei confronti di Salvatore Rina di Pippo Calò e di tutti gli altri Pippo Gambino e Madonia quindi secondo quello che lei dice di quello che io ho appreso sarebbe stata un'iniziativa di Saro Riccobono no Manuele D'Agostino se n'è andato da Saro Riccobono e l'ha strangolato Saro Riccobono e perciò dico un'iniziativa di Saro Riccobono di prenderlo e strangolarlo no iniziativa già era nella lista di attesa Manuele D'Agostino era in lista di attesa e allora Saro Riccobono Rosario Riccobono com'è che attuò questa va bene come fu facciamolo dire a lui come è stato questo fatto lei dice che Manuele D'Agostino era in lista d'artesa poiché Manuele D'Agostino in precedenza era stato salvato più di una volta da Stefano Bontate con l'intervento di Rosario Riccobono si è andato a rifugiare per la sua lunga amicizia che divideva con Rosario Riccobono perché prima ancora di essere uomo d'onore Manuele D'Agostino andava a uccidere persone per conto di Saro Riccobono è creduto di andarsi a rifugiare in una persona di cui era sicuro poteva avere protezione ma poiché Saro Riccobono in quel periodo si univano tutti alla caccia e sciuzzi con Scarpa con gli altri ed era notorio che queste persone si dovevano eliminare quando gli è andato Manuele D'Agostino a rifugiarsi da lui l'ha strangolato punto e basta non so altro presidente si d'accordo quindi è stata una determinazione del momento si del momento che era notorio a quelli che lo sapevano e tra cui Saro Riccobono che era ancora capo mandamento era a conoscenza di quelli che dovevano essere eliminati va bene quindi Saro Riccobono lo strangolò si va bene e ancora prima di essere eliminato no no dica no no basta no dica ancora prima stavo parlando pensavo un altro episodio niente e quale episodio stavo pensando Maffara e Grado stavo pensando beh ci arriveremo anche a Maffara e Grado dunque eravamo arrivati Francesco ne ha sentito come di noto Francesco di noto Francesco era un modo onore di Corso dei Mille sì lo conosceva lei di vista di vista però poi dopo la mia iniziazione dopo tempo ho saputo che lui per il passato era stato sotto capo di Corso dei Mille era molto sì nel passato nel passato prima della famiglia di Schoyers del fatto della sua soppressione sa qualche cosa perché era molto amico di Pina Greco di Stefano Bontà e di qualche altro ecco è tutto un macchinengio sono cose che purtroppo sono questi i fatti comunque sa questo solo ma dei particolari dell'uccisione non sa nulla non sa niente andiamo avanti ecco Vincenzo Severino il fratello che lei indica col suo cognome e con la qualità di fratello di Enzo Severino Severino e Gnoffo Ignazio io conoscevo Enzo Severino Enzo Severino Enzo Severino ecco lo conosceva come uomo d'onore sì appunto quali erano i suoi rapporti con questo Enzo Severino ci conoscevamo così lui era molto intimo di di Gnoffo tanto che una volta è stato salvato da Gnoffo ecco dice quali sono le mancanze perché Stefano Bontade lo voleva uccidere perché quella poveretta ragazza che è stata assassinata tantissimi anni fa in una casetta a Santa Maria di Gesù una donna una ragazza che è stata rinvenuta era stato Enzo Severino ad ucciderlo quando poi si è saputa questa cosa già mentre l'intervento di Ignazio Gnorfo Stefano Bontade lo ha salvato quanto riguarda la soppressione di Enzo Severino posso dire che la cosa è certa che la cosa era stata notoriamente detta l'ambiente di Cosa Nosso ma non sono gli esecutori né i particolari né la ragione precisa lui era della famiglia della Noce quindi subentra nel contesto anche di Totoscaglione e degli altri ma qualche cosa di più puntuale Presidente quando so qualcosa di più sarò io stesso a dire allora si ricordi di questo che lei sta dicendo che quando io faccio una domanda esigo una risposta chiara completa quando lo so Presidente quando lo sa certo altrimenti le direi di dire delle bugie non di dire quello come vede io blocco subito quando dunque Gnoffo Ignazio lo conosceva si era aggregato prima alla nostra famiglia si prima di essere ricostituita era molto vicino a Severino si erano molto intimi erano molto lei dell'omicidio di Gnoffo non dice nulla sostanzialmente semplicemente fa una indicazione temporale per collegare a dopo l'uccisione di Gnoffo Gnoffo la fuga di Franco Cambria ma non dice altro dell'omicidio di Gnoffo Ignazio sa qualche cosa di questo omicidio particolare subenso in quel contesto che era molto intimo di Stefano Bontato questo è quello che lei dice lo so è poerile come risposta è poerile come situazione noi la registriamo ma il discorso è quello che si stava facendo una campagna completamente di decapitare tutte quelle persone che per il passato erano state intime con quel gruppo di persone quelle che pur essendo intime non furono destinate diciamo all'eliminazione cominciando da me cominciando da me perché ma si vede siccome Ignazio la scelta come avveniva che taluni erano diciamo restavano in vita e altri invece no alcuni erano più invisi alcuni erano più simpatizzanti nel senso che magari li facevano più affidabili che si potevano rinserire nel senso che potevano sottostare a certe regole di cose bisogna bisogna sapere belfare in questo ambiente erano emendabili io ho saputo bleffare e quindi ha salvato la vita sostanzialmente lei intende dire questo come tanti altri sono convinti ancora di salvare la loro stupidamente potrei dire del tentato omicidio di Totuccio Contorno lei che cosa mi può dire niente completamente completamente niente non sa nulla neppure per sentito dire eppure è un fatto direi insomma eclatante oltretutto perché essendo avvenuto se io non ricordo male nel giugno dell'81 Presidente non è che io mi voglia rifiutare in certe cose però sono passate altre persone prima di me mi lasci completare il discorso perché al cimenti non ci intenderemo sto dicendo che essendo venuto nel giugno dell'81 è molto vicino quindi agli episodi di Stefano Bontate e di Salvatore Inserillo i cui particolari lei ha detto di aver appreso dopo il blitz di Villa Grazia che mi pare del 19 ottobre o 18 o 19 ottobre lei ha ricevuto delle confidenze in carcere avviato dei discorsi ecco io pensavo che un episodio come quello che riguardava contorno del giugno dell'81 potesse essere pure soggetto dei discorsi come erano stati oggetto dei discorsi di altri posso dire solo una cosa che contorno a Salvatore in quel periodo è stato avvicinato da Giovanni Battista Pullarà con tutta la fasciatura che aveva lui dice che era ingessato nella villa che si stava costruendo Salvatore Contorno e di cui Giovanni Pullarà gli ha detto dice ma perché non ti fai vedere sto parlando dopo la morte di Stefano Bontate che possiamo avere bisogno di te fatte vedere e Salvatore Contorno era guardigno Salvatore Contorno diceva vabbè non ti preoccupare che mi faccia vedere l'ordine era quello di uccidere Totuccio Contorno ma non perché Totuccio Contorno come volevano dire ecco perché conciasse il discorso che Stefano Bontate voleva fare un complotto e volevano attribuire anche a Salvatore Contorno la partecipazione perché proprio in quel periodo Stefano Bontate a Salvatore Contorno non lo guardava di buona luce poiché c'erano contrasti Ciappino Greco Scarpo Cede e Salvatore Contorno che risalivano a tanti anni prima da quando contrasti perché camminavamo sempre assieme io Scarpa e Contorno per fatti di comune interessi è nato con cesto di ragazzi perché avevano vent'anni che ci conoscevamo tanto che una volta in una situazione di cosa Contorno si era abbisticciato con Giuseppe Greco Scarpa tanto che questa situazione che non andavano d'accordo è stato combinato a Santa Maria di Gesù e non a Ciaculli dove gli avrebbe aspettato e questo lei lo ha detto chiaramente quando c'è stata poi questa campagna di decapitare a tutte quelle persone ognuno cercava di pulirsi i piedi più che poteva tant'è vero che ci sono centinaia di morti che in nome non dicono niente assolutissimamente che mai al mondo sarebbero morti o per scoppettati o per revolverati perché dovevano fare terra bruciata perché dovevano pulirsi i piedi come se erano i giustizieri del chissà che cosa quando Pullarai gli dice a Contorno fatti vedere fatti avvicinare si sapeva questo sempre per il raccontato da Pullarai e dagli altri della mia famiglia che Contorno si recava da un barbiere a piazza Guadagna e lo aspettavano casomai si recasse là di fargli un attentato là poiché Pino Scarpa voleva portarsi la bandiera di essere lui o uccidere Salvatore Contorno perché avevano questi contrasti ha organizzato lui questa situazione perché altrimenti a Contorno loro ci riuscivano tranquillamente o a Cangolallo perché sarebbe andato in qualche appuntamento con Giovanni Battista Pullarai o essere eliminato da persone della nostra famiglia perché andava in un barbiere a piazza Guadagna questo potete chiederlo a Contorno queste cose le sa più di me i particolari se sono veri o se corrispondono a me quindi quanto riguarda il tentato omicidio di Contorno quello che io ho saputo è che il 100% che c'è stata la partecipazione di Filippo Marchese di Pino Scarpa Cullo che sia e di Mario Presti Filippo come si sono svolti i fatti precisamente e come in quale in quale diciamo con quali ruoti con quale ruolo con quale cosa in che modo non ve li so dire quali determinazioni furono prese non ve li so dire non sa niente di questo questo ne ne ha sentito parlare in nessun modo neppure indirettamente no credo che possa essere più chiaro Salvatore Contorno in queste cose l'oggetto dei discorsi che lei fece dopo quel bris di Villa Grazia ah scusi presidente riguardava solo bontà di inserirlo come sostanzialmente quei discorsi che in carcere furono fatte quelle notizie che lei apprese dei fatti del mondo esterno perché lei era detenuto riguardavano Stefano Bontate e Salvatore Inserillo credo che nonostante io abbia detto presidente che non so niente dell'attentato Contorno ho raccontato dei episodi di cui Giovanni Pullarai è andato a trovarlo si doveva ammazzare si andava a guadagno sono fatti precedenti va bene va bene ma è sempre durante la mia detenzione presidente va bene che lei ha preso in quel momento e il resto poiché Salvatore ecco ritorniamo un po' indietro Pietro Loiacono e Giovanni Pullarà e altri mi avevano detto a me che Pietro Loiacono aveva chiamato insieme a Giovanni Pullarà a Nino Grado per far portare a Salvatore Contorno faccio se figure che cosa dicendo che voi siete un sacco di fratelli lei parla del Nino Grado che poi venne soppresso mafara o mafara Francesco e dica ti comincio da capo continui Pietro Loiacono aveva avvicinato aveva commentato con Nino Loiacono poiché Salvatore Contorno era nella lista di quelli che avevano che volevano fare un complotto e cose che avevano deciso che doveva essere eliminato ha detto a Nino Loiacono a Nino Grado Nino senta a me dice ti voglio bene siete un sacco di fratelli vede ripetare questo tuo cucino a Cosset e a Libetano e a Boat e un picchio vado a mettere nei guai e Nino Grado gli diceva ma io mi c'è incontro con il mio cucino io non lo vedo mentre siccome Nino Grado è stato notato è stato visto è stato pedenato ma era tutto una scusa perché anche se Nino Grado portava a Salvatore Contorno e sia tranquillo che anche gli altri venivano eliminati lo stesso così come è avvenuto va bene e questo per quanto riguarda il fatto Contorno è quello che vi è annesso e allora passiamo quest'altra domanda e poi va bene decidiamo va bene della scomparsa di quei due ragazzi Giuseppe Inserillo e Pecorella Stefano mi può dire qualche cosa? Presidente c'è stato solo un piccolo commento critico di cui dice che Pino Greco Scarpa abbia infierito crudelmente contro il figlio di Salvatore Inserillo mozzandoci anche una mano cioè per noi era scontato che erano l'autore di queste non andavamo a investigare di come andavano i fatti queste cose ma che per lei fosse scontato va bene ma non sempre si può chiedere mi deve dire questo se ha saputo qualche cosa se non ha saputo qualche cosa solo queste frammentare cose perché non sempre si può chiedere perché chiedere può significare un'ingerenza in debita una cosa che uno possa cercare di avere guai avere guai quindi non con tutti si può parlare ho capito ma con quelle simpatizzanti o con quelle che ti confidano magari certe cose ho capito sì credo che qualche cosa l'ho letta nelle dichiarazioni pagina 126 di quel di Fazio Giovanni mi pare detto osso di siccia può essere che sia così che era uno contrabbandiere dello Sperone e che è stato ucciso il 9 luglio dell'81 questo qui era un uomo d'onore questo venne ucciso la gente venuta dal mare lei si è limitato a questa notizia storica oltre questo che ha detto può dire qualche cosa no non ha altri elementi dottore generale io non avrei esitazione anche a continuare ma forse noi siamo disposti a qualunque soluzione dipende anche dalle soluzioni che possono essere utili per i difensori o gradite sì io penso che se continuiamo domani è meglio è meglio anche per l'imputato che ha il diritto io sono io sono a disposizione lo so questo ma indipendentemente da questo anche lei ha dei diritti umani che bisogna rispettare perché dopo siamo già però presidente io volevo chiederle una supplica nel senso di lo capisco più presto noi possiamo finire e noi speriamo di poter concludere il più rapidamente possibile vogliamo continuare del pomeriggio siamo disponibili come è un problema per il pomeriggio anche per la corte quindi domani se domani beh comunque come si fa a dirlo prima potesse essere anche conclusiva sarebbe meglio ma potremmo dover andare al pomeriggio non sarebbe una cattiva se dovesse portare a una conclusione Presidente scusi io ho accettato di venire qua con lo so perché sono a disposizione però se noi potremmo fare io sono io pure di carne sono fatto e anche voi avete le vostre segre però se potremmo concludere entro domani sera per me sarebbe bene comunque domani mattina noi vediamo perché poi abbiamo c'è l'epifania poi c'è la domenica va bene per oggi noi concludiamo e ci rivediamo domani domani speriamo di poter concludere se casomai se ne parla poi la settimana inciente vedremo vedremo certo bisogna non possiamo saperlo ma noi faremo il tutto perché si possa fare più celermente va bene allora a domani va bene l'imputato Marino Mannoia può venire davanti alla Corte ora riprendiamo con l'interrogatorio di Francesco Marino Mannoia ieri eravamo avevamo fatto un escursus dei fatti di cui la Corte si occupa di alcuni episodi più eclatanti omicidi e oggi continuiamo su questa strada in ordine all'uccisione di Antonino Badalamenti che era cugino di Gaetano Badalamenti episodio che risale al 19 agosto del 1981 lei lei sa dare alla Corte qualche notizia per quello che lei ha potuto sapere come è avvenuto negli altri episodi di cui lei ha parlato di queste notizie e so solo che aveva preso il posto di Gaetano Badalamenti dopo la sua estromissione nella famiglia di Cinis e aveva preso il posto di Gaetano Badalamenti e i rapporti tra i due cugini appunto i rapporti tra i due cugini non erano dei migliori i motivi della sua uccisione appunto si inquadrano in questa cosiddetta guerra di mafia però i motivi specifici e gli esecutori non li sono però i rapporti non erano dei migliori no e nel senso la causa di questa diciamo loro avversione questa ostilità di questa non la conosce lei come ha saputo che i rapporti tra i due da quando ero fuori da prima del suo arresto quindi già sin da allora va bene era noto che i rapporti tra i due parenti no perché mi ricordo un episodio che ha voluto fatto una cortesia da Salvatore Inserillo per spedire 10 kg di eroina negli Stati Uniti in quell'occasione si parlava con Salvatore Inserillo che con suo cugino nonostante prima e dopo essere messo fuori famiglia e anche prima non c'erano rapporti di grande simpatia insomma la ragione per cui non c'erano questi rapporti a prescindere da che non ho addenciato il merito non ha saputo senta Presidente scusi se da una situazione passiamo una marcia come ho letto il giornale di Sicilia questa mattina la giascrizione fatta di quel interrogatore di ieri credo che sia fedele perché io ho fatto qualche piccola confusione in alcuni nominativi quando io mi riferivo all'iniziazione dentro il carcere di alcune di alcune persone qui vedo scritto solo Vernengo io mi riferivo a Vernengo Ruggero ma bene poi quanto riguarda poi Giuseppe la Bocchiara invece la Bocchiara quanto riguarda poi ai capi di Cina della nostra famiglia io mi ripeto e nomino di nuovo Orazio Saccone invece è Edoardo Messina e quanto riguarda Arturo Vetrano invece è Salvatore Vetrano questo volevo fare questa correzione quello che tante volte si legge nei giornali non sempre no ma credo di avere detto proprio come scritto e allora meglio comunque è già registrato quello che lei sta dicendo ora riprendiamo riprendiamo allora riprendiamo allora il discorso nostro in relazione all'omicidio di Antonino Badalamenti lei ha detto che aveva preso il posto di Gaetano Badalamenti Gaetano Badalamenti che ruolo aveva in queste vicende Gaetano Badalamenti che ruolo Gaetano Badalamenti è stato estromesso dalla cosa nostra nel 78 questo ne avevamo anche fatto un cenno un cenno ieri e una volta estromesso però so che saltuaramente all'insaputa di tutti credo che a volte si incontravano queste fra l'obbontate ah in Italia perché c'era una grande amicizia in Italia sì o all'estero no no in Italia in Italia si incontravano va bene si incontrava con Stefano Bontate questa grande amicizia costa a lei personalmente lei era uno dei federissimi io personalmente mi sono regato alcune volte a casa di Gaetano Badalamenti a casa di Gaetano Badalamenti dove noi ci siamo proprio a Carini dentro il paese in un posto dove in un certo periodo c'è stato l'attitante anche Angelo Rinella durante il suo periodo delle imputazioni per l'omicidio Benigno questo per l'omicidio Benigno e lei dice che andava a trovare Gaetano Badalamenti a Carini per quale ragione così andava accompagnavo Stefano ah ecco perché accompagnavo Stefano ma Gaetano Badalamenti dopo la sua diciamo posata chiamiamoli dopo che era stato allontanato quando andò via dall'Italia e questo non lo so non ha idea non lo so e in che periodo in che periodo c'è andato lei quando è che ebbe occasione di accompagnare Gaetano questo è il 77 una sola volta o più volte un paio di volte in un periodo prima della sua e quando lui fu posato lei ebbe modo di incontrarlo qualche volta completamente neppure quelle volte in cui si vedeva con Stefano Bontate quindi i suoi rapporti con lui rapporti nel senso e nei limiti che lei ha detto risalgono al periodo anteriore al 1978 come fa a sapere che con Stefano Bontate si incontrava anche dopo che lui era stato allontanato era Stefano stesso a dirmi ma lei non ebbe modo di vederli insieme dopo l'allontanamento benissimo Antonino Badalamenti diciamo in questo scontro di gruppi da che parte si era messo? si era veramente schierato schierato un po' con i chiamamole Vincenti così è schierato con i Vincenti si in ordine ai particolari conoscevo anche Rosario Badalamenti il fratello di Rino anche lui è un donore di Ciris anche lui una persona molto calibrata molto si volevo dirle questo ma dell'attività di Antonino Badalamenti da un canto e dei particolari che portarono all'omicidio di Antonino Badalamenti lei ha saputo qualche cosa? no di particolare no dei suoi interessi prima che lei fosse arrestato questo Antonino Badalamenti lei lo conosceva evidentemente lo conosceva negli interessi di lui interessi nel campo bene nell'attività che lui espletava lei sa qualche cosa? lui badava degli animali aveva una specie di stalla però si interessava anche dei giacchi di stupefacione e questo costa a lei proprio personalmente? io precedentemente avevo detto che ho portato 10 kg di eroino lo dica la corte Angelo Antonino Pepitonale al fratello a Carini a Villagrazia di Carini di cui era di pertenenza di Salvatore Inserillo però era una cortesia che doveva fare a Antonino Badalamenti e questo era una cortesia per Antonino Badalamenti e di altro genere di attività di Antonino Badalamenti oltre a quello che lei ha detto c'era uno scambio di amicizia aveva lei conoscenza per esempio che i due cugini in un certo momento in un certo tempo avessero interessi comuni Antonino e Gaetano prima si alternavano c'erano periodi che cercavano di simpatizzare periodi che non andavano d'accordo c'è stato un periodo che Nino Badalamenti si era molto legato a Rosario Riccobono ecco i miei particolari sono questi quindi c'è stato un momento in cui Nino Badalamenti e Rosario Riccobono andavano molto legato andavano d'accordo e per esempio invece tra Gaetano Badalamenti e Rosario Riccobono beh c'è stato anche un periodo di intimità periodo di comodo periodo di? di comodo tanto che quando hanno strangolato Stefano Giagonia erano in comune accordo sia il Badalamenti con Saro Riccobono perché è stato degredato e anche la partecipazione attiva di Saro Riccobono allo strangolamento di Stefano Giagonia uomo d'onore della famiglia di Palem che era ancora aggregato alla famiglia di Santa Maria di Gesù e poi i rapporti tra Saro Riccobono e Gaetano Badalamenti si guastarono? anche con Stefano si sono un po' allontanati tanto che aveva acquistato con Stefano Bontate si sono allontanati in che senso? tanto che aveva acquistato Saro Riccobono una villa in in Valle Fiorita dove c'è proprio la villa del Brizzo di Villa Grazia l'aveva non acquistata l'aveva fatta costruire che poi questa villa gliel'ha venduta a Pietro Vernengo sì figuralmente risulta a Ruggero Vernengo ma la villa di Pietro Vernengo è stata intestata a Ruggero Vernengo per una questione di comodo perché gli altri sono riusciti a fuggire e allora essendo lui cugino di Pietro Vernengo si è intestata a lui e si sono un po' allontanati questi rapporti tra Stefano Bontate e Rosario Riccobono anche perché Giovanni Bontate era una persona che non andava tanto d'accordo col fratello e a volte sbarlava sia con Rosario Riccobono sia con Pippo Coloco con le persone che lui di turno cercava di rivolgere a mettere in cattiva luce il fratello quindi i rapporti tra i due fratelli erano tessi allora sì sino al punto che gli stessi per esempio non so non si scambi che erano tessi nel senso pubblicitario nel senso che erano di diversa natura Giovanni era molto più ambizioso ma il suo comportamento si poteva solo diciamo alludere al fattore che era fratello ma se sarebbe stato un altro semplice umodonore della famiglia non si avrebbe potuto comportare in quella maniera ma erano fratelli allora lui ne abusava di questa ma i rapporti tra i due fratelli continuavano formalmente nel senso che si scambiavano visite che uno andava a trovare l'altro avevano anche la proprietà in comune avevano Magliocco avevano comprato a Campobello di Mazzara avevano comprato altre proprietà quindi non è che era una cosa completamente così miscediale solo che la natura di Giovanni Bontade era una natura molto perversa era diversa una natura molto era cattiva alla sua natura specie che era molto attaccato ai denari Giovanni Bontade Giovanni Bontade anche se Stefano non era di meno ma Giovanni era molto più ambizioso ambizioso cioè nel senso di volere conseguire a qualunque costo la ricchezza perché c'è stato anche un periodo che insieme alla nostra famiglia c'è stato un piccolo complotto il quale Giovanni Bontade avrebbe voluto prendere il posto di Stefano Bontade approfittando che Stefano Bontade era un po' in viso all'esterno in quale tempo? prima delle delle nostre naturalmente delle votazioni dell'80 il periodo è iniziato dopo il 78 dopo che c'è stato quella discussione lui ha cercato di mettere avrebbe voluto prendere il posto di Stefano tanto che era stato spalleggiato da Pietro Loiacoli Giovanni Battista Pullerà e da altri della nostra famiglia ma io ero neutrale a tutto questo perché io gli dicevo sempre il mio è un voto che devo dare quando sarà lo saprò io a che darlo e queste vicende che lei sta dicendo ora sono a sua personale conoscenza certamente e il Stefano Bontade naturalmente era a conoscenza di questo disegno del fratello di tentare di prendere il suo posto si intanto che gli ha levato tutto dalle mani quanto riguarda perché all'inizio del contrabando di sigaretta a Napoli come promotore sono stati Giovanni Bontade insieme a Nunzo la mattina e Salvatore Federico e io stesso mi sono regato a Napoli per diciamo collaborare a questa situazione di contrabbando di sigarette poiché mi sono schifato del modo di condurre questa attività di contrabbando schifato nel senso che da parte di altri uomini d'onore non è che stilassero sotto le regole di Cosa Nostra perché vendevano le sigarette tendendo a mercanteggiare con gli altri scafisti cioè quelli che compravano le sigarette napoletane cercando di abbassare qualche dollaro per amore di fare caricare le loro cioè vendere le loro le loro le loro sigarette le loro navi prima che la vendessero il gruppo di Nunzo la mattina e Giovanni Bontade e Cosa quindi Giovanni Bontade cominciava a fare regali in seno alla famiglia chi regalava l'orologio chi comprava la macchina Pietro Loiacono ha regalato la macchina a me ha regalato un accendino d'oro a Salvatore Contorno cercava di attirare la simpatia dell'inseno della famiglia perché appunto voleva spalleggiato anche da Pietro Loiacono e da Giovanni Battista Pullerà che volevano che Stefano Bontade fosse estromesso dalla famiglia di Santa Maria di Gesù e mettere lui al posto di Stefano Bontade e oltre quei soggetti che lei ora ha menzionati come simpatizzanti anzi addirittura quando una famiglia è forte favoreggiatori di questo disegno del Giovanni Bontade altri soggetti erano accanto a Giovanni Bontade nel tentativo di portarlo al posto di Stefano Bontade Sì ho parlato già ho detto dei nomi della nostra famiglia Sì Saro Riccobono tutto quello che lui sapeva riguardante Stefano e di altre cose anche insieme alla commissione lui riferiva le cose negative a Giovanni Bontade contribuendo a mettere in cattiva luce i due fratelli fino a che Stefano Bontade ha scoperto il ruolo anche di Saro Riccobono e non c'è stata più tanta intimità tra i due tra i due sì tra i due e ritornando all'episodio di Antonino Badalamenti dal quale eravamo partiti oltre va bene il quello che lei aveva ha detto ora alla corte ha da aggiungere qualche altra puntualizzazione a non interesse in modo particolare proprio se lei lo ha preso se ne ha sentito dato che lei era in stato di detenzione proprio in ordine all'episodio in se stesso dell'omicidio cioè no vede Presidente per noi era scontato non c'erano ulteriori commenti da fare quando una persona veniva eliminata si inquadrava si inquadrava già del contesto criminoso però non si andava scrupolosamente a cercare di individuare chi era stato o chi non era stato come si arrivò a questa determinazione di uscire Antonino Badalamenti era in contrasto col cugino Gaetano Badalamenti si era in contrasto per un periodo si alternavano questi periodi quello che allora si diceva che certamente Nino Badalamenti poi non era più affidabile alle persone emergenti tutto qui Presidente quando una cosa non la so io non so particolare noi non vorriamo io vi ho chiesto sempre se è a sua conoscenza diretta o se ne ha sentito parlare naturalmente in questo caso da chi ne ha sentito parlare non un sentito così e basta naturalmente nell'ambito della nostra famiglia ecco di Stefano Gallina lei ha sentito io l'ho conosciuto personalmente Faneddo io lo chiamavo Faneddo Gallina l'abbreviazione di Stefano Faneddo l'ho conosciuto in alcune circostanze perché facevamo un contrabbando di sigarette scaricavamo sigaretta Marina Longa di cui lui a un 5-600 metri da Marina Longa aveva uno stallone però non so se di sua proprietà perché in quel periodo era sequestrato dal tribunale questo stallone non so precisamente a chi si appartenesse uomo d'onore anch'esso di Cinese in precedenza negli anni passati gli era stato ucciso un altro fratello di questo Stefano Gallina niente ho avuto dei contatti così della sua uscisione sa qualche particolare no niente no non sa regioni moventi no ma va bene non sa nulla è di Bruno Francesco lei ha sentito parlare l'ho conosciuto Bruno Francesco adesso Francesco Bruno adesso non mi viene bene questo nome in mente potrebbe dirmi qualcosa di appunto coinvolto nell'omicidio di questo Stefano Gallina un piccolo imprenditore un piccolo costruttore no non mi viene niente niente su Bruno Francesco va bene andiamo all'altro ecco allora ecco Mafara Francesco che c'è qualche altro va bene facciamo Francesco e poi Mafara Francesco e Grado Antonino Grado Antonino a cui io mi riferisco in questo momento è il Grado Antonino del gruppo dei fratelli va bene dei fratelli Grado ma c'è un altro che è un cugino quello dell'indipendente quello dell'ente teatro stiamo parlando di Nino Grado e di Mafara o Mafara come lo chiamavate voi altri Mafara Mafara sono stati uccise contemporaneamente mentre Nino Grado e Franco Mafara venivano strangolati il stesso giorno preciso veniva assassinato Giovannello Mafara dentro la perriera quindi per localizzare per puntualizzare il periodo storico il periodo storico dell'81 lei era in stato di detenzione i particolari come li ha saputi lo ho avuti perfettamente riferiti sia durante la mia cancellazione da Giovanni Battista Bullerà e poi l'ho preso direttamente anche da Puccio Puccio Vincenzo sì anche se Puccio Vincenzo era in caccia ma poi va solo l'ho saputo dopo sì vorrei ricordare questo particolare che lei credo che già in merito ho parlato di questa situazione sì infatti ne ha parlato io vorrei appunto in ragione di questo discorso che lei ha fatto in precedenza 42 43 ecco dire questo ecco lei si è espresso in questo modo sì ricorda quello che ho detto Presidente lo leggo perché lo sentano per tali motivi lo Iacono Pietro e Pullerà Giovanni chiesero a grado Antonino di portargli Salvatore Contorno per la sua eliminazione lei ne aveva parlato l'incontro di Cefalù i contatti Cefalù mentre invece lui diceva che non si incontrava in realtà Nino Grado non si era reso conto che la sentenza di morte era anche per lui accadde che il grado Nino sostanzialmente luce quest'ordine assumendo che non aveva alcun contatto con il cugino cioè il contoduccio Contorno mentre invece essendo stato perinato fu accertato che questi contatti vi erano più in particolare si apprese che il contorno Salvatore si incontrava con il grado a Cefalù in un residente di tale Costagliola Venne dato dunque l'ordine di ucciderlo alle famiglie di Santa Maria di Gesù e di Ciacugli e si stabilì che se il grado ed il franco mafara che camminava sempre insieme si fossero regati nel baglio di Nino Bontà avrebbero dovuto essere eliminati dalla nostra famiglia se invece si fossero regati nel baglio di Presti Filippo Salvatore quello detto Brucia Montagna sarebbero stati uccisi dalla famiglia di Ciacugli i due si recarono appunto in quest'ultimo baglio o meglio in un magazzino di pertinenza di Presti Filippo Salvatore ed i vi furono strangolati dal Presti Filippo Salvatore stesso da Presti Filippo da Greco Pino da Giuseppe Lucchese da Marchese Filippo ed altri componenti della famiglia mi hanno raccontato anche in particolare di cui in mafara si è messo a piangere attribuendo anche alla sua morte il fattore della fabbrica di calcestruzio ora io la Corte vorrebbe appunto sapere questo in sostanza la direzione della diciamo della decisione di sopprimere Grado Antonino era appunto volta a Grado Antonino no a tutte e due ecco siccome si dice qui parrebbe poiché stavano sempre insieme si beh se insomma insieme capitavano nel baglio Bontà tanto è vero nel baglio Presti Filippo beh ma le ragioni dovevano riguardare entrambi tanto è vero che io ho precisato che in quel giorno per collocare il giorno storico della loro scoprima comparsa in quel giorno hanno ucciso Giovannello Mafano nella perria sì sì questo va bene e allora le ragioni per le quali perché per Grado Antonino se quel problema che era stato invitato ad avvicinare il contorno a cercare di prendere contatti con il contorno lui diceva che non lo incontrava invece non era vero le raccontano allora per raggruppare questo discorso le racconto un altro episodio che dopo la scomparsa di Mimmo Terese di Franco e dei fratelli Federico Franco Mafara incontra a Giovan Mattista Pullerà sulla circonvallazione si fermano scambiano in salute e Mafara tutto incavolato gli dice a Giovan Battista Pullerà sei un assassino sei un assassino poi c'erano dei dietro scena quanto riguarda Franco Mafara perché Franco Mafara era una persona molto legata naturalmente a suo zio rappresentante Pino Di Maggio molto legato a Antonino Grado a Stefano Bontade ed era era tutto un piano già preparato perché era molto legato con i fratelli Lupo che a sua volta poi sono state inchieste strangolate Lupo Benedetto Benedetto il fratello e Luigi quindi è collocato tutto in una situazione di strategia appunto per eliminare tutte quelle persone di una simpatizzante di un certo gruppo quando lei dice era molto pericoloso lasciarli in vita perché avrebbero potuto creare delle rappresaglie e unirsi con gli altri tanto che nel periodo dopo la morte di Stefano Bontade sono state per un periodo a Gebirrossa anche in casa di Desimone Antonino e in una casa di fratelli Grado pure a Gebirrossa sia il Grado mio Desimone è quello parente dei parente dei miei parenti ecco parente dei Vernengo Pesedro chiamavano quello del processo di quello che è stato assoluto da tutti gli articoli neanche l'IBM si è appellato ora mi dica una cosa lei ha fatto cenno a proposito di questo omicidio permetto che non è uomo d'onore non è uomo d'onore dunque ha fatto cenno a quell'episodio di Franco Mafara che diceva contestava la circostanza che il dissidio per quelle fabbriche tra le altre cose gli ha detto io sto finendo mi stai ammazzando anche per questa e Nino Grado l'ha richiamato all'attenzione come nel caso di Santino in Serillo dicendoci faccio fare i quei noti ho capito ma su questo episodio circoscritto va bene a questi interessi attorno agli stabilimenti di Calcestruzzo lei può dire qualche cosa che era un fatto ricorrente che si legge sapeva che Filippo Marchese Molinciana era diciamo in società con questa fabbrica di Calcestruz non so se figurasse o meno in questa fabbrica di Calcestruz era anche una zona operativa da dove venivano fatte spedizione punitive per uccidere persone della zona e anche fuori zona un punto di regiovo Lei a quale si riferisce in particolare quella di Marchese Filippo e lo stabilimento di Calcestruz dei Mafara no quella era un'attività lavorativa dei suoi fratelli sì anche del Franco del Giovanni Giuseppe Pippo Giovannello tutti i fratelli a eccezione di quello che è morto sull'aereo che era capo di Cina prima della famiglia di quello di Punterai sì l'incidente di Punterai sì ma come lei ha fatto proprio appunto riferimento a questa contestazione sia pure tra le altre ragioni tu mi stai perché c'è il problema dello stabilimento di Calcestruz praticamente una concorrenza Presidente io riferisco quello che mi hanno detto quello che è stato io volevo dirle se sapeva di altri interessi che ruotassero attorno bene a questa perché c'erano altri stabilimenti che si occupavano bene di appunto di Calcestruz e che avevano stabilito le altre cose per cui è stato ucciso che il Mafra ha detto in quell'occasione c'era il problema del questa era la sua convenzione anche del Mafra perché sentendosi la coscienza pulita perché non aveva nessun complotto contro nessuno cioè le altre cose ha detto tu mi stai ammazzando anche per questo fattore di Calcestruz perché quello è stato un periodo che Pino Greco Scarpa e Filippo Marchese scalpitavano e gli altri Salvatore Reina gli altri li facevano scalpitare perché gli rendeva gli faceva comodo che questi scalpitassero anche così si sarebbero bruciati loro stessi con le loro umani e poi qualcuno si sarebbe andato a lamentare per il cioppo strapotere troppo scalpitare perché addirittura uccidevano anche a quello che vendeva le palenelle o a quello che vendeva anche le persone delle borgate che mai sarebbero morti ieri lei ha fatto un cenno a questo fatto di uccisioni così nel mucchio non c'erano problemi di una vita umana quindi cioè non avevano alcun rispetto hanno ci sono i teledifresco altre persone che questi sono gente tutti lavoratori solo perché si pensava che potevano dare appoggio al contorno fare dire allora non volevano lasciare in piedi specie o modonore che erano di una corrente simpatizzante di altre persone appunto lasciarle in vita perché un domani avrebbero potuto cercare di capovolgere la situazione non criminalmente come volevano fare sanguinalmente loro ma cercare di portare un po' di rasserenazione in seno a Cosa Nostra sempre tra virgolette in quello che competeva Cosa Nostra anche per delitti esorzioni e tutto il resto ma cercare di avere una pace maggiore ha sentito di uno un zio Pippo come zio zio Filippo zio Filippo Fasulino no Fasulino sarebbe il figlio il figlio non ho capito Presidente zio Filippo e il figlio detto Fasulino ne ha sentito parlare così in questi termini zio Filippo uno un individuo detto zio Filippo e un figlio di costui detto chiamato inteso Fasulino non mi ricordo c'era solo uno nella nostra famiglia che è stato ucciso Salvatore Zercone che noi chiamavamo Sassolino non so in che epoca lei si riferisca Fasulino no Fasulino va bene non mi dice niente non le dice niente passiamo ad un altro perché tanto questo ho già detto abbastanza ad un altro di Mafra Giovanni e lei poco anzi parlava del fatto per rimarcare il fatto temporale che del resto è storico rimarcare ha messo appena gli ho chiesto di Giuliano Antonino in Mafra Francesco lei ha subito aggiunto che lo stesso giorno venne ucciso Mafra Giovanni per riferire temporalmente il 14 ottobre dell'81 ma sulla eliminazione di Mafra Giovanni può dire qualche altro particolare oltre il mero riferimento poiché Giovannello Mafra era un uomo d'onore quando avrebbe appreso la scomparsa del fratello sarebbe stata una persona pericolosa ecco questa è la regione non so dire altro a volte ci sono cose che non sono tanto logiche nel comprendere ma pure è semplice strategia che loro adottavano era questa va bene passiamo a me Emanuele Mazzola ucciso il 5 ottobre no credo no detto Mulincenella è sbagliato Mulincenella è un altro della nostra famiglia Emanuele Mazzola ucciso il 5 ottobre 81 credo che fosse un lontano parente di contorno o della moglie non lo so e sui e sui e sui particolari su questo Presidente mi ripeto sempre io si inquadrano sempre in quella chiamiamola strategia volgarità di eliminare tutte quelle persone che per un conto per l'altro anche se non erano uomini d'onore come Grado Antonino quello ucciso in quella fabbrica in quella stabilimento e cose per dare dei dispiaceri come hanno fatto con me e anche in quel momento storico preciso per eliminare qualsiasi appoggio che potesse essere utilizzato nei confronti di contorno Salvatore ma lei non ne ha sentito parlare ne ha sentito ecco ne ha sentito parlare di che cosa Presidente di questo particolari ho preso dell'uccisione ed era scontato che queste persone erano uccise per questo è il fattore non ho altri elementi da aggiungere va bene ne ha sentito parlare e da chi potrebbe dire come ne potrei elencare tante tante ma dentro il caccere da persone della nostra famiglia poi c'è stato un periodo che siamo stati rinchiusi a eccezione di mio paio eravamo in dieci nella settima sezione e ancora prima eravamo alla nona sezione ed eravamo tutti uomini d'onore a cominciare da Pietro Senapa a cominciare da Franco Spadaro che sarebbe Giuseppe Francesco Spadaro mi raccontavano una miriade di uccisioni di cose fatte che a me non interessavano non occultavano nella mia mente per poterli riferire un domani perché per me erano cose scontate e chiare basta anche come un episodio che mi raccontavano quello che hanno ucciso un dipendente uno dei soci della ditta partanna bibide cassate di conte Federico che credo che sarebbe Gambino aveva ucciso a bordo di una 126 che è stato il Senapa insieme a Scarpe ed altro ma non ci tenevo attenzione non ci facevo caso di puntualizzare di certe cose va bene di Mandala Pietro si ha conosciuto Mandala Pietro e che cosa mi può dire del fatto dell'episodio del delitto che lo riguarda siamo sempre là perché era parente della moglie e parente sempre di Toduccio Contorno e di cui Toduccio Contorno si avrebbe potuto servire per un eventuale ritorzione sugli altri tanto che camminava armato e in quel periodo volevano anche uccidere Francesco Urso il genero di Pietro Vernengo perché ancora non erano sposati né fidanzati babbiavano così nel gergo quando si è presa questa notizia perché in quel periodo mia sorella era innamorata del figlio di del figlio di Fresco uno dei fratelli uccise a Conte Federico questo ragazzo è stato avvertito dalle poco fa l'abbiamo detto come si chiama il mandalà dicendoci è meglio che te ne vai di Palermo perché altrimenti è troppo tardi per te e per Franco Urso tanto che io ero nella stanza con Nino Vernengo un dottore sarebbe mio parente zio di mia moglie gli riferisco a questo episodio lui si dà una mano in fronte dicendo porca buttana questo è fidanzato vuola la figlia di Pietro Vernengo Pietro Vernengo dopo poco tempo è uscito dal caccio di Reggio Calabria si è preso la responsabilità nei confronti di questo Urso anche se non aveva nessun ruolo e nessuna responsabilità questo Francesco Urso nei confronti né di contorno né di chi sia ma loro avrebbero voluto anche eliminare questo Urso perché questo Urso si frequentava con il figlio del Defresco e se la faceva in quella zona perché abitante alla vicina ecco volevano radere al suolo tutte quelle persone che potevano avere contatto o con contorno o con amici o con parenti di contorno questo era il disegno dicerei questo ragazzo figlio del Defresco poi ha fatto pervenire un bigliettino a mia sorella dicendo senti io me ne vado perché ho paura ed è emigrato e se ne è andato e si è salvato senta Rugnetta Antonino lei l'ha conosciuto Rugnetta Antonino mi può parlare di Rugnetta Antonino oltre a quello che ha detto c'è stato un periodo c'è stato un periodo che con Rugnetta Antonino io e Mafra lavoravamo con le sigarette e le sigarette che noi sbarcavamo anche quelle di Marina Longa le davamo al Rugnetta e al Piero Sorbi quello che si è impeccato allo Cerdone e loro provvedevano alla vendita di queste sigarette e anche Rugnetta ha lavorato per conto di contorno a vendere le sigarette quindi si conoscevano benissimo il contorno conosceva benissimo il Rugnetta il Rugnetta è stato prelevato appunto per sapere se fosse a conoscenza dove il contorno fosse rinchiuso o se fosse rifugiato ciò mi è stato confermato e detto da Piero per Nengo di cui era partecipo allo strangolamento di questo Rugnetta e il quale il Rugnetta si rivolgeva proprio a lui perché era l'unico a cui aveva una particolare confidenza dicendo di volere un po' di tempo che poteva cercare di riuscire perché questa particolare confidenza nel campo perché era scaturita sempre nel campo di sigarette contrabbando e cose quindi c'era già una conoscenza consolidata mentre con Filippo Marchese con Scarpa e con gli altri non c'aveva confidenza questo ragazzo no anche se se la faceva sempre in un bar vicino ai Bagni Verzi di Verzi e questo viene parlato tra le altre ma non conosceva non aveva confidenza né con Filippo Marchese né con gli altri e quindi lei i particolari della soppressione di Lugnetto Antonino li ha presi dal cioè quando il Sirenaca ha fatto queste dichiarazioni qui commentando con Pietro Bernengo ha detto figlio di Bottana la verità sta dicendo su tutto il riguardo non avevamo niente a che tenere celato e le ragioni precise le ragioni più perché si arrivò alla soppressione va bene delle ma le ragioni sono quelle che ad eccezione si dice che in effetti il Lugnetto non sapeva nulla dei movimenti di contorno mi pare che così lei ha dichiarato che ecco presidente la persona con cui lei dice ma in effetti quel Lugnetto non sapeva nulla dei movimenti di contorno per una mente onesta umana e dignitosa è normale accettare che se una persona non sa niente si fa andare via ma per regola di cosa nostra quando una persona viene portata in un luogo fatta sedere nella sedia interroga e mette la corda al collo per cercare di attingere delle notizie non è mai successo ad eccezione di quello che mi riguarda personalmente della famiglia di Santa Maria di Gesù ad eccezione di Calmeleo risicato di cui lei ha parlato quindi il Lugnetto se sapeva diceva e sarebbe stato sciangolato non ha saputo non ha detto è stato sciangolato non se ne sarebbe andato lo stesso la sentenza di morte sarebbe stata sempre anche se non aveva nessuna responsabilità anche se non sapeva niente la conoscenza la conoscenza di io neanche io lo sento è una ripetizione di quello che abbiamo detto ora e che lei aveva pure accennato anche se non sapeva nulla lei ha fatto il doppio esempio avesse saputo non avesse saputo la sentenza sarebbe stata sempre di morte abbiamo un altro episodio specifico di cui ho parlato quelle due persone che sono state messe in un portabagaglio buttate vicino alle motelagge che avevano rubato a casa di un medico scusate un attimo un medico per favore chi è che sta male allora per favore il medico o l'infermiere in aula che quel soggetto che già altre volte sta venendo un momento di sospensione la gente infermiere c'è in c'è il medico anche ah c'è anche il medico non l'avevo visto chi è zanca 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 ci soffre da una vita poi dopo 5 minuti gli passa non è un uomo d'onore a proposito allora possiamo possiamo continuare come ha detto non è un uomo d'onore no questo a una vita che ci soffre lei ha detto non è un uomo d'onore ha detto così va bene l'unico uomo d'onore della sua famiglia è Carmelo zanca l'unico degli zanca l'unico uomo d'onore è Carmelo zanca è vero tutti gli altri non sono uomo Conofrio e Giovanni e Pietro zanca non sono uomini d'onore lei riconosce bene personalmente certo va bene ricordato che spontaneamente ha detto abbiamo chiarito secondo il discorso che fa lui che non è che l'imputato questo non è uomo d'onore va bene riprendiamo allora con il nostro discorso allora dove eravamo si passiamo all'altro quel salvatore di Gregorio si salvatore di Gregorio che era nella parentela si quello che è stato arrestato con Michele Mondino perfettamente si che poi ha fatto all'angolo di via Roma che poi ha fatto la dichiarazione si è stato strangolato questo ragazzo questo salvatore le ragioni le conoscete le ragioni perché appunto si era comportato male verbalmente dicendo che in un certo territorio apparteneva a Michele Greco in un altro a Stefano Bontade quindi dopo la sua scarcerazione è stato strangolato lei lo ha conosciuto personalmente si che individuo era questo non era un un ragazzo un rabbinatore era un rabbinatore sì il della sua soppressione questo si è sentito dire che è stato attribuito alla famiglia di Ciaculli perché appunto intaccava in quel periodo si è sentito dire questo nome sì ma non so particolari non so particolari precisi non sa particolari non ci è interessato va bene andiamo avanti Teresi Francesco Paolo Francesco Paolo Teresi sì credo che già ne ho parlato sì di questo lei ne ha parlato anche il discorso è fedelmente per come è scritto lì quindi per quanto riguarda Teresi Francesco Paolo si riporta a quello che ha già confermato fedelmente al contenuto della dichiarazione che già lei ha confermato parola per parola non ha da dire altri altri particolari c'è un racconto completo sì e va bene se vuole che lo ripeta no dato che lei si riporta integralmente alla dichiarazione che lei già ha confermato in tutta la sua interezza quindi possiamo passare avanti come Michele Ienna sarebbe Carnezieri attiviamo il microfono del consigliere relatore le domande che le faccio io quindi se il suggerimento proviene io ripeto ad alta voce va bene quindi non c'è una duplicità va bene di e del resto si vede anche dalle risposte che fornisce l'imputato d'altra parte compete a me porre le domande va bene quindi non c'è nessuna ma ma comunque dico dato che i microfoni ci sono li facciamo funzionare va bene e e allora per questo Ienna Michele sarebbe il fratello del gigante noi lo chiamavamo il carneziere lei l'ha conosciuto così di vista conoscevo suo fratello che noi chiamavamo il gigante sarebbe credo Mimmo non mi ricordo adesso che era in società il frigorifero della carne con Salvatore Contorno il fratello morto per causa naturale mentre questo Michele Ienna è stato assassinato appunto perché si diceva nell'ambiente che aveva dato ospitalità a Salvatore Contorno perché loro avevano una piccola stalla attigua proprio a Chiavelli dove Contorno per il passato custodiva alcune cabine di bestiame era stato assassinato per questo va bene credo che possiamo passare avanti vediamo in ordine cronologico in un tonino abbiamo parlato Boris Giuliani Teresi Sorbacionino storica di Fazio Tagliaviglio Cino Teresi Fincinico ad un altro in ordine cronologico se c'è qualche cosa poi ci ritorniamo in ordine cronologico vuoi sapere cosa viene Antonio Quino grado l'altro non lo conoscevo io non sa nulla quindi dei fatti che riguardano è un fatto attribuibile alla famiglia di Ciavulli ma non so niente di specifico attribuibile è una parola molto attribuibile perché era scontato che erano state ma lei non sa nulla non so niente di particolari che subvence anche questo in quel contesto di campagna esterminatore va bene comunque particolari lei non ne conosce va bene andiamo avanti in ordine cronologico lei poc'anzi ha fatto un riferimento indiretto a quei due fratelli di Fresco fratelli? di Fresco mi pare che ne ha parlato uno è Francesco mi sembra uno è Ciccio Nasca Francesco e l'altro Giovanni Giovanni li ha conosciuti? io no non li conoscerà uno è Francesco Nasca era una volta in società col padre di Carlo Greco adesso membro della nostra famiglia però non li ho frequentati mai non sa nulla dei particolari che riguardano i particolari che riguardano queste sono state uccise subito dopo l'uccisione di Michele Graviano e i particolari ne ha saputi? i particolari per noi erano scontati che queste persone erano state uccise appunto nei confronti di Salvatore comunque sui particolari non c'è niente quando saprò un particolare io stesso gli dirò su questo e questo come lei ieri diceva un po' che di stimolare un po' il suo ricordo allora restiamo che alle mie domande lei risponde con interezza di particolare bene e allora passiamo ad un altro episodio chi è questo Ignazio D'Agostino Ignazio D'Agostino lei l'ha conosciuto? Ignazio cioè sarebbe il padre di Rosario D'Agostino e lei l'ha conosciuto? non ci ho avuto confidenza non ha avuto confidenza quindi gli stia particolari conoscevo suo figlio Rosario D'Agostino che in carcere gli avevano promesso che aveva salvato la vita invece appena uscito che andava a lavorare normalmente povero ragazzo andava a lavorare l'hanno massacrato Rosario quindi in carcere è stato avvicinato come se vabbè non ti preoccupare perché non c'è niente e invece quando è uscito l'hanno ammazzato vabbè comunque su Ignazio D'Agostino non mi sa dire nulla non sa nulla vabbè andiamo ad altro Pietro Marchese Pietro Marchese Pietro Marchese Pietro Romano e l'altro come si chiama? Antonino Spica lei ha conosciuto Antonino Spica Pietro Romano e Pietro Marchese Pietro Marchese e gli altri due? adesso non me le ricordo Pietro Spica Antonio Spica non l'ha conosciuto non lo ricorda? no adesso non lo ricordo Pietro Marchese? sì molto bene molto bene in che senso molto bene? come uovo d'onore e come amico e mi può dire qualche cosa di questo Pietro Marchese e dei rapporti con la sua stessa famiglia di sangue ma il rapporto in che senso rapporti in generale rapporti di affari rapporti sentimentali relazioni va bene di contrasti beh non è che condividevano tanta simpatia con Filippo Marchese Pietro Marchese con Filippo Marchese lei dice qualche cosa al riguardo circa la soppressione questa famiglia è stata per lunghissimi anni sciolta questa di corso dei mille e Filippo Marchese aspirava sempre a divenire il rappresentante mentre Stefano Bontade ed altre persone non avrebbero mai voluto che lui divenisse rappresentante di questa famiglia perché era un un pazzoide completamente Filippo Marchese era cognato mi sembra di Pietro credo di sì di Pietro Marchese e i rapporti tra i due non erano dei migliori perché poi Pietro Marchese che era si era molto legato anche con Michele Greco aspiravano sempre un domani che questa famiglia si ripostituisse a divenirne il rappresentante non sapevano prima che doveva fare il rappresentante di questa famiglia e c'era anche Salvatore Rinella che aspirava tramite Stefano Bontade e Salvatore Inserillo un domani potere essere il rappresentante di questa famiglia quindi i rapporti non lo so cose precise che posso dirle semplicemente che di quel che mi risulta Filippo Marchese non era all'occorrenza perché gli hanno massacrato anche questo lei lo ha detto con una di questa situazione che Filippo Marchese era all'oscuro di questo dell'episodio che diciamo riguarda il Pietro Marchese quando andò via con Giovannello Greco lei ha saputo qualche cosa del loro poi arresto fuori Italia del loro ho saputo che stavano per andare via e sono stati bloccati alla frontiera e sono stati arrestati e ha saputo dove si sarebbero recati dove sarebbero dovuti andare dove essi volevano andare non lo so Presidente non ha sentito di questo ma degli altri due nominativi che ho detto naturalmente si volevano un po' allontanare per stare a guardare e eventualmente poter organizzarsi di conseguenza ma non so di preciso il Marchese Pietro lo ha conosciuto bene come? il Marchese Pietro lo ha conosciuto bene anche gli altri familiari anche Giovannello Greco perché poi sono diventati cognati si sono diventati cognati ma anche gli altri familiari del Marchese Pietro per esempio gli altri fratelli Gregorio ho conosciuto Piddo che sarebbe Giuseppe Pidale e Pato che era uomo d'onore mentre Gregorio non era uomo d'onore quello che hanno ammazzato a questa etaccia nel bellino dove c'era Filippo Marchese la moglie di Filippo Marchese e in relazione a questi episodi proprio di Casteldaccia e a queste eliminazioni lei ora ha ricordato quella di Marchese Gregorio sì c'è stato anche un altro Marchese Gregorio un ozio mi pare un più anziano paralitico addirittura se non prendo errore e mi dica cosa in relazione non vorrei sbagliare perché adesso sono passate tanti anni la domanda è diretta per ora ad appurare un altro particolare in relazione a questi fatti che avvennero a Casteldaccia che si aprirono anzi a Casteldaccia proprio con l'uccesione di Gregorio Marchese esatto si è parlato anche di a proposito di quella dislocazione geografica Casteldaccia Bagheria di triangolo della morte ha sentito di questo triangolo della morte certamente ho sentito dei delitti che venivano commessi si ma questa denominazione di triangolo della morte ma poi i giornalisti o la stampa le loro divulgano le notizie in un modo come più gli piace quindi di angolo della morte non so in effetti avvenivano degli afferrati delitti in quelle zone quindi loro l'hanno denominato di angolo della morte perché il problema è sapere perché questi delitti che diciamo in questo triangolo della morte Presidente io le posso dire solo una cosa di tutti quelli che sono stati uccisi o strangolati anche di quelli che ha detto Sinagra non ce n'è stato uno che abbia detto siamo a conoscenza dell'omicidio di Gregorio Marchese è stata tutta una strategia per fare uscire pazze e fare impazzire Filippo Marchese perché Pino Greco gli diceva questi parenti te li ammazzare tutti perché cercava in tutti i modi di arrivare a Giovannello Greco e a Spitalere tramite anche Di Gregorio sarebbe Di Gregorio Marchese quindi questa morte di Di Gregorio è rimasta un segreto un mistero nel senso che tutti quelli che hanno strangolato o che hanno eliminato nessuno sapeva un cavolo è stata nostra supposizione cosa è anche particolarmente mia che è stata una cosa commessa da Pino Greco scarpa all'insaputa di Filippo Marchese e tutti gli altri e che non c'è stata conferma di nessuno che abbia saputo dire le cause o l'eliminazione che era stato di Gregorio Marchese quindi una supposizione lei dice per quanto riguarda va beh guarda che è molto confuso su questo punto vediamo chi viene in ordine cronologico si inquadra nel contesto dell'uccisione dell'ipote di Pietro Iacola per fare capire che erano i perdenti scappati per fare vedere che facevano qualche cosa Francesco Mandala Francesco Mandala ne ha parlato con Pietro Mandala uno dei tanti del gruppo di contorno anche anche per Francesco Mandala Francesco Mandala che abbiamo Pietro Mandala e Francesco Mandala lo stesso il padre di tutto in questo contesto si inquadra comunque particolari possiamo arrivare anche a recente quei poveri muratori che si recavano dal lavoro alla casa che sono stati assassinati ben già andavano a casa possiamo parlare anche dei parenti dei cognati di contorno di cui è stato mio fratello l'autore semplice fatto perché erano parenti dei contorni mi ha parlato Corsino su Tio Totto Salvatore Corsino l'ha conosciuto lei Salvatore Corsino credo che sia lo zio che ha dato ospitalità un'altra cosa veramente dignitosa che ha dato ospitalità alla moglie incinta di otto o sette o otto mesi della moglie di contorno Mela Carmela solo per questo è stato assassinato non vi è altro accettare questa cruda verità o rinnegarla completamente questo è quanto posso dire io ma lei può dirlo in base a che cosa in base particolarmente per Salvatore Corsino alla certezza che si diceva insieme al nostro ambiente che era stato eliminato per questi motivi si diceva così lei come ha fatto come ha potuto notare io non ho nominato l'uccisione dei miei cari se qualcuno riesce a collocare una qualcosa di giustificato di significativo allora possiamo noi dedurre qualcosa di logico l'uccisione di? dei miei familiari non voglio toccare questo tasto ma se c'è qualcuno che può inquadrare in una logica non entra no ma facevo un esempio per dire che molte cose appaiono fantascientifiche o strane nella collocazione di fatti o moventi o questo e quell'altro ma io vi dico sono inquadrati in quell'ottica questo è quello che vi dico io anche se non sono scienze dirette perché le ho commesse io ma per quello che ho saputo è quello che ho sentito dire ed è niente perché se chiedevo avevo fiducia di poter sapere ma non mi interessava chiedere perché ero nauseato di quello che succedeva quindi non ha chiesto di questo non ha chiesto per Salvatore Greco Giacomo Cina e Vincenzo Pesco sono persone che a lei sono le ripeto uno per uno Salvatore Greco sarebbe il padre di Giovannello Greco Cina e Pesco Cina e Pesco perché era parente di Giovannello Greco quindi sempre quella stessa strategia di cui lei parlava per i parenti di Totuccio il suocero di Giovannello Greco era compare di mio zio Costantino Antonino una perla di galantuomo lavoratore dignitoso lui e suo figlio studenti li hanno massacrati perché erano suocero e cognato di Giovannello Greco non vi è nessun particolare o movente o giustificazione va bene non abbiamo capito un diamante un bello greco i figli di Buscetta e cosa c'entra Buscetta e tutta sta facendo i figli di Buscetta la scomparsa dei figli lei ha conosciuto Buscetta un paio di volte l'ha vista sì da Mayoc durante la sua latità al fondo Magliocco i figli di Buscetta lei ho conosciuto Antonino Antonino soltanto a che soggetto era? in carcere non era uomo d'onore non era uomo d'onore ma era un ragazzo così un mezzo troffardino cioè uomo da poco no nel senso che faceva anche qualche piccolo assegno diciamo a vuoto a vuoto ma un ragazzo che non aveva niente a che vedere con l'ambiente di Cosa Nostra ha completamente niente da vedere non era uomo d'onore e mi dica un po' benedetto e benedetto non lo conoscevo non lo conosceva ma sulla soppressione o comunque la scomparsa di questi due soggetti che cosa mi può dire? no niente ho preso semplicemente la scomparsa un'andizia storica solo e nient'altro che questo? posso dire che in ripercussione all'attentato di Pino Greco Scarpera nel Natale credo dell'82 si è scatenata poi una vendetta contro Vincenzo Buscetta che conoscevo il vetraio il vetraio il figlio che era un uomo pure lui benedetto chiamavamo l'omosessuale un povero ragazzo il figlio di questo il figlio di il genero della figlia di Tommaso Buscetta che era un lavoratore quello di Genova nella pizzeria e poi è stata una vendetta scaturita ma lei il Genova lo conosceva? no non lo conosceva? e la figlia di Tommaso Buscetta la figlia l'ho conosciuta tanti anni fa in un'occasione che sono andato in un loro vellino sotto Monte Pellegrino in una circostanza che avevano chiesto dei soldi alla fabbrica di Vecce di Vincenzo Buscetta mentre ancora Massino era detenuto avevano andato a chiedere questa cortesia erano dei sciacalli che facevano delle telefonate l'ho conosciuta solo in quell'occasione parlo degli anni 70 quindi il marito Genova no non me lo ricordo sicuramente l'avrò visto qualche volta ma non me lo ricordo non me lo ricordo quei due parenti del Genova quei due d'amico che si trovarono nella pizzeria quando vi fu non li aveva non ricordo di conoscerli non ricordo va bene di conoscerli quindi tutto quello che sa su questi episodi è quello che ci ha detto ora al di là di questo non non sa andare anche perché Pino Greco Scarpa dopo l'attentato è stato ospite della nostra famiglia Santa Maria di Gesù in casa di Ignazio Pullaran che nel frattempo aveva assunto il ruolo di regente dopo l'arresto su questo attentato lei che cosa mi può dire si è saputo che era opera di persone scappate perdenti ma chi non lo so si è saputo cioè correva questa voce si che lui si è salvato miracolosamente perché la macchina è stata tutta sforacchiata quindi si diceva che fossero persone perdenti o scappati naturalmente persone contro a lui si vuole dire dopo l'attentato dove si rifugiò di nuovo lo vuole ripetere insieme con Ignazio Pullaran e saprei indicare il posto so dove è il posto vicino alla centrale Enel di Chiavelli la centrale Enel di Chiavelli e vi rimase per tempo rimase per alcuni giorni poi si cercava un posto più sicuro tanto che avevano richiesto la loro e la sua collaborazione a Saccone sarebbe Orazio Saccone Michele Saccone quello che lei chiamava Michele non si è tanto messo a disposizione cercando di eludere questa cosa che poi se la sono conservata anche perché era molto intimo con Stefano e poi si doveva eliminare non si è eliminato perché è morto di causa naturale un certo Giuseppe Romano detto l'americano lo conosce non credo di ricordarlo Giuseppe Romano l'americano non credo di ricordarlo non lo non lo non lo non lo non lo non lo conosciuto ma non non lo ricorda va bene andiamo a un altro episodio e Gaspare e Michele Ficano chi sono? Gaspare Ficano e Michele Ficano credo che già l'ho detto si mi pare che proprio erano i parenti un certo Paolo Amodeo Paolo Amodeo c'era pure l'altro Amodeo si Paolo Amodeo non lo ricordo Giovanni Amodeo per ora non mi viene niente va bene particolari quindi niente questo è stato detto l'elettricista Lillo una femminuccia una femminuccia lo precisi meglio la corte per evitare equivoci nel senso che era un uomo completamente quello che si dice una dama una persona gentile una persona gentile perché dicendo una femminuccia appunto una persona gentile educatissima lei lo conosceva Bellini? personalmente si perché a volte andavo con Nino Grado con Franco Mafare in casa di Rosetta la moglie che era parente appunto questa poveraccia dei Grado e di questo Bellini Calogero che cosa mi può dire come come fatto mi ripeto sempre va bene sullo stesso contesto va bene lo stesso contesto quindi particolari non ne può dare niente in ordine alla soppressione Sorci Sorci Nino Nino e Carlo e poi va bene Francesco Sorci Nino Sorci Carlo il figlio gli esecutori non sono imputati in questo processo lei ha dato qualche particolare mi riporta si riporta alla dichiarazione già confermata per quanto riguarda posso dire è anche scritto lì che Giovanni Pullarà incaricato da Sabato Lerreina si è recato per fallo si riporta a quello che ho dichiarato e che lei ha ripetutamente confermato per intero e per quanto riguarda Sorci Francesco sarebbe l'episodio di giugno perché Sorci Nino e Carlo e Aprile Sorci Francesco già era in viso da tantissimi anni perché prima di essere capomandamento la nostra famiglia Stefano Bontade lo era Nino Sorci un ricco prima di Nino Sorci un ricco lo era Ciccio Sorci questo di cui ha parlato lei e siccome c'erano dei contrasti a tempo della Barbè e del Cavataio della prima guerra di mafia che lui si era schierato cioè era un po' diciamo nei confronti di Michele Cavataio manteneva una certa intimità mentre da quasi tutto il gruppo diciamo di Stefano Bontade di Salvatore Rina e degli altri su Cavataio era una persona che andava completamente eliminata mentre lui già teneva qualche ancora qualche rapporto con me sottostava a qualche a qualche regola del Cavataio per il passato vecchia rucera dei rapporti dei rapporti economici che riguardavano questi sorci interessi che si proiettavano in società etc. lei sa qualche cosa? No società di che genere? Ma è così ma per esempio lui era un proprietario terriero oltre a questo lui stava costruendo delle ville in Valle Fiorita dove mi ha venduto un terreno anche a me in questa zona e questo chi esattamente? Nino Sorci che credo che in quel periodo fosse in società con Rosario Marchese non so che tipo di società ma comunque hanno lottizzato la zona anche lì dove c'è la casa anche Rosario Marchese Valle Fiorita e non c'è altro di questo va bene lei ha conosciuto Silvio Badalamenti sarebbe nipote di Tarino Badalamenti esattamente era adesso non ricordo era un impiegato un impiegato sì che è stato assassinato credo un paio d'anni fa beh insomma qualche cosa di più qualche compagno qualche cosa comunque non so dire niente di particolare di Silvio Badalamenti non sa nulla prendiamo il che vedete alla chiesa è vero? il Boris Giuliano abbiamo sostanzialmente lontato lontato sentito pure dobbiamo cominciare l'omicidio che riguarda il compianto professor Giacchone lei ha avuto saputo qualche cosa è in grado di dire alla corte qualche cosa Giacchone il medico legale se l'ho capito presidente Giacchone è stato un omicidio deliberato dalla commissione sulla spinta infocata di Filippo Marchese ma non di sua spontanea iniziativa come non di sua spontanea iniziativa cioè nel senso che lui ha stimolato la spinta che fosse decredato questo omicidio perché lui non faceva altro che le sue funzioni di uomo di stato e uomo regolare per manomettere quella perizia e lei da chi ha preso questo? in seno a Cosa Nostra presidente non ero fuori non ero partecipe e non ero lì in seno e io infatti gli ho chiesto da chi ha preso perché so benissimo che lei fino al 12 maggio dell'83 era in carcere ma siccome lei più volte si è riferita a notizie apprese durante la sua detenzione io le sto chiedendo appunto se avesse per caso ha saputo qualcosa e da chi in questa l'ho preso da molti uomini d'onore anche da Salvatore Montalto da Ignazio Pullerà e da Giovanni Battista Pullerà da altre persone e adesso non vado a registrare il particolare preciso da chi e me lo appuntavo e me lo scrivevo era scontato che il discorso era questo ma sui particolari non ha saputo nulla no va bene andiamo lei ne ha parlato del resto il nome lo sulegge nelle sue dichiarazioni di Alfio Ferrito si l'ho conosciuto personalmente ma dell'omicidio di Alfio Ferrito dell'omicidio so che c'è stata una collaborazione con alcune catanese però un ruolo nel senso che hanno saputo portare le battute le disporzamenti precise e l'omicidio è stato commesso sul territorio qua e ci covallazione adesso non mi ricordo preciso dove è stato ma beh comunque è un fatto storico il posto è quello e non può essere messo in discussione ma lei diceva di una collaborazione un intervento va bene di catanesi si che è quello che si è sentito di catanesi al contrario del delitto della chiesa in cui non ho mai saputo della partecipazione di catanesi cioè mentre per il delitto di Alfio ferlito di questa partecipazione di catanesi la non partecipazione materiale ma partecipazione del ruolo di ma le ultime allora per quanto due minuti va bene allora sospendiamo un attimo c'è un problema tecnico nella cabina di registrazione di qualche minuto quindi non conviene neppure allontanarsi il guasto lei non appena abbiamo fatto cenno al Alfio ferlito e le ho chiesto dell'omicidio che riguarda proprio l'alfio ferlito lei ha detto dell'omicidio di Alfio ferlito c'è stata una collaborazione con i catanesi preciseremo in che senso al contrario del delitto della chiesa per il quale non ho mai subito sentito alcun ruolo dei catanesi per quanto riguarda quella collaborazione del delitto ferlito lei ha precisato che non non si trattava di partecipazione materiale mi pare che così ha detto quindi era intesa in un piano diverso mentre a differenza del delitto della chiesa non ha sentito che si parlasse di un ruolo di catanesi io non l'ho mai sentito ritorniamo per un attimo allora vi riallaccio al discorso che non tutti possiamo sapere tutto di tutti io non ho mai sentito la partecipazione dei catanesi nell'omicidio della chiesa nell'omicidio della chiesa ritorniamo all'omicidio ferlito per un attimo non ho saputo solo che c'è stato un collegamento con i catanesi in base a fornigli e notizie dei movimenti precisi del carcere di Enna per essere spostato tutto qui questo e non ha saputo altro credo che sia stato fatto nel territorio di Giacomo Giuseppe Gambino se non prendo errore perché adesso non mi ricordo precisamente lei ricorda per ora in questo momento con il beneficio del dubbio però mi dica un poco e allora passando dato che dell'omicidio ferlito non mi può dire altro passando invece all'omicidio della chiesa sul quale lei si soffermi era una persona da eliminare perché era molto intimo di Salvatore Inserillo di cui ha ciascosto la titanza da Salvatore Inserillo è venuto anche dentro il laboratorio a ciascorre la titanza sì questo lei ne parla a proposito degli episodi di droga è stato la titanza da Magliocco da Stefano Bontate era molto intimo con Stefano Bontate ha avuto dei momenti prima di intimità e poi di conciasto con Nitto Santa Paola in questo contesto lei quindi Nitto Santa Paola proprio a chiusura si può dire quasi delle sue dichiarazioni cioè di non ricordare di averlo non mi ricordo che se lo vedo me lo ricordo ma adesso non mi ricordo di averlo conosciuto comunque concludendo sul fatto ferlito lei ha sentito di questo tipo di collaborazione di cui lei ha parlato prestata dai catanesi indicazioni di catanesi ma comunque nominativi di catanesi non sono stati fatti io non ho sentito e non ho chiesto non ha sentito e non ha chiesto va bene andiamo all'omicidio dalla chiesa omicidio come diceva Pocanzi sul quale lei si è fermato in una pagina delle sue dichiarazioni e premettendo che si trattava di notizie che lei aveva sentito in seno all'organizzazione durante la sua la sua detenzione alla nona sezione alla nona sezione ne avrà poi sentito riparlare quando era la titana quando evase dal carcere non ricordo dove era approfondito va bene allora avendo detto lei che non sentì parlare di collaborazione di catanesi o di interessi di catanesi proiettati in questo omicidio ecco che cosa ha sentito oltre quello che lei ha detto al procuratore della repubblica e che oggi può dire alla corte se può fare qualche altra puntualizzazione io posso puntualizzare solo questo che quando è venuto dalla chiesa il prefetto della chiesa a Palermo era proprio un rompipalle nel senso che dava fastidio veramente sotto tutti gli effetti perché conduceva un lavoro veramente impegnativo contro la criminalità organizzata contro cosa nostra e stava molto diciamo sulle scatole a quasi tutta la Sicilia ed è stato deliberato questo omicidio con una scelta spavalderia come infatti ci sono quelle telefonate e quelle cose anticipate la campagna della chiesa e questo e quell'altro ciò è stato agevolato anche dal fatto che lui non voleva scorta non voleva niente e quello che si è sentito si è anche brindato alla nona sezione dopo l'assassinio della chiesa e della moglie perché la moglie non è stata un colpo accidentale ma bensì è stata sforacchiata più di lui si è brindato per questo assassino e un discorso scaturito e deliberato dalla commissione di cui si vocificava che erano gli stessi gruppi di fuoco uomini validi in gamba di Cosa Nostra che avevano commesso i precedenti omicidi eclatanti di cui Stefano Bontate ed altri tutto qui quel gruppo di fuoco che lei elenca nella dichiarazione non ho mai sentito di Catanese non ho mai chiesto se fosse stata vera o no la partecipazione di qualcuno dei Catanese né ne aveva sentito parlare e ne ho chiesto in quel momento né le ha chiesto né mai ne ha sentito parlare in un momento successivo ma data diciamo la sua e non vedo il perché i Catanese dovevano venire qua o se avrebbe voluto richiedere l'aiuto dei Catanese a commettere un delitto queste sono delle considerazioni che faccio io come persona appartenente come Presidente queste sono delle considerazioni che altri hanno fatto in senso contrario a quelle che ora lei sta facendo lei dice non vedo io faccio le mie perché io faccio le mie e appunto gli altri fanno le loro e va bene lei mi deve dire più fatti che non considerazioni io mi posso limitare a quello che a mia conoscenza di memoria e non altro lei di questo non posso aggiungere cose di cui non so appunto per questo dico infatti di questo brindisi di cui lei ha parlato cioè questo brindisi la gioia che era stato ucciso che lei ha veduto nel volto di chi faceva il brindisi ma certamente Presidente sto parlando che l'intera in una sezione si è brindato ma non champagne come si dice cose ma prendiamo delle buste di vino brindiamoci a faccia della chiesa tutto quello a cui lei ha partecipato sì quindi per cioè partecipato direttamente nel senso che cosa io mi trovavo lì quando si brindava sì io ero detenuto sì ha partecipato dico a questo ma Presidente io allora ero un uomo di cosa nostra e anche se queste cose erano ripugnate dalla mia coscienza adesso non mi ricordo credo che non ho partecipato ma anche se avrei partecipato erano ripugnate dalla mia coscienza credere o non credere no vabbè io sto chiedendo a lei di rispondermi era un particolare una connotazione delle tante cose che lei ha detto perché non siamo stati noi è lei che ci ha spiegato che c'è stata questa va bene una manifestazione di gioia va bene per la fine del generale della chiesa è ancora più terribile il particolare della chiesa non ho mai manifestato dalla chiesa e diciamo come si dice e del povero agente che era con l'oro ma anche in altre in altre in altre anche in altre circostanze non ho mai manifestato entusiasmo per dei delitti nonostante io non sono un spirito di santo perché anche quando hanno ucciso Mario Presti Filippo o d'altro tutti giocavano a pallone chi faceva chi diceva anche dopo la scomparsa di mio fratello che ripete a dire non parlo di queste cose perché non ero niente a che vedere in questo processo e tutti erano gioiosi continuavano a giocare e fare a dire anche quel poveraccio che voglio anche lanciare e lanciare un messaggio quel poveraccio di Giuseppe Presti Filippo che gli hanno massacrato Mario Presti Filippo lui sappia perché l'avrà letto le mie dichiarazioni che a Vincenzo Puccio gli era arrivato il mandato di eliminare di uccidere lui ad Areano Irpino e Vincenzo Puccio si è rifiutato quando hanno insistito Vincenzo Puccio ha chiamato a sé come a Farsi aiutare Giuseppe Madonia tutto si è riviato questo povero ragazzo come gli altri ancora come suo parente suo zio Brucia Montagna e gli altri si illudono che la cosa di Mario Presti Filippo sarebbe stata regolare che le sue colpe erano eccessive talmente che non si poteva evitare di essere massacrato quindi che continuano a illudersi che scacciano via questo demone che esiste ancora insieme a Cosa Noce quindi ritorniamo un momento all'omicidio dalla Chiesa oltre quello che lei ha detto solo quello che so Presidente oltre quello che lei ha detto al Procuratore della Repubblica e oltre le aggiunte o le precisazioni che ha fatto oggi non può dire altro alla Corte in me non ci sono riserve mentali Presidente ci possono essere cattivi rivolti prendiamo atto di quello che lei dice registriamo quello che lei dice come vede tutto viene registrato per essere fedelmente conforme a quelle parole che lei dice non voglio rievocare il periodo che ho attraversato grazie a tante persone quindi anche se il mio stato d'animo è molto turbato io sono qui e sono abbastanza lucido se qualcosa c'è non è riserva mentale ma è una confusione mentale o un non ricordo solo questo Presidente va bene va bene un completamento soltanto per quanto riguarda questo ultimo episodio lei poc'anzi diceva qualche cosa della moglie del generale della chiesa la povera signora Anuela Setticarraro dicevo in particolare che non è che è stato ucciso dalla chiesa è un colpo di striscio accidentale è stato è stata colpita la moglie la moglie è stata massacrata ma volutamente ma certamente perché era stato così stabilito oppure era una puttana che si era sposata con un generale dalla chiesa non si ecco no se non si riesce un attimino a pensare con quella mente malefica con quel demone che regna dentro cosa nostra non si può arrivare a capire veramente la crudeltà ma questa espressione così cruda si si cruda dico è volgare oltremodo io mi scuso con la corte è offensiva per la memoria di una nobile donna dico lei ma non sono parole non sono parole mie è chiaro è evidente sono parole mie è evidente questo che non toglie che l'espressione rimane cruda volgare io mi scuso con la corte e con la memoria di quella donna ma lei dico l'accolta in quell'ambiente cioè le parole certamente che venivano pronunciate per offendere la dignità per offendere la dignità di quella persona ecco di quella gentildonna mi scuso di nuovo ma non sono parole mie sono uscite dalla mia bocca adesso ma ho detto quello che è stato allora il commento sì sì quindi il commento se lo può fare perché stiamo per concludere questo round va bene salvo che non abbia un particolare interesse a un'immediata va bene domani beh credo che connotazioni semplici la possiamo fare subito dopo ci rimane Zucchetto e lei ha conosciuto dico conosciuto nel senso che si può conoscere una persona anche se si milita in campo opposto la gente di pubblica sicurezza Zucchetto no non l'ho conosciuto ha il ricordo che anche se io abitavo a Ciacullo e lui dice che frequentava eh appunto per questo le sto chiedendo perché conosceva qualche altra persona di quella zona credolo il 74 fine 74 ma non mi ricordo di averlo incontrato comunque lui era si frequentava si conosceva molto bene dal ragazzo con Mario presti Filippo con Giuseppe Greco Scarpuzzette sì questo lei lo ha preso perché lei lo Zucchetto non lo conosceva no non lo conosceva e da chi l'ha preso di queste conoscenze sempre nell'ambito di cosa nostra cioè era una persona che era molto furba molto scalzo era un un investigatore in cambio così si diceva nell'organizzazione sì e sui particolari ed era padrone dei movimenti di sapersi muovere a suo agio nella località di Ciacullo sì e i particolari i particolari relativi alla fine dello stesso Zucchetto lei questo storicamente avrà saputo che lo Zucchetto non so gli esecutori materiali precedenti è stato soppresso nella via notarbattolo vicino a Collica quindi sono fatti storici accanto a Longo sì che conosciamo tutti sui particolari relativi va bene alla fine adesso non mi ricordo del perché lo Zucchetto si trovasse in quel posto e giusto appunto andando a cadere sotto i colpi dei criminali che lo hanno ucciso dico lei di questo non sa dire nulla non ricordo particolare di sorta adesso non ricordo nessun particolare e per tornare a un'espressione sua che ha usato più volte ne ha mai chiesto nulla in proposito no va bene mi pare mi pare che abbiamo esaurito il così per quanto riguarda le informazioni che la corte ha ritenuto di dovere chiedere all'imputato Marino a noi in ordine a fatti che sono oggetto di questo processo mi sembra che abbiamo la corte sta per concludere lo dico perché se qualcuno dei difensori ha da fare delle domande in ordine agli episodi di cui ci siamo occupati sia cinga va bene a farlo se i difensori preferiscono a conclusione perché la corte dovrà fare altre domande in ordine ad altri episodi che hanno un taglio diverso e quindi ve lo dico appunto perché vi sappiate va bene regolare sono va bene va bene allora continuiamo va bene e allora passiamo all'episodio del vediamo soltanto un attimo va bene di sospensione che prepariamo un secondo round che non sarà lungo e quindi poi potete eventualmente va bene fare le vostre domande un po' di silenzio riprendiamo lei ha conosciuto Maurizio Loverso Giovanni Fallucca Giacomo Sparacello e Domenico Ingrassia spiace Maurizio Maurizio Loverso Giovanni Fallucca Giacomo Sparacello e Domenico Ingrassia questo momento così non le dicono niente questi non le dicono niente e delle persone che furono diciamo coinvolte in una rapina a un a Figarazzelli posta ma non le dice non le dice niente questa mi pare che di Gino taglia via ne abbiamo Ginetto sì ma per quello dell'episodio riguardante sì ne abbiamo parlato della ragione della uccisione no non so niente non so niente dell'omicidio di un certo Orazio Fiorentino io ho detto poco fa mi scuse Presidente che sono stato alla settima sezione rinchiuso che eravamo dieci persone tutti uomini d'onora eccezione di mio padre e c'era Pietro Senapa e Giuseppe Spataro Francesco Spataro non il figlio di Masino il figlio di Pino e me le raccontavano una miriade di omicidi da loro commesse io non so dire le bugie dico la verità per quella che è la mia verità può aspettare a voi giudicare quale che sia la verità o quale sia la cosa e così deve essere è certo rappresentiamo lo Stato dunque quindi qualcosa mi dice questo taglia via però non posso essere preciso perché non non mi interessava registrare nella mia mente i particolari o i ricordi di queste chiamiamole così fatti di comune amministrazione e allora vediamo l'omicidio di Orazio Fiorentino le dice qualche cosa questo nome Orazio Fiorentino si inquadra nella stessa credo nella stessa situazione del corso dei mille nella stessa inquadratura di cose ma non sa dire nulla in ordine il soggetto ricorda un Orazio Fiorentino no come soggetto no no va bene io ricordo di averne sentito qualche accenno di questa situazione da parte di credo di di Spadaro di Giuseppe Spadaro crede credo di ricordare ma non posso essere sicuro e un individuo che si chiamava Giuseppe Finocchiaro ha un ricordo come? Giuseppe Finocchiaro è un fatto avvenuto in via Messina Marina nel settembre dell'81 non le dice niente questo nome non mi ricordo però ha conosciuto un individuo che si chiamava Francesco Patricola si era un uomo d'onore di questo dei mille e della fine di questo Francesco Patricola può dire Ciccio Patricola eh Francesco Patricola della fine può dire qualche cosa ecco siamo sempre là Presidente credo di aver saputo qualcosa da Giuseppe Spatano ma qualcosa che ha saputo qualcosa come a livello di esecutore Presidente ma io quando non sono preciso quando non ricordo esattamente il contenuto cerco di di sorvolarci sopra conoscevo personalmente Francesco Patricola che soggetto era con tre bandiere di sigarette era un vecchio uomo d'onore di questo dei mille e con tre bandiere di sigarette volevano che suo figlio che lui indicasse la località che portasse volevano parlare col figlio quello da vecchio a figlio Stefano perché era intimo conservatore contorno quello da vecchio uomo d'onore e cose assurde poteva mai indicare dove si trovava il figlio cose assurde questo è il contesto Agostino Calabria lei l'ha conosciuto? uno che aveva il bar in piazza Scalpa di questo si diceva addirittura che era confidente perché anche sul caso mio raccontava Calzetta si è interessato perché io frequentavo quel bar lì e si vocificava chi era confidente dei carabinieri ma di particolare non so nulla anche se a me non mi risulta se era confidente o meno ma io non lo sentiva dire si è sentito dire si è sentito dire lui anticamente lavorava con il contrabbando di sigarette con i capiote gente del capo cosiddette capiote noi dicevamo gente del capo eh questi? si bene senta Rodolfo Busce prima di andare all'amat e prima di aprirsi il bar in corso di vita al capo era il suo no lavorava con le sigarette con gente del capo si insomma diciamo aveva rapporti anticamente rapporti con questi che lei chiama capiote che una volta gli hanno rubato un camion di sigarette Pietro Vernengo Salvatore Lopreste e Pietro Fascella ed altri anticamente pallo di fatti antichi una quindicina 18 anni fa Rodolfo Buscemi e Matteo Rizzuto lei li conosceva? Rodolfo Buscemi Matteo Rizzuto Rodolfo Buscemi credo che sia quello ricciolino eh e vediamo se lei può dire qualche cosa beh non conosciuto di avere confidenza sentito dire così aveva visto qualche volta questa Sant'Erasmo così ma non c'avevo confidenza Antonino Migliore no non c'avevo confidenza non è un nome che le dice comunque questo è Rizzuto credo che sia questo e mi dica una cosa dell'episodio nel quale furono per rimasero uccisi due personaggi che non avevano rapporti tra di loro ma che si trovarono va bene così coinvolti per un caso nella stessa donna Carmelo Loiacono e Antonino Peri ne ha sentito lei parlare Carmelo Loiacono Carmelo Loiacono un soggetto che mentre veniva portato in macchina in una certa località in un certo posto hai cercato di opporre ci hanno sparato nella macchina poi è avvenuto un fatto così che la macchina entrò in collisione con un'altra fu inseguita questo ne ho sentito parlare al 100% Nino Marchese è stata questa situazione se si riferisce a questo discorso no è un pazzo di catena si figura che durante la mia latetanza io ho appreso Nino Marchese Antonino Marchese ho appreso durante la mia latetanza che lui si è fatto indicare da un uomo d'onore della famiglia di cui appartenevo io un certo Giuseppe Calasciberta dove si trovasse Andrea Raccardi per individuare dove si trovasse è sceso dalla macchina senza dire niente e quello è andato a sparare e è salito nella macchina quello è rimasto come un scemo il Calasciberta cose che non riguardano questo processo comunque nell'episodio che io si si al 100% se l'episodio della Miniminor di quella macchina che poi stessa hanno sparato un altro al 100% ma al 100% che significa si che lui se ne vantava di questa situazione e lei ha sentito vantarlo però si si in compagnia anche di Vincenzo Puccia se ne vantava a un pazzo di catena si e dicendo che aveva che cosa che cosa aveva detto che aveva sparato bene si aveva sparato a quell'altra macchina che credo l'avevano sfiorato tamponato e crede a quello e vinci a rompere e l'hanno inseguire e l'hanno sparato tutto qui questo per l'individuo che era in quella macchina inseguita o inseguitrice che poi ma per l'altro soggetto quell'altro l'hanno sparato nella macchina adesso non mi ricordo chi c'era con loro adesso non mi ricordo chi c'era comunque l'hanno sparato nella macchina perché è quello che stava tentando di scappare l'hanno sparato nella macchina e lei questo da chi l'ha sentito personalmente da lui da Nino Marchese in compagnia di Puccio e di altri che adesso non mi ricordo ne potrei nominare in compagnia nel senso che questo Marchese faceva la dichiarazione mentre era presente Puccio questo lei intende dire in compagnia di Puccio Vincenzo quindi lei dal Nino Marchese ha preso questi particolari un soggetto che si chiamava Ragona Pietro e a volte il nome non mi dicono granchieri uno che aveva che aveva vicino una stalla nel fondo cannonito nella zona di Corso dei Mille fatto del luglio dell'82 Pietro Ragona Pietro Ragona uno che probabilmente era quello che era le dipendenze di quel giovane Marchese Gregorio un Marchese era lavorava nell'officina di Gregorio Marchese o meglio era aveva insomma Ferrovecchio cose no mi ricordo niente non ha particolare non ha particolare conosciuto Gaetano Scalici quello che vendeva gli acidi quello che aveva il deposito di prodotti chimici conosciuto così qualche volta di vista così perché di fronte ci abitava a meno Lillo Temirello sarebbe cognato di Carmelo Zanco a meno se è quello di cui lei non lo ha conosciuto questo di vista dice questo per il passato credo che gli forniva anche qualche cosa a Stefano Bontade dei prodotti chimici prodotti chimici prodotti chimici che a Stefano Bontade servivano per sì a volte c'erano delle necessità e lui gliele favoriva anche questo è un altro benvegno per fatto agricolo questi prodotti chimici per essere impiegati in agricoltura o in altre attività no questo anche acidi vendeva anche per la lavorazione della morfia questo sì cioè lui era consapevole che questo no questo non lo so presidente cioè molte persone si riforrivano da lui di acidi che servivano no lo sto dicendo molte persone soggetti lui Stefano Bontade si serviva sì a volte per delle cose per pulire la piscina non so che cose a volte anche per gli acidi che servivano per la trasformazione della morfina ma io non lo conoscevo lei non lo conosceva questo Gaetano Scalici di Giovanni di Giovanni Benfante ne abbiamo parlato perché era il padre di quel ragazzo di quel ragazzo quello che ebbe la questione e questo ne abbiamo parlato e non c'è altro Emerino Mannoia la corte vorrebbe avere qualche informazione quello che lei è a conoscenza si intende in ordine ad alcuni imputati di alcuni soggetti ora io le farò qualche domanda e lei mi risponderà se è in grado va bene di rispondere lei ha parlato di Abate Giuseppe si non ha parlato di Abate Giovanni lei sa di Abate Giovanni se lei mi elenca i nomi così io le posso dire Abate Giuseppe rappresentante di Rocello Abate Giovanni un onesto lavoratore non era uomo d'onore era niente Abate Giovanni un onesto lavoratore e non è uomo d'onore e non è uomo d'onore mentre il fratello era rappresentante di Rocello un vecchio uomo all'antica di Cosa Nossa che sapeva rispettare certe regole sempre dicendo Cosa Nossa invece Abate Giovanni anche se da loro avevano una base operativa perché partivano sempre di lì da quando dovevano commettere certe Abate Mario Abate Mario di Salvatore no Abate Mario dovebbe essere quel mariuzzo Abate quel ragazzo imputato per quell'attentato bomba lì e Abate Mario lo conosco di vista per averlo visto qualche volta qua ma non è uomo d'onore e non credo che c'entri niente in quell'attentato di Rametano Abate Michele l'ho conosciuto sia a Palermo sia a Caccia di Castelbuono e di Teramo ma è un trafficante di droga non è uomo d'onore Adelfio Corriere di droga Corriere di droga Adelfio Francesco è che è sotto capo e adesso uomo d'onore di Villa Grazia di cui ho già parlato sì Adelfio Giovanni è stato estromesso da sotto capo perché è stato arrestato in compagnia di un amante di un amante è rimasto uomo d'onore è stato estromesso dalla carica di sotto capo Adelfio Mario il nipote uomo d'onore di Villa Grazia Adelfio Mario è il genero di Nino Desimone Adelfio Salvatore il Pace che cosa mi dice di Adelfio Salvatore lei parla il Pace dico uomo d'onore Adelfio Salvatore di Salvatore nato nel 26 uomo d'onore sì sì uomo d'onore di Villa Grazia lei di Agate Mariano ha detto qualche cosa sì e Agate Mariano lei l'ha conosciuto sì certamente che rapporti ha avuto con lui ottimi rapporti sì e che cosa mi può dire oltre quello che ha detto posso dire che il rappresentante di Mazzara del Vallo che è molto intimo con Giuseppe Giacomo Gambino Bernardo Brusco è di quella corrente diciamo che adesso chiamiamola dominante che adesso chiamiamola vincente quindi si riporta a quello che ha detto sì sì al procuratore della Repubblica di Alberti Gerlando sì l'ho conosciuto molto bene come? lo so soltanto ah sì Alaimo Rosolino lei lo ha conosciuto Rosolino? Alaimo è uno ma è il costruttore costruttore del corso dei mille costruttore del corso dei mille a Caltanissetta però ha costruito in corso dei mille è probabile è anziano su 60 e qualche costo diciamo che siamo sui 50 sui 50 Rosolino non lo ha presente bene no se è quello che dico io è stata solo una vittima di Filippo Marchese se è quello che dico io va bene ah Rosolino Alaimo Rosolino io parlavo di Ignacio Alaimo no e io le ho detto infatti in Caltanissetta Alaimo Rosolino ha detto anche l'età ha detto no io pensavo a quel Ignacio Alaimo costruttore va bene perciò esiste comunque non lo ha presente mentre lei diceva a Alaimo Rosolino a Alaimo Rosolino di che anni? 50 diciamo oggi 50 e tra l'altro le ho detto nella zona di Caltanissetta Presidente non vorrei che sia quello che ha i baffi non è vero beh io per la verità se abbia i baffi no comunque andiamo avanti andiamo avanti non me lo ricordo andiamo avanti se anche mai l'abbia saputo no se è quello che ho visto qualche volta io per questo intendevo Alberti Gerlando quello nato nel 27 quindi lo conosco bene è un uomo d'onore per un periodo è stato anche consigliere di Porta Nuova è stato consigliere? per un periodo è stato consigliere anche della famiglia di Porta Nuova di Pippo Calò comunque lei ha fatto riferimento nella sua dichiarazione di questo Alberti Gerlando si riporta a quanto ha dichiarato mi ricordo tutto Alberti Gerlando il giovane non è un uomo d'onore lo conosce? no no credo di no credo di se l'ho visto qualche volta di sfuggita e dice ho conosciuto un altro nipote di Gerlando Alberti e cioè chi? Tonino credo ah Tonino Tonino Alberti Tonino sì Tonino credo che siano fratelli con l'altro Gellano ho capito e Alfano Paolo detto Pietro Zappone lo conosce? lo conosco che cosa mi può dire di Alfano Paolo detto Pietro? ma non so quello che lei vuole sapere è un uomo d'onore di Corso di Mil ma sa di sue implicazioni in è un uomo d'onore è stato bene è stato lei dice di averlo conosciuto come lo ha conosciuto come? come lo ha conosciuto ma sono tantissimi anni che lo conosco lui è divenuto uomo d'onore però durante la mia carcerazione all'80 all'82 all'83 lo conoscevo da prima l'ho conosciuto dopo lo conosco benissimo lo conosce bene sì mi riallaccio poi quanto riguarda Paolo Alfano e quel contesto che ho già dichiarato sì 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 e ho qui posso dire quanto concerne questo processo quanto è che è estraneo alla raffineria di via Messina Marina è estraneo alla raffineria di via Messina Marina di via Messina Marina è verbalizzato nel mio contesto sì va bene questo e ciò qua seguo fedelmente le sue indicazioni dunque è estraneo alla raffineria di via Messina Marina sì cioè in pratica lei nel dire estraneo lui è andato solo ad avvertire a Nicola Di Salvo perché aveva un bellino attivo che stava così sì ed è quello che lei va bene mi riporto fedelmente a quello che ho dichiarato e Aliotto Gioacchino no lo conosco così ma non è ne è umo d'onore credo un ragazzo la truncola o il rapinatore comunque non è umo d'onore lo conosco così per averlo visto qualche volta sì credo che sia parente di Faia o Faia comunque la truncoli non sono Amato Federico costruttore eh mi pare che ha cose niente uomo da poco chi Amato Federico che si intende dire lei dicendo uomo da poco un costruttore di cui è stato in società ci sono stato anch'io e i vernei in società costruisce per conto dei vernei Anselmo Vincenzo mi pare che ne abbiamo parlato ieri perché sì solo quello che glielo ho detto ieri sì Arcoleo Vincenzo non è uomo d'onore non è uomo d'onore è anche parente di Faia questo è un ragazzo che non è uomo d'onore non è uomo d'onore rappenatore Argano Filippo Argano Argano Filippo sì uomo d'onore prima era capodicina di Corso dei Mille lei lo conosce sì personalmente e Argano Gaspare non è uomo d'onore Argano Gaspare è fratello di Argano Filippo fratello sì Argano Gaspare non è uomo d'onore e la nel dire non è uomo d'onore le intende dire anche che era estraneo va bene sì non si occupava non mi risulta niente di Argano Gaspare però Bagarella Calogero credo che sia scomparso nella strage di Viale Lazio o parla per Leo Luca Bagarella Calogero è scomparso nella strage di Viale Lazio se quel il fratello di Luca Bagarella Bagarella Calogero fu salvatore nel 35 quindi siamo sui 55 è morto durante la strage dell'attentato a Cavataio Bagarella Leo Luca lei lo ha conosciuto bene sì lo conosco da molti anni lo conosco da molti anni e di Bagarella Leo Luca che cosa mi può dire più credo che ho parlato sia del capitolo del colonnello russo mi riporto a tutto quello che è scritto lì se poi lei ha qualcosa in più da chiedermi no io appunto ne faccio queste domande per sapere se lei ha qualche cosa in più da chiedere a me fa piacere che lei faccia queste domande perché per sapere se lei ha qualche cosa in più e man mano che lei me le elenca tutte io gli dico tutte quelle che non sono uomini d'onore perché perché non è giusto che paghino persone che non scendrano niente nel senso che non sono inserite nell'organizzazione baldi Giuseppe questa è la mia verità baldi Giuseppe uomo d'onore della famiglia di Portanuovo e battaglia Antonino nessuna dei due battaglie è uomo d'onore per motivi familiari né in battaglia Antonino né in battaglia Giuseppe però battaglia Giuseppe è molto vicino ai Rabiano chi è in battaglia Giuseppe l'ho conosciuto personalmente e coinvolto anche parlo che non ha niente a che vedere con questo processo in altre situazioni e coinvolto con me in certo modo di superfacente in altre situazioni in altre situazioni ma lei poc'anzi dicendo che non sono uomini d'onore per motivi familiari che intendeva dire è meglio solvolare sopra perché lei l'ha detto ci precisi il concetto non è c'è qualcosa ne quanto concerne familiarmente che non li può portare a divenire uomini d'onore non intendo precisare particolare di sorta presidente si limita a dire che non sono uomini d'onore ma non ci vuole dire in che cosa consiste l'ostacolo a che fossero uomini d'onore lei dice motivi familiari motivi familiari e non vuole aggiungere altro così vale per Salvatore Rotolo mentre per Salvatore Rotolo anche se è un po' diversa la cosa è anche per motivi familiari si Salvatore Rotolo infatti è detto che non era è fedelmente per come ho detto per il Rotolo dico per battaglia non voglio aggiungere particolari non vuole aggiungere particolari voglio toccare l'intimo delle persone pubblicamente lei ha conosciuto Bellia Giuseppe che è di altra zona della Sicilia non ho capito Bellia Giuseppe Bellia uno di Catania no non mi ricordo 134 Biondo Salvatore niente Bisconti Antonino secondo anni Bisconti Antonino Bisconti Antonino sono i sono i parla dei fratelli Bisconti Bisconti sì Bisconti Antonino solo Ludovico è umano donore solo Ludovico è umano donore Bisconti Antonino non lo ha il fratello non è umano donore e neanche il figlio di Divico Bisconti Bisconti Pietro il genero il genero di Giovanni e Teresa Bisconti Pietro di Ludovico non è uomo d'onore cioè il genero di Giovanni e Teresa fare più un' non è uomo Bonanno Armando ne abbiamo parlato ieri dicendo che quasi certamente non è più in vita. Io insisto a dire il 100%. Io parlo, Presidente, poi lei valuterà. Bonanno Francesco? Non lo conosco. Non lo conosce. Bonanno Luca? Luca Bolanno, lo conosco di vista, però non è uomo d'onore, discende dai ciaculli. E non è uomo d'onore? Non è uomo d'onore. E questo è di fuori Palermo, Bonica Marcello, l'ha sentito dire? Non mi dice niente. Non le dice niente. Bono Alfredo? Sì, lo conosco. Lo conosce? Lo conosce nel senso che ha avuto rapporti con lui? Rapporti di amicizia. Rapporti di amicizia, che risalgono a quando? Ma io la prima volta che l'ho conosciuto addirittura è stato a Napoli, in casa di Michele Zazza. Ancora io non ero uomo d'onore. In quel periodo io camminavo con Stefano Giaconio. Comunque, è uomo d'onore. Lei a Bono Alfredo e a Bono Giuseppe fa un cenno nelle sue dichiarazioni, soltanto, va bene, in una pagina. Sì, vorrei sapere se, oltre a quello che ha detto, è la pagina nella quale lei menziona... Sì, sì, scusate. E la pagina nella quale... Nella composizione delle famiglie, Presidente. Sì, proprio così. No, stavo cercando... Sì, il punto proprio preciso. Ecco, rappresentante capovandamente Bono Giuseppe, ne fanno parte anche Bonalfredo. No, ho errato lì, perché Bonalfredo è della famiglia di San Giuseppeato. Bono, Alfredo è della famiglia di San Giuseppeato. Di San Giuseppeato. E Bono Giuseppe... Bono Giuseppe è di Bolognetta. Bolognetta. Sì. Sì, lei da Bono Alfredo e Bono Giuseppe si riferisce soltanto in questa pagina, non dice altro. Non ho altro da dire. Non ha altro da dire su... non conosce null'altro della loro attività. Non ha particolari specifici. Non ha particolari, sui due è Bono. Sì. Un'amicizia, forse. Amicizia e nessun rapporto... Amicizia di più con l'alfredo che si è creata durante il carcere e qualche volta ci siamo visti fuori anni... E non ha altro da dire oltre questo. Lei mi chiede cosa vuol sapere. No, io voglio sapere se oltre le menzioni che lei ha fatto degli stessi nella dichiarazione che ora ho richiamato, se lei sa qualche altro particolare. No, io quando ho qualcosa di specifico che mi sorviene in mente... Va bene. Va bene. Bonura Francesco. Sì, lo conosco. Bonura Francesco. Sotto capo di uditore. Sotto capo di uditore. E così è stato richiamato, infatti. Brazzò, Giuseppe. Come? Brazzò. Giuseppe, Brazzò. Brazzò. No, niente. Non... No, non mi dici. Va bene. Brunzini, Alessandro. Mi sembra che si occupa di pittura. Sì, sì. C'è stata anche la recente una mostra. Lo conosco, sì. Non è uomo d'onore. Non è uomo d'onore. Però ha avuto una lunga militanza insieme a Pippo Zanca nell'ambiente milanese. Però non è uomo d'onore. Ma di questa militanza e di questa frequentazione dell'ambiente milanese lei conosce qualche particolare? Cioè a Milano, a Torino credo che frequentassero. Comunque lo conosco solo così. Non c'ho particolare... Non c'ha particolare confidenza? No, particolare... Conosciuto in cacere e conosciuto qualche volta anticamente con Carmelo Zanca. Quindi parlo di una quindicina di anni fa. E adesso negli ultimi anni, dall'80 in poi, ci siamo frequentati in cacere. Perché 80-81, credo che lui sia stato arrestato, non mi ricordo preciso quando, ci siamo frequentati in cacere. E posso dire al 100% che non è uomo d'onore. Di quel Bruno Francesco ne abbiamo parlato a proposito dell'omicidio di Gallina Stefano. E lei ha detto che il nome di Bruno Francesco non le diceva proprio nulla. Presidente, se ci fossero fotografie, potrei essere più... Ma per il momento non mi dice niente. Brusca Bernardo, lei lo ha conosciuto? Lo conosco, sì. Sì. Brusca Bernardo... L'ho detto che si alternava con Antonio Salamone, l'effettivo capomandamento. Sì, lo ha detto questo e lo ha ripetuto anche stamattina. E poi è subvenciato lui. Anche se adesso è subvenciato il figlio dopo gli arresti domiciliari. Già annunzio. Comunque lei già ne ha parlato di questo Brusca Bernardo e si richiama a quanto ha detto al procuratore della Repubblica. Sì. E Brusca Giovanni. Sì, uomo d'onore che adesso ha preso il posto del padre. Ha preso il posto del padre. Buffa Francesco. Fratello di Vincenzo. Buffa Francesco, sì. Non è uomo d'onore. Buffa Francesco di Giovanni. Non è uomo d'onore. E buffa Vincenzo. Uomo d'onore però è stato posato per un periodo del tempo. Attualmente è stato posato. Da parecchi anni. Da parecchi anni è messo da parte, cioè? È stato posto fuori famiglia. È stato posto fuori famiglia. Anche se ha avuto qualche incarico delegato, nonostante durante la sua estromissione, diciamo, passatina da Cosa Nostra. Ma non sono cose che riguardano questo processo. E Buscemi Salvatore, che è un imprenditore edile? E' quel Buscemi che dico io. E' cognato di Bonura Francesco Buscemi Salvatore. Io conosco Buscemi Salvatore, che è rappresentante di Passo di Rigano, che ha preso il posto di Salvatore in Serino. Buscemi Salvatore... Dovrebbe avere 50 anni, una cinquantina di anni. Lei, di Buscemi Salvatore, ha detto... E' coinvolto in un'altra situazione che non riguardano questo processo. Calamia Giuseppe? Sì, è un modo onore. Lei lo conosce? Sì, perfettamente. Sì, e ne parla soltanto in questo senso, perché lei ne parla una sola volta. È solo in questo ne posso parlare, perché solo in questi termini ne posso parlare. Perché mi ricorda, non c'è niente. Calò Giuseppe? Sì, lo conosco bene. Rappresentante del capovandamento di Porta Nuovo. Lei ne ha parlato diffusamente per quelle notizie che si leggono nella dichiarazione che ha reso. Oltre quelle dichiarazioni rese al Procuratore della Repubblica, su Calò Giuseppe può dare altre notizie? Io stavo cercando di darle, ma lei mi ha volcato ieri perché non fanno parte di questo processo. E noi vorremmo sapere notizie che riguardano proprio questo processo, allo Stato almeno. Allora lei mi elenchi qualche cosa? No, io... Cioè mi dica in merito a quale riguardo. Sì, ai fatti che sono oggetto di questo processo e che possono riguardare il traffico di droga come le associazioni... Allora quello che lei ha dichiarato al Procuratore della Repubblica, e per quanto riguarda il suo ruolo nell'ambito della Commissione e gli addebiti più gravi che sono stati mossi al Calò Giuseppe, lei che cosa ne può dire? Io non so quale addebiti gli sono stati mossi in generale. Dunque, e allora, insomma gli omicidi dei quali è stato chiamato bene a rispondere e che hanno avuto comunque la forza... Io posso confermare che il membro della Commissione e di quei rapporti che ci ho avuto io, questo posso confermare Presidente. Qui, lei dice, faceva parte della Commissione... Faceva parte della Commissione... Eh, e poi... Fino a quello che mi risultava... Fino a prima della mia collaborazione. Fino a prima della sua collaborazione. E per quanto riguarda va bene il fatto che si trova detenuto, perché... Come? Che vuol dire, Presidente? Dico, lei si riferisce a quale periodo? Faceva parte... Sì, fino a quando vengono arrestati. Ha capito bene il consigliere. No, appunto... Fino a quando non ho chiesto di collaborare. Sino a quando... Io ho detto che quando si riunisce la Commissione... Sì. A volte lei mi ha detto, ma può succedere che qualche membro della Commissione non si possa trovare per eventuali attività. Certo, la Commissione non è chi aspetta un altro se è detenuto o meno. Si riunisce per deliberare la maggioranza delle persone presenti, quello che devono deliberare, e poi informeranno la persona di cui è assente. In questo caso, per motivi carcerari. Quindi, l'importante è che ci sia la maggioranza. Non può certo partecipare attivamente, ma naturalmente è come se fosse... Presente. ...fisticamente presente. Quello che lei diceva ieri. Sì. Lo si informa dopo... Altrimenti se non gli sta bene si dimette dalla Commissione. Ma dimette dalla Commissione significa che per lui il destino gli attende brutte sorprese. Quindi, tacito accordo. E così vale che, come il discorso associazione di stampo mafioso, che dice qualcuno che è sospeso o viene a venire meno durante la detenzione, io vi posso elencare le persone che sono state combinate in carcere e altre situazioni di cui abbiamo parlato, che sono scritte... E le mie dichiarazioni lì. Eh, le dichiarazioni che lei ha reso sono state confermate. Campanello Attilio... No, conoscevo Callo Campanello. Campanella? Calletto, Callo Campanello. Carletto. Calogero. Detto Carletto. Consigliere della famiglia di Catano. E l'ha conosciuto come? In carcere. Credo nell'82, credo. E che cosa mi sa dire di questo? Pochissimo. Che l'ho conosciuto, mi è stato presentato in carcere, l'ho conosciuto e sapevo che era consigliere della famiglia di Catano. Non c'era in carcere. E durante... Nella nona sezione. E durante la detenzione... Credo con un certo lì ciardelli. E durante la detenzione continuava ad avere i rapporti con l'esterno, i rapporti nel senso che lei ha chiarito poc'anzi, cioè continuava i vincoli. Queste sono fatte suoi che io non so. Non sa. Camporreale e Antonio... Anche se mantengono i rapporti, l'ho finito di dire adesso, non cessa mai l'uomo d'onore di essere uomo d'onore finché vita avrà. Va bene. Solo... Può cessare o col pentimento o con la morte. O con la morte. Queste sono le mie parole. Poi lei le valuterà il contavene. Cancelliere Domenico, lei lo ha conosciuto? Sì, è il figlio di Nicola Cancelliere. Sì. Ce n'è uno che è uomo d'onore perché sono due fratelli. Sì, Cancelliere Leopoldo e Cancelliere Domenico. Domenico è uomo d'onore, quello più alto. E Cancelliere Leopoldo non lo è. Non vorrei fare confusione, Presidente. Se le vedo... Va bene. Se le vedo... Se le vedo... Lei dice che... Quello che è stato detenuto a Ciani con me non è uomo d'onore. Non è uomo d'onore. Mentre l'altro è uomo d'onore. È uomo d'onore. Ha sentito parlare di questo Canizzaro Francesco? Sì, ne ho sentito parlare così ma non mi viene niente. Né come... È Canizzaro Umberto che è il fratello. Non mi dice granché. Fratello, forse c'è un errore, ma c'è un errore di data. O sono gemelli. Sono gemelli. Ecco, perciò. Capizzi Benedetto. Sì, personalmente lo conosco. Lo conosce personalmente. E lei capito... Mi ha il reporto alle dichiarazioni resi. Sì. Il caruso Vincenzo. Mi sono anche sposato nella sua sala di ritenimento. Sì. È uomo d'onore di questo De Mille. Un bravo uomo. Tra virgolette. Nel senso del cosa nostra. E che significa un bravo uomo? Tra virgolette. Nel senso... Lei poc'anzi l'ha usata pure questa espressione. Tra virgolette. No, l'ho usata anche ieri. Sì. Dico poc'anzi perché è più fresco il ricordo. Bene. E ha detto proprio tra virgolette... Ora però ho aggiunto qualche altra... No, quando io parlo di cosa nostra... Sì, se gli si agisce... E intendo dire è un bravo uomo. Dico sempre tra virgolette perché in qualsiasi momento è chiamato a commettere o a partecipare o a assistere a una determinata situazione di una certa gravità. Per forza deve essere disponibile a tutti gli effetti. Ecco perché dico un bravo uomo. Tra virgolette di cosa nostra. Certo. Casella Giuseppe... Cioè sarebbe fratello di Antonio. Casella Giuseppe... Sì, potrebbe essere proprio così. Non è uomo d'onore. Casella Giuseppe non è uomo d'onore. E Castellana Giuseppe... Io non mi ricordo di conoscerlo bene a Castellana Giuseppe, però so per sentito che è uomo d'onore. E credo che sia parente di Michele Greco. E lei... Non mi ricordo adesso se lo posso riconoscere. Non mi ricordo. Però che sia uomo d'onore è certo. Ma non lo conosce bene? Non mi ricordo. Può darsi di sì. E Castiglione Francesco... No, non è uomo d'onore. Ma lei lo conosce questo Castiglione Francesco? E Castiglione Girolamo... Castiglione è sempre... Credo che sia imparentato anche sempre con quel faio. Castiglione Girolamo... Che è della zona di Brancaccio. Sì. E lei lo conosce questo Castiglione Girolamo? Credo che sia un ragazzo sui 35 anni. Beh, diciamo che questo è... Sì, ma non è uomo d'onore, un ladruncolo. Un ladruncolo. Un ladruncolo, sì. Catalano Onofrio? Onofrio Catalano. E di Bagheria? Di Ciminna. Di Ciminna. Non credo di conoscere. Non mi ricordo però. E Catalano... No, questo l'abbiamo... È andato via. Sì. Quello è inutile. Chiaracane Giuseppe? Sì, uomo d'onore di costo di mille. E Chiaracane Salvatore di Giuseppe? Chiaracane? Salvatore. L'avvocato. L'avvocato. No, scusi. Quando lei ha detto quella... Chiaracane Giuseppe. La prima parola ha detto... Il primo nome ha detto lei come? Chiaracane Giuseppe. Giuseppe Chiaracane. Sì. Anziano. Cioè, appunto, era il vecchio rappresentante di Corso dei Mila. Il vecchio rappresentante. E Chiaracane Salvatore? L'avvocato. È un uomo d'onore, sì. Della famiglia di Corso dei Mila. Che vera Vittorio è inutile comandare. Cillari Antonino... E lo richiama solo una volta, Cillari Antonino, nella composizione, credo... Non è un uomo d'onore, è il fratello Gioacchino. Il fratello Gioacchino lo è. Sì, nella famiglia di Portanuovo. Capito. E Ciliminna Salvatore? Credo che sia fuori famiglia. Era il rappresentante del borgo. E fuori famiglia? Per quel che so io. Ciulla Cesare e Ciulla Giovanni? Io l'ho conosciuto in carcere. E non sa nulla di questi... Quello che è stato ucciso era un uomo d'onore. L'altro non mi ricordo... Non ci ho avuto confidenza. E Ciulla Giuseppe e Ciulla Salvatore? No, no, non li conosco tutti questi fratelli. Questi Ciulla niente. Non ci ho confidenza. Clemente, questo qua non vale la pena. Colizzi, Condorelli, questo è di Catania. Condorelli Domenico, di Catania. Un uomo d'onore di Catania. Domenico. Ma lei l'ha conosciuto? L'ha conosciuto per che cosa? In carcere. In carcere. In carcere. Non perché abbia avuto con lui relazioni. In carcere. Contorno Antonino ne ha parlato. Contorno Salvatore ne ha parlato. Coppola Giacomo. Sì, uomo d'onore. Sì, uomo d'onore. Di Partinico. No. Mi pare che questo è Coppola Giacomo? Aspetta. Uomo d'onore era Giacomo Coppola e Mimidio Coppola che morì, il fratello Domenico Coppola. Sì, sì. Tutte due dei Partinico. Sbaglio dei Partinico. Lei ne ha parlato? Sì. Della famiglia di Nene Geraci. E Corallo Giovanni? Sotto capo della famiglia di Palermo. Lei conosce? Sì. Corona Orazio? Soldato della famiglia di Palermo. Costantino Antonino, Nino Occhialino? Mio cugino. Non è uomo d'onore, però ci ha fegato in gioco con me. Mi attengo al verbale scritto, però non è uomo d'onore. Cristaldi Salvatore e Cristaldi Venerando? Venerando credo che sia uomo d'onore. E Cristaldi Salvatore? No. Non lo è. Questo mi pare che ha detto proprio di C. Commerciava in droga. Non è uomo d'onore. Cristaldi Salvatore, che era commerciale in droga, io neanche lo conosco per uomo d'onore. Non lo conosce pure per uomo d'onore. L'ho detto, Presidente. Sì. Sono gente che ho conosciuto in caccia di questo. Sì. Croce Domenico. C'è Domenico, Alfredo e Giorgio. Uomo d'onore è il più grande dei fratelli. Quello che è l'officina di camion. Domenico. Credo che sia Domenico. Domenico. Sì. Mentre Alfredo e gli altri non sono uomo d'onore. E... È stato un anno re Cucuzza. E Cucuzza Salvatore? Uomo d'onore del borgo. Per un periodo è stato reggente. Reggente al borgo. Lei lo conosce Cucuzza Salvatore? Cucuzza Salvatore. A Cucuzza Salvatore lei ne ha anche parlato nella sua dichiarazione. E per quanto riguarda Cucuzza Salvatore si riporta a quella dichiarazione. Sì, sì, perfettamente. Cucuzza Salvatore. Cusimano Giovanni? No, non è uomo d'onore. Era una persona vicina a Saroricobono così, ma non era uomo d'onore. E io parlo di Cucuzimano Giovanni che potrebbe essere... Quello che faceva il piantone che è stato anche con Antonino Pepitone. E non è uomo d'onore. Non è uomo d'onore. Cucuzimano Dainotti Giuseppe. Non è uomo d'onore. È il cognato di Lopresti. Di Salvatore Lopresti. Dainotti Giuseppe. Cognato di Salvatore Lopresti. E non è uomo d'onore. D'amico Baldassare. Baldassare D'amico. Baldassare D'amico. Comunque ha una posizione... Per il momento non mi... D'angelo Giuseppe. Sì, conoscerà Giuseppe D'angelo. E' uomo d'onore. Di Corso dei Mili. D'angelo Mario? No, il meccano. E non è uomo d'onore. Non è uomo d'onore. D'angelo Salvatore di Giuseppe. No, non lo conosco. Non mi dice niente. Ha conosciuto un certo Dattilo Sebastiano? Sebastiano Dattilo. Ma che era capitano di nave? Sì, capito. Non... Non... Non c'ho... Davi Salvatore. Uomo d'onore, sì. Di Partana Bondello. E lei lo ha... Adesso sono aggregate a Giuseppe Giacomo Gambino. Non ha niente a che vedere con questo processo. Se mi può interessare... Che significa non ha niente da vedere in questo processo? Cioè, perché è una fase... Perché questo processo credo che vada dal 76... Lei si riferisce al fatto... Dal 77 all'85, credo. Lei si riferisce... Dal 84. Ai fatti... Ai fatti successivi. Ai fatti successivi. Io le posso dire che è uomo d'onore della famiglia di Partana Bondello. Va bene. Questo delizio... E io direi che ci andiamo a chiedere a noi. De Simone Antonino, ne abbiamo parlato. Lei ha già detto che... Non è uomo d'onore, ma si allaccia all'interrogatorio. Di Caccamo Benedetto, va bene. No, non è uomo d'onore. Di Carlo Andrea, di Carlo Giulio... Tutti e tre fratelli. Franco è stato stromesso... Di Carlo Andrea, di Carlo... Lei li conosce? Sì, di Carlo Andrea, rappresentante di Alto Fonte. E di Carlo Giulio, il fratello è uomo d'onore della famiglia. Di Fede Francesco? Sì, uomo d'onore, pace e figlio. Di Fede Francesco di Lorenzo? Lorenzo. Lorenzo di Francesco? E di Fresco Onofrio di Marcello? Non è uomo d'onore. Ma lei lo conosce? Sì, personalmente. Quando io rispondo, Presidente, rispondo sulla precisione sia di conoscenza e sia di... Di Gaetano Giovanni? Di Gaetano sarebbe un padre nero, è un parente di mia madre, sì. Uomo d'onore... E di Giacomo Giovanni? E di Brancaccio. Di Gaetano. Di Giacomo Giovanni di Gaetano? Sì. Un momento. No. Di Gaetano... Di Gaetano Giovanni fu vincito, non so. Quello è implicato l'omicidio. Va bene. Uomo d'onore di Brancaccio. E di Giacomo Giovanni di Gaetano? Uomo d'onore di Porta Nuova. Uomo d'onore di Porta Nuova. Di Giuseppe Pietro? Pietro di Giuseppe. Non dice niente. Non mi ricordo se sì, non mi ricordo, è del corso dei mille questo, credo. Di Gregorio Francesco di Gaetano? Di Gregorio? Francesco di Gaetano. No, è fratello di quel Stefano che è morto per causa naturale, che era uomo d'onore della nostra famiglia, non è uomo d'onore. E di Gregorio Gaetano fu Stefano? Cioè il padre. Il padre, ma è un vecchio anziano, uomo d'onore della nostra famiglia. Sì, molto anziano. Sì, un vecchio uomo d'onore della nostra famiglia. Di Gregorio Salvatore? Della nostra famiglia è intendo dire Santa Maria di Gesù. Santa Maria di Gesù. Di Gregorio Salvatore, nato a Catania? Di Gregorio Salvatore è nato a Catania, non mi dice niente. Niente. Di Leo Vincenzo? No. Di Marco Salvatore? No. Cioè non è senso che non sono uomo d'onore, perché li conosco così. Non è uomo d'onore? Di Pace Giovanni? Il banchiere. Cioè, pieno pace, non è uomo d'onore. Impeccato di banca? Di Pace Giuseppe, quello che lei dice. Pino. Di Pace Giovanni. Cioè, chi sarebbe? Di Pace Giovanni? Di Pace Giovanni di Luigi. Residente in via Montebello, con interessi anche a Vittoria. Di Pace Giovanni. No, no, non mi dice niente. Per il momento non mi dice niente. Di Pace Giuseppe, quello che lei dice. Di Pace non è uomo d'onore. Comunque si prestava... Di Pasquale Giovanni. Sì, della nostra famiglia. Che forse ha... Santa Maria di Gesù. Forse ha detto Ubeddo. Sì, certamente. E questo di Pasquale Giovanni? Uomo d'onore di Santa Maria di Gesù. Di Salvo Nicola. Di Salvo Nicola. Non è uomo d'onore. Molto vicino a Pietro Pernengo, ma non è uomo d'onore. Ma è traffici di droga? La raffineria di Pia Messina Marina. No, io lo chiedo in modo che si ascolti, si senta la risposta. Di Trapani Diego. Il cognato di Ciccio Madonier. E lei lo conosce? Uomo d'onore, sì. E di Trapani Giovanni Battista? Giovanni Battista di Trapani. Fu salvatore. E siamo sui 55 anni. Ma è ancora viva, scusate. Di Trapani, lei parla di un di Trapani Giovanni. Io parlo di Giovanio Giovanni. Qua si parla di Trapani Giovanni. C'è una menzione. Ah, ma quello non c'entra niente. Quello è un uomo d'onore della nostra famiglia, di una nuova generazione. Non c'entra niente. Va bene. C'entra niente. E durante... No, durante Samuel Battista non ne ha parlo. Sì, no. Non ha niente a che vedere con questo processo. Con quello che... Enea... Enea Antonio... Sì, uomo d'onore, Tonini Enea. Lei lo conosce? Sì, personalmente. Enna Vittorio. Quello è impiegato al manicomio. E lei conosce questo uomo d'onore? Io lo conosco, ma non è uomo d'onore. È un'infermiere del manicomio. Faia Salvatore, il cui nome più volte... Abbiamo... Un ladruncolo. Lei dice uno? Ladruncolo. Un ladruncolo. Faldetta Luigi? No, non è uomo d'onore. Un costruttore succubede di Pippo Calò. Faraone Nicola? Nicola Faraone. Cioè il nome mi dice qualcosa, ma per il momento non... Nonno ricorda nulla. Fascello Antonino? Non è uomo d'onore. Gli altri due invece sì, Pietro e Francesco. Pietro e Francesco? Sì. E i quali lei... Della famiglia di Santa Maria. Sì. Nelle sue dichiarazioni. Favuzza Giovanni. Favuzza Giovanni? Come? Favuzza Giovanni. Favuzza. Non lo ha presente. Non, per il momento non. E Fazio... Fazio Ignazio? No, non è uomo d'onore. Sono pazza e figlio. Fazio Salvatore? No, no. Fazio Ignazio? Questo era anche il padre, il poveraccio era succube di Filippo Marchese. Lei parla di Fazio Salvatore in questo caso? Sì, sì. Succube di Filippo Marchese. Sì. Federico Domenico? No, non è uomo d'onore. Ma era in società con... Vanno sopra queste Filippo, Giuseppe Greco e altri nella costruzione. Ma non è uomo d'onore. E Federico Giuseppe? Cioè il paralitico? È uno che... Il fratello? Sì. Federico Giuseppe Girolamo. È paralitico. Non è un uomo d'onore. Questo individuo che è di Catania, Ferrera Antonino e poi Ferrera Francesco di Salvatore, pure i catanesi... Io conosco solo Pippo, Ucavarduzzo diciamo, Pippo Ferreira. Solo Pippo Ferreira. Anche se ho conosciuto Annino Ferreira, non mi ricordo se sia uomo d'onore. E Ficarra Giuseppe l'ha conosciuto? Ho conosciuto Ficarra... Giuseppe. Ho conosciuto Filippo Ficarra. Filippo che siano parenti. È scomparso. Uomo d'onore. Questo Pernunzio Ficarra non mi ricordo se sia uomo d'onore. Sì. Dunque, fidanzati Antonio... Non è uomo d'onore. È Stefano e Gaetano gli uomini d'onore. Cioè, chi sono gli uomini d'onore? Stefano e Gaetano. Stefano e Gaetano. Sì. E fidanzati Giuseppe e fidanzati Antonio non lo sono. Non lo sono. Lei li conosce... Sì, li conosco tutti e quattro. Li conosce tutti e quattro. E oltre quello che lei mi sta dicendo non mi può dire altro. Cioè, come è fatto di traffici... Sono della famiglia di Pippo Buono. Di traffici non ho avuto particolare di interesse a informare. Filippone Gaetano. Gaetano, Filippone, ma è ancora vivo. Filippone Gaetano Umberto fu salvatore. Il figlio è parente di vecchio Gaetano, Filippone. Non credo che non è uomodo. Fosse una volta lo era, è stato messo fuori famiglia, ma da tantissimi anni. Da tanti anni. E Finazzo Emanuele? Ma Finazzo non è morto, quello che è stato ucciso dal cancere di Favignana. Finazzo Emanuele di Giuseppe. Un altro Finazzo. Non me ne volto. Fiorenza Vincenzo. Fiorenza Vincenzo? No. Gaeta Giuseppe. Sì, rappresentato in Termini Merese. Termini Merese. Sì. Lei lo conosce, questo Gaeta Giuseppe? Gambino Giacomo Giuseppe Tignuso, mi sembra che... Sì, sì, lo conosco perfettamente. Che ce ne sono... Lei ha parlato... Ne ha parlato... Nelle sue dichiarazioni... Sì, confermo tutto quello che ho detto lì. Sì. Gambino Gioacchino, non Gambino, ma Gambino, con le due M. Gambino? Sì. Non mi dice niente. Non le dice niente. Gariffo Carmelo, ma questo... No, questo è il nepotato di Bino Provenzano, non è un'autonore. Gelardi Mario. Gelardi. Geraci Antonino. Nenè, quello del... Del 12. Nenè, del 17. Del 17, sì. Insomma, 70 e qualche anno. E appunto, dove siamo stati aggregati noi a Partenicco, il rappresentante del capovandamento di Partenicco. Sì, e lei infatti ci richiama Giacalone Filippo. È scomparso. Uomo d'onore. Rappresentante di San Lorenzo. Prima di Giuseppe Giacomo Gambino. Quando è che sarebbe scomparso Giacalone Filippo? Quando sarebbe scomparso Giacalone? Ma verso il... 78, 79. Sì. Dei grado, di cui abbiamo anche parlato nel corso... Grado Gaetano. Sì. Grado Giacomo. Grado Salvatore. E grado Vincenzo. Quello che riguarda questo processo è grado Gaetano, sole e uomo d'onore. Grado Vincenzo e grado... L'altro fratello, come si chiama? Grado Salvatore. Grado Salvatore. Ci sono dichiarazioni che non riguardano questo processo. E grado Giacomo. Cioè, va imputato come associazione, non lo so. Sì, grado, dunque, vi dico, grado Gaetano e... Anche Salvatore. Grado Salvatore. Sì, anche il suo uomo d'onore. Grado Vincenzo e... Mentre Giacomo... Grado Giacomo. Enzo e Giacomo invece non lo so. Enzo e Giacomo non lo so. Sono uomini d'onore. Mentre Gaetano e Salvatore, sì. Sono uomini d'onore. Graviano Benedetto. Sì, tutte e c'è fratelle sono uomo d'onore. Graviano Benedetto, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe. Che lei conosce. Sì, personalmente. Personalmente. Greco Francesco. Greco Francesco, fratello di Michele. Eh già. L'ho conosciuto qualche volta. Non so se sono in grado di riconoscerlo, però è uomo d'onore. Ostetico. Dovrebbe essere. Il greco Michele, lei... Il greco Michele e il greco Salvatore. Nelle sue dichiarazioni, e quindi si riporta alla dichiarazione in re sé. Sì, sì. Sì, no, perché ho voluto accostare per la paternità. Greco Michele fu Giuseppe, greco Francesco fu Giuseppe. Greco Giuseppe di Michele è il figlio di Michele Regheco. Lei lo ha conosciuto. Sì. È quello che si occupava di cinema. È uomo d'onore. Ha avuto questo piacere, suo padre, di farlo combinare. E il greco... È una femminuccia. Greco Giuseppe di Salvatore. Sì, anche io uomo d'onore. Greco Salvatore. Sarebbe il senatore. È, il senatore. Uomo d'onore. Greco Giovanni fu Salvatore. Greco Giovanni sarebbe Giovannello. È. Sì, uomo d'onore. Lei l'ha conosciuto, Greco Giovannello? L'altro greco, Greco Giuseppe, ecco, quello nato nel 52, scarpa, ne abbiamo parlato diffusamente. Appunto. E lei ha detto che al 100%. Appunto. Sì. Poi c'è Greco Ignazio fu Vincenzo. Doveva essere il vecchio, quell'anziano. Sì, insomma, diciamo qualche anno più di me. Va bene, ma... Mi scusi, non è che anzi... No, io per niente, perché mi avvio su quella idea. Dunque, diciamo, 66, 67... Non ci ha avuto confidenza particolare, Presidente. Non ha avuto confidenza particolare. Greco Leonardo. Sì. Lei, Greco Leonardo, lo conosco benissimo. Sì, è un uomo d'onore di Bagheria. Ha fatto genno nelle sue dichiarazioni e se ne è occupato anche a proposito del traffico di droga. Sì, sì. Guttadauro Giuseppe. Cioè, sarebbe il dottor Guttadauro. È consigliere della famiglia di Rocello. Consigliere della famiglia... Lei lo conosce? Sì. Ierna Michele. Michele Ierna. Ierna. Però Catania, questo qua. No, no, niente. Allora Ierna Salvatore la stessa cosa. Ignoto Francesco. Ma è un analista. Un medico comunque. No, non è un uomo d'onore. Non è un uomo d'onore. E in Chiappa Giovanni Battista? Non è un uomo d'onore. È stato fermato per una circostanza insieme a Spadaro e a Marchese. Ma non è un uomo d'onore. In Grazia Ignazio. Sì, un uomo d'onore di Chiappulle. Perché in quel periodo era sciolta la famiglia di Costo de Mille. È stato combinato e aggregato alla famiglia di Michele Greco. È insinuo. Adesso è l'attetante negli Stati Uniti. Qua c'è vento, venti, già in manco vale. L'Abruzzo Mario. No, non è un uomo d'onore. Lo conosce? Sì, perfettamente. La Mantia... Quando io rispondo no. La Mantia Gaspare. Gaspare? La Mantia. Sì. Non le dice nulla il nome. La Mantia Gaspare fu Matteo e la Mantia Matteo di Gaspare. Padre e figlio. Per il momento non mi dice niente. La Mantia Salvatore di Benedetto il cognome non le dice nulla. La Molinara Guerino. C'è così su due piedi, Presidente. Uno può dire quello che di cui c'è. La Molinara Guerino. Non mi dice niente. Non lo conosce. Questo qua è... La Rosa Antonino. Sì. Lo conosce? La Rosa... Antonino. Di Vincenzo. Di Ciaculli. Sì, sì. Addirittura è stato fatto capodecina da Pino Greco Spar. Questo è la Rosa Antonino. Sì. Lei lo conosce, la Rosa Antonino? La Rosa Giovanni fu Emanuele. Aspetta un momento, Presidente. La Rosa Antonino... La Rosa Antonino... Io non vorrei fare confusione. E lei ritorna. Io conosco la Rosa che è stata detenuta e che ci ha fatto il piantone anche a Luciano Ligio. con gli occhiali, chi ha avuto gli arresti domiciliari. E io potrei confondere col nome, adesso non mi... E allora lei si può riferire alla Rosa Giovanni? Alla Rosa Giovanni, ecco. Sì. Non voglio fare confusione. E che diciamo è sull'ordine dei 50 anni. Sì, signora. Con gli occhiali, sì. E questo lei che cosa dice? Questo dicevo che è capodecina di Ciaculli. È stato fatto da scarpa capodecina. Non la Rosa Antonino, quindi? La Rosa Antonino a chi si riferisce? Quello che è stato fermato con... No, non è uomo d'onore. Non è uomo d'onore. Siccome ci sono di vesti la Rosa, ecco perché faccio confusione. Va bene. Non è uomo d'onore. Non è uomo d'onore. Non è uomo d'onore. Lauricella Caloggero. L'ha conosciuto lei? Caloggero? Lauricella. Sì. Se il nome mi dice qualcosa, ma per il momento non... E la Valdera Pietro? Sì, un buon incchio, è uomo d'onore. Ileggio, quelli che andarono a medicina in Emilia, lei li ha conosciuti? Io l'ho conosciuto in questa frangente di processo qua. Comunque, Penuzzo, quello che è stato, diciamo, soppresso con la lupara bianca, era uomo d'onore. E gli altri? E per un periodo è stato anche supervisore della regenza a Bagheria. E gli altri? Gli altri credo che per il passato fosse... Ecco, non so distinguere chi c'era, Francesco, c'era poi... Luciano. Luciano. E Leo Luca. Credo Leo Luca. Dovrei vederli per ricordarmi il nome, Presidente. Ma quello che era imparentato con Salvatore Munchello e Bise, Salvatore Rizzuto. E questo lei dice era uomo... Uomo d'onore. Uomo d'onore. Luciano Leggio, lei lo ha conosciuto. Beh, è superfluo. Leggio Salvatore è un altro di quelli di medicina e lei ne ha parlato poc'anzi. Licciardello Giuseppe, niente, questo non... Non danno per il capo, è sette. Licciardello Giuseppe, niente. L'Ipari Giovanni... Di cui lei credo che abbia fatto... Cioè, Otegnoso. Sì, L'Ipari Giovanni, della famiglia di Portanova, sì. Va bene. L'Ipari Giuseppe, che lei chiama Pino, nelle sue... Sì, dalla famiglia di Partinini, il geometro, l'ingegnere. L'Ipari Giuseppe di Arturo, Locascio Gaspare. Locascio Gaspare... Aspetta un momento. C'è Locascio Gaspare e Locascio Giovanni. Ci sono due Locascio Giovanni. Locascio Giovanni è un uomo d'onore di Brancaccio. Mentre Locascio Gaspare non è un uomo d'onore. Sono due i Locascio Gaspare. Dei figli è un uomo d'onore. Va bene. E allora passiamo anche... L'Oiacono Andrea. Uomo d'onore. L'Oiacono Antonino. Uomo d'onore. Di costa dei mille. Tutti i Loiaconi sono uomo d'onore. L'Oiacono Giovanni, Loiacono Pietro. Sì. Lombardo Giovanni. No, Sebastiano è uomo d'onore. Lombardo Giovanni no. No. E Lomeo Costantino? Come? L'Omeo Costantino. Non mi dice niente. Non mi dice niente. L'Opresti Salvatore. Sì, è uomo d'onore di Portanova. E L'Overde Giovanni? Di Santa Maria di Gesù. E Lucchese Antonino? Non è uomo d'onore. Lucchese Giuseppe? Certamente, di Corsa di Mila. E di Ciappolo. E Lupo Faro Maria? Lupo. Lupo. È uno giovane, relativamente giovane. Parente di Badalamenti. Sì, per il momento non mi... Non le dice nulla? Presidente, così le diciamo a lampo, non posso riattivare i miei ricordi. Io mi limito a dire quelli con certezza. C'è altro? Lupo Giuseppe. Non le dice nulla neppure. Non so di quale lupo parla. Lupo della stessa parentela, dell'altro lupo. Per il momento non... Madonia Francesco? Parliamo di Ciccio Madonia. Lei ne ha parlato. Certamente. Madonia Giuseppe... Madonia Giuseppe... Madonia Giuseppe, Madonia Antonina e Madonia Salvino. Madonia Salvatore... Non lo conosco, Aldo, come uomo d'onore. Anche se l'ho visto un paio di volte, ma non lo conosco. Ma non ci interessa. Ma Gliuzzo Tommaso l'ha conosciuto? Magliuzzo Tommaso è stato posto per un periodo fuori famiglia. Se poi è rientrato non mi sono più informato. Però era uomo d'onore. Tommaso e Massino. Cioè Tommaso e Vittorio. E Vittorio. E Mangano Vittorio. Scusi, Presidente. Per Vittorio mi riferivo che era stato messo un periodo fuori famiglia. Ma Gliuzzo Vittorio. E invece Tommaso... Tommaso invece è stato sempre uomo d'onore a tutti gli africani. E Mangano Vittorio? Uomo d'onore anche gli è di Porta Nuova. No, no, non ho problemi. Mangione Antonino. Mangano l'ha scritto. Mangione Antonino? No, credo che prima lei mi ha chiesto di Mangano Vittorio. Ho detto sì. Uomo d'onore. E Mangione Antonino? Mangione. Sì. Mangione... No. Non le di via. Maniscalco Salvatore. Sì, uomo d'onore. Mannino Angelo. Maniscalco Salvatore è quello che vende i mobili. Maniscalco Salvatore... Che era imparentato con Zaccherone. Eh, è questo qui? Sì, uomo d'onore di costo dei miei. E Mannino Angelo? Mannino Angelo. Angelo Mannino. Mannino Angelo non le dice nulla il nome. Sì, il nome mi dice, però non... Non lo inquadra. Per il momento non lo inquadra. Dei Marchese abbiamo parlato. Marchese Antonino, Marchese Filippo, Marchese Giuseppe. Ecco, ci sarebbe questo Marchese Mario, e ne abbiamo... Mariano Marchese, e il rappresentante di Villa Grazia. Abbiamo parlato, Marchese Rosario, e Marchese Salvino. Sono uomo d'onore di Villa Grazia. Villa Grazia di Palermo. Villa Grazia di Palermo. E Marchese Santo... Marchese Santo di Domenico. Questo è uno di... No. Un gruppo di Monreale. No, non mi dice niente, però. Marchese Mario di Domenico e Marchese Santo di Domenico. Non mi dice niente. Non mi dice niente, questo. Non mi ricordo, però. Marchese Vincenzo di Gregorio. Cioè, il padre di Marchese Antonino e Marchese Giuseppe. Parla per lui. Eh? Sì. E' un uomo d'onore, ti posso dire. Marino Francesco? Ma Marino Francesco è quello che è morto? Marino Francesco fu Michele. Cioè, quello che è morto alla questura? No, no, no. Eh, di che parla? Marino chi? Marino è uno che può avere... Per il rapido. Sui... No, per il momento io non so quello Marino Boscio. Comunque, così... Quello Marino Salvatore. Va bene. Che non mi ha detto lei, Presidente? Marino Francesco. Ah, Marino Francesco. No, sono io. Senza il cognome di Mannoio. No, Marino Francesco proprio. Lei è Marino Mannoio. Ah, aspetta un momento. Marino Francesco fu Michele. Marino Francesco è stato eliminato con la lupara bianca, è stato soppresso dalla famiglia di Corso dei Mila. Ciccio Marino. Che cosa faceva? Sì, è imputato per rapine ed altre cose insieme alla chiamata, sì, sì. Eh, uno... Ecco, Presidente, siccome siamo una... Io lo possiamo fare bene. Possiamo... Marsalone Rocco. Nessuno dei due fratelli è uomo d'onore. Né Marsalone Rocco, né Marsalone Salvatore. Anzi, io volevo lanciare un messaggio. Va bene che loro l'hanno letto le mie dichiarazioni. In che senso lei voleva lanciare un messaggio? No, siccome se l'è messo vicino Pippo Calotipo, per il senso che poi quando era ricoverato all'ospedale Rocco, Ciccio Madonia gli è caduto il cucchiaio dalle mani, dalla bocca, quando ha sentito l'uccisione del padre, come se tutto cadesse dalle nuvole. È stato mio fratello, insieme all'occhiesa, ad ucciderlo. Non ha ancora da affidarsi alla buona sorte degli uomini d'onore. Dunque, né Marsalone Rocco, né Marsalone Salvatore sono uomini d'onore. E per quanto riguarda, diciamo, implicazioni... E sa perché cosa l'hanno ucciso? Però un vecchio rancore, che neanche era nato, il signor Locchiosello, perché questo padre di Marsalone si è fatto quasi 30 anni, poveraccio, perché ha avuto imputato l'omicidio di un zio di Locchiosello. E magari innocente era. E questa vendetta l'ha curata per 30 anni sul ragazzetto che poi è cresciuto e a tutti questi Marsalone dice che le doveva seminare, come infatti il primo. Ma Marsalone Rocco... Comunque andiamo avanti, Presidente. Marsalone Rocco è un'altra cosa che riguarda nel suo processo. Marsalone Rocco è Marsalone Salvatore, che, secondo me lo che lei dice, non sono uomini d'onore. Però Marsalone Giuseppe, che io chiamo Giuseppe, però ha il cognome di Salvatore, però io lo chiamo Peppuccio. Va bene, lei lo chiama Peppuccio, non sono uomini d'onore. Ci sono fatti specifiche di gioco. E questo lei che cosa sa di questo? Ha una vita che ha lavorato per conto di Giovanni Bontate, insieme a un altro chimico, per conto anche di Giovanni Bontate e Michele Greco. E Marsalone Rocco... Marsalone Rocco no. E Marsalone Peppuccio? Ma io per loro parlo, Presidente. Io parlo perché non del padre. Non del padre, di loro. Parliamo dei due fratelli. Rocco non è neumo d'onore, ne ha trafficato mai, diciamo, come laboratorio nella chimica. Invece io parlo di quello che io chiamo Peppuccio, che sarebbe Salvatore. Sì, e questo invece... Questo sì. Peppuccio sì. Peppuccio sì. Rocco no. Rocco no. Rocco no. Per quel che è la mia conoscenza. Ma devi fare... E il... Ecco, questo... Francesco Giuseppe dovrebbe essere quello di cui parlo io. Peppuccio. Peppuccio. Comunque... Comunque... Comunque, li conosco benissimo, al cento per cento. Comunque, Marzalone Rocco è fuori, lei dice, secondo quello che lei... Non è uomo d'onore. Nessuno dei due è uomo d'onore. Marzalone Rocco non traffica in droga... Quelle che sono le mie conoscenze. Le sue conoscenze. Si limitano a Giuseppe, a Peppuccio, Marzalone, nella raffinazione dell'eroina. Va bene. Peppuccio, Marzalone, nella raffinazione dell'eroina. Martello Biaggio. Biaggio, Martello. Uomo d'onore, sì. Gino. Gino. E Martello Mario. Martello Mario pure. E Martello Ugo pure. E Martello Ugo pure. E vabbè, se ne parla. E quindi, Martello Biaggio, Martello Mario e Martello Ugo. Massa... Mentre il quarto, il fallegname, l'altro fratello non è uomo. Non ci interessa. Matranga Gioacchino. 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 Gioacchino Matranga. Gioacchino Matranga. Cioè, il nome mi dice... Cioè, dovrebbe essere anziano. E Martranga Gioacchino, diciamo, relativamente... Cioè... Non, no. No, ma... Andiamo avanti, Presidente. Matranga Giovanni. No, non è uomo d'onore. Non è uomo... Lei lo conosce? Sì, personalmente. E Mavugeri Nicolò, questo è di Catania. Nicola Mavugesti, capodicina di Catania. Capo 160, mail di questa aiuta, Messina, Edoardo. Messina, Edoardo. Edoardo, appunto, ecco il discorso che avevo detto stamattina sul giornale della trascrizione. Mi riferivo appunto, capodicina, Edoardo, Messina. Si riporta a quello che ha detto. A quello che ho detto stamattina. Messina, Pietro? Pietro, Messina. Sì. Ben interno. Milano, Nicolò. Sì, un riccio, Nicolò Riccio. Sì. Lo conosce? Sì. È uomo d'onore. Lui, suo figlio Luzio e suo figlio Salvatore. Mentre l'altro figlio non è uomo d'onore. Tutti e c'è sono di Porta Nuova. Che noi non abbiamo, però, appunto, abbiamo questi... Minardo Giovanni? Minardo. No, mi dice niente. Mineo VII. Sì, è uomo d'onore. Di Pagliarello. Lo era anche suo fratello Totuccio. Dica un po', mi stretta Filippo e mi stretta Rosario. Nessuno di due è uomo d'onore. Nessuno di due è uomo d'onore. E conosce che essi... Li conosco perfettamente tutti e due. E conosce anche che trafficassero droga. Filippo è stato sempre un lavoratore, un orefico artigiano. Un orefico lavoratore. Rosario era intimo con Manuele D'Agostino, ma non è stato mai... Non è uomo d'onore. E aiutava anche il fratello nella bottega artigiana. E non si occupavano di traffico di droga? Che a mia conoscenza, non lo so. Se poi si occupasse Rosario, non lo so. E lei perché limita Rosario? Perché di quello ho la certezza... Di Filippo? Di Filippo. Alla certezza che non si occupava di... Rosario era un intimo amico mio. Camminava con me e con Manuele D'Agostino. Però con me non ha mai trafficato il stupefacente. Se l'ho fatto con Manuele D'Agostino... Non lo sa. Ecco perché io dico questo. Sì. Mondino Michele. Non è uomo d'onore. E Montalto Giuseppe. Sì, figlio di Salvatore Montalto. Montalto Salvatore. Ne abbiamo pure parlato e lei ne parla anche nella dichiarazione. Motisi Ignazio. Sì. Ignazio Motisi. Per ora figura come rappresentante dei Pagliarelli. Motisi Ignazio. Sì. Dovebbe avere 50... 50 in atta. E Murabito Concetto. Lo ha... Che è un catanese. No, catanese. Non lo ha... Mutolo Gaspare. Sì. Uomo d'onore, sì. Dipartante. Lo conosce lei, Mutolo Gaspare? Sì, sì. Personalmente. E Mutolo Giovanni, il fratello. Non è uomo d'onore. Non è uomo d'onore. No. Nangano Giuseppe. Uomo d'onore però è stato posto fuori famiglia per un periodo. Se è rianciato non lo so. Nania Filippo. Era uomo d'onore di corso dei mille. Di corso dei mille. Nania Filippo. Sotto capo di Partirino. Di Nenè Gerace. Napoli Stefano. No, non è uomo d'onore. Lo conosce? Sì, personalmente. Che attività fa? Compra mece rubata, pellice, queste cose qua. Nicoletti Vincenzo? Non l'ha presente. Per il momento non... Oliveri Giovanni? No, non è uomo d'onore. Lei lo conosce? È nipote di Tarino Tenerello. Lei lo conosce? Sì. E non è uomo d'onore? Non è uomo d'onore. Pace Giuseppe? Nessuno dei tuoi fratelli è uomo d'onore. Né pace... Né pace né Stefano. Né Stefano né Vincenzo. Vincenzo credo che si chiami l'altro. Sì, Vincenzo e Stefano. Non sono uomini d'onore. Non sono uomini d'onore. Pace Stefano e pace Vincenzo. Pace Giuseppe di Salvatore. Pure lui non lo è. Sono tre. Uno è pace Giuseppe di Salvatore. Io ne conosco due fratelli. E chi conosce lei? Enzo e Stefano. Stefano e Vincenzo. E Vincenzo. Stefano e Vincenzo. Che non sono uomini d'onore. Che non sono uomini d'onore. E pace Giuseppe di Salvatore. E chi sarebbe? Non mi ricordo. Non lo ha presente. E il genero di uno, la rosa Giuseppe, non lo ha presente. Me lo ripeto di nuovo, Presidente. Pace Giuseppe di Salvatore. E' uno che potrebbe essere sull'ordine ora dei 60 anni, di 57, 58 anni. Non lo ha presente. Per il momento non mi ricordo. Beh, allora ritorniamo a precisare per essere conclusivamente più pace Stefano e pace Vincenzo. Fratelli non sono uomini d'onore. Dai scudere al 100%. Va bene. Sono lavoratore. Palazzolo Paolo. Questo è uno di Cilisi. L'ha presente? Il nome mi dice qualcosa, ma io rispondo solo quando è scelta la cosa. Palazzolo Sedevio, nella stessa condizione, perché mi sembra che siano parenti, fratelli probabilmente. Sì, sì, sì. Vabbè, quel Patricola Stefano di cui parlavamo poc'anni. Il figlio di Ciccio Patricola. Lei? Non è uomo d'onore. E lei lo ha conosciuto questo? Sì, l'ho conosciuto tanto tempo fa, aveva una carresseria. E non è uomo d'onore. Pedone Michelangelo. Come? Pedone... Sì, sì, uomo d'onore. Michelangelo. Uomo d'onore, dipartano. Michele Pedone. Sì, sì, e lei ne fa un riferimento. Sì, sì. Perina Giovanni. Come? Perina Giovanni. Questo è uno di fuori. Non lo ha. No, Presidente. Pilo Giovanni. Pilo, Giovanni Pilo. Cioè, il cognato di Giuseppe Giacomo Gambino. Costruttore, costruttore. Presidente, io non so dire bugie. Quasi certamente uomo d'onore, ma non me lo ricordo in questo momento. Non lo può dire con certezza. Io non so dire... E Pipitone Angelo Antonino? Sì, certamente. Che lei ha conosciuto, del resto. Sì, sì. E anche un suo fratello. Ecco. Sarebbe Pipitone Giovanni Battista e Pipitone Vincenzo. Parliamo di Villagrazia di Carine, non di quella di Palermo. E anche un suo fratello. Ecco. Sarebbe Pipitone Giovanni Battista e Pipitone Vincenzo. Parliamo di Villagrazia di Carine, non di quella di Palermo. Sono tre, praticamente. No, io ne conosco due. E chi conosce? Io conosco Pipitone Angelo, che sarebbe... Pipitone Nino chiamavano altri, che adesso ha ottenuto gli arresti ospedalieri. E Pipitoni. E un altro fratello, che sarei in grado di riconoscerlo. Ma non mi ricordo il nome. Non ricordo il nome. Ma credo che sia... Giovanni Battista. Giovanni Battista. Giovanni Battista. Presti Filippo Giovanni. Sì. Lei ne parla anche di Presti Filippo Giovanni. Sì. Presti Filippo Giovanni. Giovanni, il padre di Giuseppe e di Mario. Presti Filippo Giovanni, è il padre di Giuseppe e di Mario. Ma pure nelle sue dichiarazioni. È un modo d'onore, sì. È un modo d'onore. Lui è il figlio che è stato ammazzato, Santo Presti Filippo. Santo Presti Filippo. Il padre di Santo Presti Filippo. E se il poveraccio ci interessa, è stato ammazzato da Lucchese, mio fratello e dall'altro. Comunque. Beh, questo non ce ne occupiamo. Lanciamo qualche messaggio, così si sa non regolare. Presti Filippo... Attribuiscono tutto ai UFO. Presti Filippo Giovanni, Presti Filippo Girolamo. Figlio di Giovanni. Ecco, sono due fratelli. Santo quello che è stato assassinato. Che ho detto pure da chi? Presti Filippo Girolamo. E il suo padre. Mentre Girolamo non era uomo d'onore. Girolamo non è uomo d'onore. Presti Filippo... Giuseppe Francesco è il fratello... Di Mario. Di Mario. Presti Filippo Giuseppe Francesco, lei l'ha conosciuto pure. Sì, è uomo d'onore. È uomo d'onore. E Presti Filippo Nicola. Presti Filippo Nicola di Francesco. Questo, diciamo, dell'ordine dei 40 anni ora, va bene? Non l'ha presente. Non mi ricordo per ora, Presidente. E Presti Filippo Salvatore. Brucia Montagna, sì. Lo zio. Presti Filippo Salvatore del 33. Qua ce ne sono... Procida Salvatore. No. Non hai idea di questo? No, non mi ricordo niente di questo. Profeta Salvatore. Sì, è della famiglia di Santa Maria di Gesù. Provenzano Bernardo, lei ne ha parlato... Sì. Sì, sì, è uomo d'onore di Colleone, sì. Ne ha parlato in questi limiti, soltanto... Provenzano Salvatore. Il fratello. Provenzano Salvatore fu angelo... No, non è uomo d'onore. Non è uomo d'onore. Di Pullarà, Giovan Battista e di Pullarà, Agnazio, lei ha parlato a lungo e ne ha fatto più volte riferimenti anche davanti a questa aula. Sì, sì, confermo tutto. Rencatore Domenico. Sì. Sì, lei ne parla pure. Raccuia Cosmo. Raccuia Cosmo, lo saluta, e mi è sfuggito. Raccuia Cosmo. Presidente. Rancatore Domenico. La prego, andiamoci per ora. Rancatore Domenico e Rancatore Penuso. Cioè sarebbe padre e figlio. Sì, Rancatore Giuseppe e Rancatore Domenico. Sono tutti e due uomo d'onore, anche se adesso le cose sono cambiate, che non riguardano questo processo, forse. Raccuglia Cosmo. Cosmo e Raccuglia, uomo d'onore. Che lei conosce. Personalmente, sì. Randazzo Giuseppe, di carini questo, non l'ha presente. Non l'ho presente per ora. E un altro randazzo, Randazzo Salvatore. Presidente, avrete bisogno più tempo e più, per il momento non mi ricordo. Di questo randazzo Salvatore non ricorda. No, ma anche per qualche altro, quando io non mi ricordo, non voglio sforzare la mia mente. E io, come sto dicendo, quello che lei ricorda, quello che lei non ricorda, non glielo posso... C'è il randazzo Vincenzo Vito, che è il processo abbonnesso. Randazzo? Il randazzo Vincenzo Vito. Randazzo Vincenzo Vito. Ha un'idea di questo... No. Allo Stato no. Il nome mi è noto, Presidente, però no... Rapisarda Giovanni è di Catania, questo. No, no, non è un voto no. Saro Riccobono, ne abbiamo parlato. Riela Saverio. Come? Riela Saverio, Catanese. No, non mi dice niente. Di Irina mi sembra che ne abbiamo parlato. Irina Giacomo c'è un riferimento in una pagina della sua dichiarazione. Di Irina Salvatore c'è una... Ci sono lunghe dichiarazioni e nel resto se ne è parlato anche nel corso di questa audizione dibattimentale. Rizza Salvatore, niente. Rizzuto Salvatore. Questo Rizzuto Salvatore... Sì, è un voto onore di Porta Nuova, ma si è sentito che la denuncia... Che sarebbe Romano Pietro, Romano Pietro di Luigi, uno che abitava in via Fichidiglia. In via Fichidiglia. Sì. Il Romano, credo che non... Nino Rotolo, Rotolo Antonino, lei più volte fa riferimento nella dichiarazione... Sì, sì, confermo tutto, Presidente. Si conferma quello che ha già confermato più volte. Di Rotolo Salvatore, Anatredda, detto... Sì, non è un voto onore per... Le abbiamo parlato e lei dice soltanto questo e non dice altro. Sì. Lei poc'anzi diceva che ragioni, accostandolo ad altri imputati di battaglia, che per ragioni familiari non poteva essere... Ha detto anche di Rotolo Salvatore, che per ragioni familiari non poteva essere uomo d'onore. Ma altro... Nonostante è stato uno dei più validi della cosca di Costa dei Vili. Dei più validi in che cosa intende? Validi nel senso di delitti, di omicidi. Cioè, costa lei che... Sì, era notorio, Presidente, era notorio. Come per lui, come per tanti altri. Ma io quando so qualcosa di specifico la riferisco, quando non so niente. Cioè, lei dice in questo caso che era solo notorio? Sì. Che lui fosse dedito... Sì. Va bene, alla partecipazione materiale... Sì. ...al omicidi. Pur sapendo che non lo potevano combinare. Quindi lo hanno sfruttato in poche parole. E lei mi potrebbe indicare allora in quali fatti fosse coinvolto? No, specificamente no. Perché sono una miriade di cose che mi raccontavano che per il momento non mi ricordo, Presidente. E che lei non chiedeva particolari neppure per questi fatti. Eppure erano eclatanti alcuni, abbastanza. Sì, erano eclatanti, ma io non avevo niente da apprendere, perché avevo già le mie... Idee, le sue idee. No, le mie idee, ho già le mie idee, avevo i miei fatti personali che avevo commesso per i fatti miei. Quindi non mi portavano un gran chiede di stupore tutte queste cose che facevano. Perché io non ero migliore degli altri. Torno ancora una volta a chiederglielo perché sia chiaro questo, va bene, momento. E vale tanto per la posizione di questo rotolo salvatore, quanto per tutti gli altri che siano implicati in efferati i fatti. Quello che lei ha detto e quello che ora dice è in relazione alla notorietà. Cioè era notorio che... Ci sono delle chiamate di corrio di altre persone, io mi limito a dire quelle che sono. Io non sto interrogando le altre persone, sto interrogando lei. Lei mi dice che era notorio, va bene, era notorio. Io le ho chiesto se ero in grado di poter dare indicazioni più specifiche. E lei ha detto che era una tale miriade di fatti che io non potevo neppure seguirli tutti. Io l'ho detto gentilmente che in me non ci sono riserve mentali. Eh, questo va bene, è già registrato. Ci sono solo frutto di cattivo ricordo. Che a volte si può accendere la lampadina e io stesso, come ho fatto stamattina per esempio il giornale, le potrei dire, Presidente, un momento, ho ricordato questo. Va bene. Quindi non c'è... Va bene. Salamone Antonio, lei mi ha anche parlato, questo Salamone Antonio, Salvo Ignazio. Io ho conosciuto solo Salvo Antonino, mi è stato presentato direttamente da Stefano Pontato, eravamo in pochi a conoscerlo e mi rilascio al verbale. A quello che ha detto, Salvo Ignazio non lo ha conosciuto. Anche se mi è stato detto che era un uomo d'onore, ma non l'ho conosciuto. Non l'ha conosciuto. Mi confermo quello che ho scritto nel verbale. Santa Paola Benedetto, l'abbiamo detto proprio questa mattina, che lei non ricorda di averlo conosciuto. Salvo Cacarmelo, che è in Catanese questo, non le dice nulla il nome. E Savoca Giuseppe, questo... Per ora è il rappresentante di Brancaccio, figurativamente, figurativamente, perché tutto il resto lo fa Giuseppe Graviano. Savoca Salvatore fu Francesco. Savoca Salvatore. Sì. E uno che abitava in fondo Tinnivello. Per il momento non mi dice niente il suo nome, Presidente. E Savoca Vincenzo di Luigi. Vincenzo io conosco solo il sedeato, non so se è imputato in questo processo, che sarebbe parentato con Savoca Rosolino e Savoca... con Pino Savoca. Scaduto Giovanni? Sì, una volta è stato rappresentante di Baccheria, poi hanno sciolto la famiglia. Ha lasciato la famiglia? Hanno sciolto la famiglia. Hanno sciolto la famiglia, scusi, l'avevo sentito male. Hanno sciolto la famiglia, parliamo famiglia di cosa nostra. Sì. E allora, dopo che è stata sciolta la... No, è uomo d'onore. È uomo d'onore. Scaglione Salvatore, ne abbiamo parlato. Scavone Gaetano. Sì, è un vecchio uomo d'onore. Però un po' in disarmo. In disarmo. E schiavo Carlo? Era mio zio, lo aggiungo. Quello che è stato ucciso... Sì. Hanno fatto questa bravata. Domandiamole perché è stato ucciso, lui. Oppure io. Comunque andiamo avanti, Presidente. Sciarabba Calcedonio? Un vecchio uomo d'onore. E Sciarabba Giusto? Giusto, però non mi ricordo. Non l'ha presente. Francesco Scrima. Sì, è il consigliere dell'epoca l'opera. Questo Francesco Scrima. Lei lo conosce? Sì. Senapa Pietro o Senapa? Senapa Pietro. Ne abbiamo parlato nel corso anche. O quantomeno il suo nome lei lo ha fatto. Serra Carlo. Credo che in quel discorso che parlavamo prima della macchina dell'uccisione, quello che l'ha tamponato di Nino Marchese e cose, credo che ci fosse anche Senapa in quel discorso. Lei si riferisce all'episodio l'omicidio, lo Iacono Carmelo e Perri Antonino. Il nome dei morti non me lo ricordo, Presidente. Allora lei ricorda l'episodio. L'episodio. Non mi restavano. Il fatto. Il fatto. Il fatto. Il fatto. Serra Carlo. C'è Catanese. Serra Carlo. C'è Catanese. In quella zona. No, non è Uomo d'Onore, no. Se lo conosco, l'ho visto qualche volta qua, non è Uomo d'Onore. Dei Sinagra. Dei Sinagra solo tempeste è Uomo d'Onore. Solo? Solo tempesta. Quello detto tempeste. Gli altri no. Gli altri no. E il Sinagra, Vincenzo, quello del 56, diciamo, il Sinagra che ha fatto... Il collaboratore della giustizia. Non è Uomo d'Onore. Non è Uomo d'Onore. Invece tempesta era... Solo tempesta. Lei tempesta l'ha conosciuto pure. Sì, l'ho conosciuto qua, lo conosco da prima. Sorce Vincenzo. Adesso è rappresentante di Palermo. Cece Sorce. Noi lo chiamavamo Cece Sorce. Vincenzo Sorce. Vincenzo Sorce. Cece Sorce. Sorresi Giuseppe di Borgetto, questo. Sì, Uomo d'Onore. Per un suo Sorrese. E Sorresi Natale? Il figlio no, non mi risulta. Non le risulta che sia Uomo d'Onore. Vediamo degli Spadaro. Chi è che lei... Spadaro Antonino di Tommaso, figlio di Tommaso. Ecco, di Spadaro c'è... I tre fratelli sono scontati. Sarebbe Vincenzo, Pino e Masino. Ora passiamo ai figli. Il figlio di Masino, Francolino. E i due figli di Pino Savo e di Pino Spadaro. Mentre i figli di Vincenzo, non mi risulta che nessuno sia Uomo d'Onore. E i figli di Vincenzo? Va bene. E questo Spadaro Antonino, figlio di Tommaso? No. Non è Uomo d'Onore. Non è Uomo d'Onore. Solo Franco lì. Franco, figlio di Tommaso. Franco, figlio di Tommaso? È per lui che sto parlando. Franco, figlio di Tommaso. L'altro, Franco Giuseppe, figlio di Giuseppe, Spadaro, è Uomo d'Onore. E anche il fratello Antonino. Va bene. Mentre i figli di Cecè, di Vincenzo, Spadaro, non mi risulta che ce ne sia Uomo d'Onore. E Spina Giuseppe? Come? Spina Giuseppe. Sì, padre e figlio sono Uomo d'Onore. Spina e suo padre Raffaele. E il padre Raffaele. Della famiglia della Noce. Spitalieri Rosario. Credo che forse sia stato combinato negli ultimi tempi. Non mi ricordo, Presidente, perché questo è scappato. Pietro Tagliavia? Sì. Ora sono emergenti queste Tagliavia, perché ora sono importanti. Importanti perché? Hanno commesso un mare di omicidi e cose che adesso sono importanti. Una volta Sarorre Cobbone invece ha perduto la via e gli ha dato colpe di legna in testa. E allora i figli non erano scalzi, se la sono tenuta tutte. Ora invece abbiamo... Taormina Giovanni? Taormina Giovanni? Come? Taormina Giovanni? Taormina Giovanni? Mh. Non mi ricordo per ora, Presidente. Dei Teresi. Teresi Carlo, il numero uno, diciamo, per intenderci. E' stato nominato reggente all'epoca, sì. E l'altro Teresi Carlo, quello figlio di Giovanni. Figlio di Giovanni? Sì. Un Teresi Carlo, figlio di Giovanni. Non lo ha presente. Aspetta, andiamoci per ora. Teresi Carlo, figlio di Giovanni Pacchione. Figlio di Giovanni, nato nel 25. No, no, nato nel 25, quindi una persona che ha, insomma, una età. Presidente, lei sta parlando di Giovanni Teresio Pacchione. Aspetti, prendiamo il quadro dei Teresi perché è molto meglio. Perché sono una meria di Teresi. No, no, non c'ho il quadro. Dunque, e allora... Comunque, io la posso dire a quelle che conosco io, Presidente. Teresi Carlo, del quale io l'ho chiesto, Teresi Carlo fu Antonino e, appunto, quello detto il numero uno. Scusa, se lei me le elenca così, che mi dice Carlo Teresi numero uno, io ci dico sì. Se mi dice le palterne età, io non le so. Allora, no, io Teresi Carlo... Ma veda, a me servono per inquadrarle... Teresi Carlo fu Giovanni e il fratello di Teresi Giovanni o Pacchione. Allora sarebbe Sputinicchi, quello snello e altro. Teresi Carlo. Teresi Carlo, fratello di Teresi Giovanni o Pacchione. Credo che sia un modo onore, però è un'animella. Credo che sia un modo onore. Ma è un'animella. Dunque... Cioè, non sono sicuro nel mio ricordo, Presidente. Ma ho sopraggiunto anche questo particolare. Sì. Un Teresi Francesco. Scancia e mancia. Sarebbe quello che aveva la bussola di Mondello. E questo? Uomo d'onore di Brancaccio. Ora, Teresi Giovanni... O Pacchione. Ecco. Era consigliere della nostra famiglia. Poi ci sono altre cose che non riguardano questo processo. Dei Tinnirello, che cosa mi può dire? Ma che vuole sapere? No, lei Tinnirello, va bene, li conosceva tutti. Tutti. Io conosco Lillo Tinnirello. Allora mi dica chi conosce. Tanino Tinnirello. Lei mi ha parlato. Tinnirello Antonino. Un momento, Presidente. Io conosco Tanino Tennirello. Eh? Lillo Tennirello. Eh? Michele Tennirello. Eh? Renzino Tennirello. Eh? Renzino sarebbe Lorenzo. Lorenzo. Lorenzo, sì. E poi non so, perché ce ne sono parecchi Tennirello. Allora questi che ha menzionato, Tinnirello Gaetano. Tinnirello Renzino. Sarebbe Tinnirello Gaetano, rappresentante del costo dei mili. Tinnirello Renzino. Tinnirello Renzino. E dovrebbe essere figlio di Roto e Chichier. Quello imputato in questo processo. Michele. Michele Tennirello. Vediamo. Perché, sì, Tinnirello Michelangelo. Roto e Chichier. Insomma questo dovrebbe essere uscito dal processo. Tinnirello Lorenzo di Michelangelo è uscito pure dal processo. Allora, Tinnirello Gaetano. Poi Tinnirello Renzino. Tinnirello, Tennirello Michele. Non lo so se è uscito dal processo. Va bene, Tinnirello Michele. E basta. Lillo Tennirello. Sì, Lillo. Il cognato di Carmelo Zanca. Va bene. E poi? E poi, Presidente, non lo so. E per esempio Tinnirello Vincenzo. Vincenzo Tennirello. No, quelle con ciò batteria dei segretti. Non è niente a chi ho vedevo. Come devo ricordare, Presidente, che qua i nomi sono un bel po', non è che... Va bene. E Tinnirello Antonino? Tinnirello Antonino? Ecco, facciamo una distinzione. Perché sono due rame di parentela di Vese. Che ci sono Tinnirello che sono contrabbandiere di sigarette. E chi sono questi? E sarebbe Enzo. Enzo? Enzo, poi l'altro fratello, un asciato, ci diceva Marchista Enzo. Enzo Domenico, mi pare. Se le vedo le conosco, Presidente. Uno è imputato, credo, in questo Marchista processo. E sarebbe Enzo, Vincenzo. Poi l'hai già nominato, già Gaetano, Renzino. Comunque, se c'è qualcuno che mi vuole fare poi domande, dell'Avvocato, o di un confronto, ne conosciamo meglio. Torrisi Orazio di Catania. Come? Torrisi Orazio di Catania l'ha conosciuto? Torrisi? Non mi ricordo, Presidente. Totta Gennaro l'ha conosciuto? Gennaro Totta. Sì, è uno di fuori? No, Presidente. E Nicolò Trapani? Nicolò Trapani era un capitano di nave, con un chapatiere pure di sigarette, ma non è uomo d'onore. Non è uomo d'onore. Ulizzi, Ulizzi Giuseppe, l'ha conosciuto? Sì, è un vecchio uomo d'onore, Ulizzi Giuseppe. Conozzo Ulizzi. Curso Giuseppe, mi pare che ne abbiamo parlato da recente. Varrica Franco. No, non mi ricordo. Non ha un ricordi? Vassallo Andrea. Medico. Lo conosce? Non mi ricordo bene. Dei Vernengo, sono suoi parenti? C'è Pietro Vernengo, uomo d'onore, e Nino Vernengo, detto tutto. Gli altri non sono uomo d'onore. Nessuno degli altri è uomo d'onore? O c'è Ruggero Vernengo, di cui ho parlato. Sì. Di Vernengo e Ruggero? Gli uomini d'onore della famiglia Vernengo sono Pietro, Nino, detto dottore, e Ruggero Vernengo. E Ruggero? Cosimo, Luigi e l'altro Giuseppe Vernengo, è il mio socio, non sono uomini d'onore. Qua non c'è un fascio, un ciclone, non c'è... questa è la mia verità. Vessichelli Antonio, l'ha conosciuto? Non me lo ricordo. Quello viola non vale la pena. Vitale Giuseppe? No, questo è uscito fuori. Vitale Gregorio, questo pure non ha importanza, quello neppure. Ecco, Zanca, lei già ha fatto un riferimento... E Zanca, uomini d'onore c'è Carmelo Zanca e Giuseppe Zanca. E gli altri non sono uomini d'onore. Carmelo Zanca e Giuseppe. Bonofrio, Pietro, l'altro Giovanni e Zanca, non sono uomini d'onore. Zarcone e Giovanni? Giovanni? Giovanni Zarcone. Zarcone, lei ha parlato di un... Ma Zarcone è quello che se la faceva con Igrado a Milano. Zarcone Giovanni, lei ha parlato di uno Zarcone... No, Presidente, non è niente a che vedere questo Zarcone con l'altro Zarcone. Lei parla di un Zarcone che se la faceva con Igrado a Milano. Eh, e questo... Non è uomo d'onore, era vicino a Igrado. Mentre l'altro Zarcone di cui ho parlato io, era uomo d'onore della famiglia di Santa Maria di Gesù che è stato ucciso. Sì, e che lei ha detto era soprannominato Sassolino. Sassolino. E' stato ucciso nell'ottanta... L'ottantaquattro, l'ottantaquattro... Zerbetto Alessandro, niente, perché è uno di fuori. Zito Benedetto. Ma è ancora vivo. Zito Benedetto non è neppure molto grande. Se lei si riferisce a decessi naturali, si intende? Eh, appunto, decessi naturali. No, allora non... Zito Benedetto. No, no, io confondevo con Zizzo. No, Zito Benedetto. Non me lo ricordo per ora, Presidente. Non me lo ricordo. Zito Benedetto, insomma, diciamo che è stato in America. Sì, me lo ricordo. Non è via. Per quanto riguarda almeno, come fatto generale, la Corte ha concluso la sua, chiamiamola fatica, consistente nelle domande poste all'imputato Marino Mannoia. Salvo a ritornare per qualche chiarimento su qualche cosa. Quindi le domande ora potranno essere, ora intendo dire, programma, va bene, possono essere evidentemente rivolte dal Procuratore Generale, che avrà delle domande da porre, parti civili e imputati. La Corte vorrebbe sapere i tempi, perché a seconda dei tempi noi potremmo concludere in giornata, altrimenti dobbiamo fare uno differimento. Sì, allora... Sì, una sospensione di un'ora e quanti meno. Ecco, se il Pubblico Ministero manifesta la sua opinione, e cioè preferirebbe la sospensione, come si è fatto in altri casi, e una ripresa, naturalmente, qualora ci dovessimo convincere che la conclusione può avvenire nella giornata. Il Procuratore Generale ritiene sì, perché forse non avrà poche domande. Le parti civili, il professore, l'avvocato Calasso, pure tempi brevi, le difese che naturalmente hanno interessi da che cosa mi dicono. Perché se mi dicono che non hanno necessario, io mi regolo in un modo, altrimenti mi regolo in un modo diverso, perché nessuno qui vuole porre freni. Va bene, allora... No, vabbè, questo domande, però, siamo al migliore di domande, questo lo possiamo fare dopo. No, vabbè, facciamo una sospensione di un'ora, un'ora e mezzo, un'ora e mezzo. Scusate, signori, 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 alle tre e un quarto riprendiamo, va bene? Tre e un quarto, no, tre e un quarto perché è un'ora e mezza, alle tre volete? Va bene, va bene, facciamo così, alle tre e un quarto. Un po' di attenzione. Allora, le parti civili che avevano annunciato di voler porre delle domande, mi pare che l'avvocato Galasso, l'avvocato Gervasi, non mi ricordo altri avvocati, nessuno. Allora, l'avvocato Gervasi. Allora, l'avvocato, il numero 80 mi ha già attivato. Allora, l'avvocato. Una domanda, signor Presidente, su cui credo valga la pena, un argomento su cui valga la pena ritornare. Il signor Mannoia, parlando della notizia come venne appresa nel carcere a proposito dell'omicidio del generale della Chiesa, riferisce appunto di questo episodio in cui i detenuti hanno esultato per l'assassinio del compianto prefetto. E, come dire, positivamente afferma, mi pare di aver sentito bene almeno, positivamente afferma, quindi non dice che non sa, ma positivamente afferma che a questo omicidio non hanno partecipato i catanesi, così come perlomeno era nella prospettazione accusatoria. Allora, io vorrei chiedere al signor Mannoia, o meglio, visto che siamo col vecchio rito, vorrei che il Presidente chiedesse al signor Mannoia se dichiarire meglio questa circostanza. A lui risulta positivamente che i catanesi non hanno, come dire, svolto alcun ruolo nell'omicidio del generale della Chiesa, oppure non sa se i catanesi abbiano in quell'omicidio svolto qualche ruolo. Questo potrebbe essere, diciamo, un chiarimento, perché in effetti, va bene, il Marino Mannoia ha dato una risposta. Comunque, per abbreviare il discorso, la sua può valere come una puntualizzazione. Ha sentito la domanda? Sì, sì, l'ho sentito e credo di essere stato chiaro. E allora, ripeta, va bene, così... Io ho detto che non ho mai sentito il ruolo attivo, la partecipazione dei catanesi in questo omicidio. Non ne ha mai sentito parlare? Non è in condizione di poter dire, hanno, non hanno, non ne ha mai sentito parlare. Viceversa, l'avrei sentito. Va bene. Avvocato Gervasi? Sì. Viceversa, l'avrei sentito. Sì. Avvocato Gervasi? Sì, sì, no, no, peccato, voglio dire, che sia chiaro che noi qua non abbiamo nessuna ricetta accusatoria precostituita, siamo esclusivamente per cercare la verità. No, per rispondere all'avvocato di legge, perché certe interruzioni non mi piacciono, quindi sono inutili. Avvocato, sarebbe meglio che non avvenissero. Sì, un'altra domanda. Anche guadagneremo tempo. Sì, un'altra domanda, signor Presidente. Sì, sia nella deposizione resa davanti al giudice istruttore che in quella davanti al procuratore aggiunto, sia stamattina e anche ieri in alcune occasioni, il signor Mannoia ha riferito, come dire, della possibilità che i detenuti aderenti a Cosa Nostra avevano, dall'interno del carcere, di partecipare in qualche misura, di mandare segnali, di partecipare in qualche misura alla gestione degli affari di Cosa Nostra all'esterno del carcere. Siccome questa circostanza io ritengo che sia utile per la valutazione che la Corte dovrà fare in generale dell'associazione, ma anche in particolare per alcune posizioni di singoli imputati che ci sono, ecco io la domanda che volevo fare al signor Mannoia era questa, se può chiarire, con maggiore precisione di particolari, attraverso quali strumenti, attraverso quali canali, i detenuti aderenti a Cosa Nostra si servivano o si servono ancora adesso per comunicare con l'esterno? Marino Mannoia, risponda. Sì, i canali sono quelli che io credo di aver accennato, ci sono vari componenti di Cosa Nostra che hanno parenti familiari che vengono a colloquio, che sono uomini d'onore, poiché non tutti riguardano questo processo, io non mi sono limitato ad elencare le persone riguardanti questo processo. I canali avvengono attraverso nuclei familiari, fratelli o parenti che sono, che vengono a colloquio e di cui si può comunicare. Anche con alcuni avvocati, tra cui non riguardano questo processo, perché c'è qualche avvocato che è uomo d'onore. Avvocato Gilbassi. Sì, è mai avvenuto a conoscenza del signor Mannoia che i detenuti aderenti a Cosa Nostra siano stati informati preventivamente e sia stato chiesto il loro parere su fatti delittuosi che dovevano successivamente accadere? Mi ripeto la domanda perché non ho capito bene. Se a sua conoscenza... La riformuli in modo più semplice. Sì, se a sua conoscenza... Mi permette che mi rivolgo direttamente all'imputato? Sì, le do io l'avvio. Una volta che hai la formula io autorizzo la risposta. Sì, se a sua conoscenza, signor Mannoia, che sia mai avvenuto che a detenuti aderenti a Cosa Nostra, quindi a uomini d'onore detenuti dentro Lucerdone, sia stato mai chiesto prima, preventivamente, il loro parere o il loro assenso su fatti delittuosi, omicidi o d'altro che dovevano accadere successivamente a quella richiesta? Riguardanti fuori il carcere? Riguardanti fuori il carcere e anche riguardanti il carcere? Riguardanti il carcere automaticamente si mandava il messaggio che era una previa deliberazione, quindi non c'era niente da poter sopporre o viceversa. Quanto riguarda i fatti delittuosi che dovevano avvenire fuori, già era tutto, diciamo, deliberato, ad eccezione di una formale, diciamo, informazione. Ma se ciò era già stato deliberato, era solo una formale informazione, non che poteva cambiare il corso delle cose. Non poteva cambiare il corso delle cose, ma poteva per esempio ritardare per particolari esigenze che gli aderenti agli uomini, alla Cosa Nostra... Non risponda, silenzio. Silenzio. Dunque, allora, l'avvocato Gervassi... Sì, non ho capito la domanda. No, no, l'avvocato Gervassi... La sto riformulando. La formuli e la porto a me. Non poteva, le dice, cambiare il corso delle cose perché la decisione era già stata presa. Cianne, scusi, Cianne se non era un qualcosa che riguardasse personalmente o coinvolgesse direttamente l'individuo in stato di detenzione che veniva, viceversa, in eventualità colpito da questo eventuale delitto criminoso fuori. Quindi poteva benissimo darsi il caso, per esempio... Sì, di circostanze in circostanze che può variare la cosa. Quindi poteva benissimo darsi il caso, per esempio, che l'uomo d'onore detenuto dentro il carcere chiedesse e ottenesse che, per esempio, un determinato omicidio venisse rimandato nel tempo. Naturalmente. Poteva avvenire questo? Come? Poteva avvenire? Sì, di caso, se coinvolgeva... E lei quando ha detto poc'anzi se circostanze e circostanze, che cosa si riferisce? Appunto, io credo di essere stato chiaro, Presidente, ma mi ripeto, se il fatto delittuoso che doveva avvenire fuori poteva coinvolgere il detenuto o la posizione del detenuto personalmente, si poteva discuterne se postergarlo o farlo o deliberarlo. Come nel caso, in esame, di qualche fatto che è successo, come il Presidente Saetta o qualche altro. Un'ultima domanda sul punto. Ciò può variare da casa in casa. Avvocato Gervasio. Un'ultima domanda sul punto è anche... Breve. Completamente. Cioè, è l'ultima domanda che io faccio e ho finito. Un attimo... Presidente, io non gradisco interruzioni mentre faccio le domande. Un attimo, avvocato... Lei o la ammette o no, non credo che i colleghi possano intervenire. Ah, avvocato restivo... Presidente, perdoni, poiché non abbiamo altro modo per opporci a determinate domande... Presidente, questa interruzione dell'avvocato restivo io non la gradisco e non credo neanche che debba essere... Presidente, avvocato Gervasi, un momento... No, perché è in suo potere ammettere o no le mie domande, Presidente. È solamente in suo potere... No, no, non vogliono fare nessuna opposizione alle sue domande. Signorio, calmo, venga, avvocato... L'osservazione che viene posta alla difesa è la seguente. Le domande, per quanto sia, siano specifiche e non con quella generosità che si muove... E l'avvocato Gervasi è stato già invitato a essere più puntuale. Mi pare che poc'anzi siamo ritornati su una domanda, invitandolo a riformularla proprio perché fosse più puntuale. E mi sembra che l'avvocato Gervasi abbia perfettamente percepito l'invito a una maggiore puntualità. Quindi poc'anzi ne abbiamo avuto la dimostrazione. Avvocato Gervasi, a me deve per favore rivolgere, va bene. Poc'anzi io quando la pregavo di riformulare, la domanda le avevo detto appunto di essere più puntuale. Ecco, la pregherei di mantenersi, va bene, su questo binario al fine di evitare genericità, va bene, di riferimenti che potrebbero poi non tornare utili a comprendere i fatti, va bene, del processo. L'ultima domanda che spero sia considerata puntuale è questa, evidentemente anche in relazione alle cose fin qui dette dal signor Mannoia. Sai signor Mannoia, se nel mentre che sono stati detenuti gli imputati aderenti a Cosa Nostra e accusati di aver fatto parte della commissione, gli omicidi che sono successi, degli omicidi che sono successi i membri della commissione ne sono stati informati e hanno dato il loro assieme. Si riferisce a un determinato omicidio? No, mi riferisco agli omicidi, noi siamo costituiti anche per l'associazione, mi riferisco agli omicidi che sono accaduti nel mentre che gli imputati... Il detenuto ieri, e forse anche questa mattina, non ricordo, ha dato al riguardo, va bene, delle risposte circa, va bene, i deliberati della commissione, come, va bene, si veniva agli stessi, come si portavano all'esterno e ha fatto anche perfino, va bene, degli esempi. Lei, Marino Mannoia, circa le deliberazioni della commissione, le partecipazioni, va bene, alla commissione, si riporta a quello che ha detto in precedenza, è una risposta che già era stata fornita. Io ho fatto la domanda mia e l'ho riformulata come ho ritenuto e mi sono riagganciato a delle risposte che già il detenuto, l'imputato, aveva dato e ora l'imputato ci è riportato esattamente a quello che ha detto in precedenza. Dunque, guardi, se loro vanno avanti con calma, si ricordino quando intervengono di chiedere, va bene, il... Ebbè, se l'aveva chiesta e io non l'avevo autorizzato, allora lei non doveva parlare. Se io l'autorizzo, lei deve dire il numero e il nome, non peraltro nel vostro interesse, perché altrimenti le domande o le osservazioni che fate non si possono neppure registrare, e poi non ci intenderemmo, quindi il mio è un rilievo esclusivamente nel vostro interesse, va bene, che rimanga registrato quel che si dice, insomma, è un vantaggio per tutti. Credo che l'Avvocato Gervasi abbia finito. Sì, ma non ho capito se lei ha ammesso la domanda e formulato, non si è finito, Presidente. Nel modo come ho ritenuto, va bene, e l'imputato si è riportato ai chiarimenti che sul punto delle partecipazioni alla Commissione, delle deliberazioni della Commissione, aveva dato nel corso dell'audizione di ieri e credo anche di questa mattina. Va bene. E allora, Avvocato Cavasso. Il numero è già attivato. Presidente, io vorrei premettere che ho una serie di domande. La ragione di questa serie di domande sta nelle dichiarazioni rese sia dinanzi al giudice istruttore che al procuratore aggiunto della Repubblica nelle cose dette dall'imputato anche nel dibattimento. Mi sembra del tutto evidente la ragione di questa serie di domande, visto che ci sono dei fatti inutili nasconderlo, che ha riferito delle notizie che ha riportato l'imputato che hanno una qualche influenza per quanto riguarda il delitto che mi interessa particolarmente, che è il delitto dalla Chiesa della cui famiglia rappresento gli interessi. E aggiungo anche come premessa rapidissima che noi siamo anche costituiti per l'Associazione a delinquere, quindi una parte di queste domande hanno anche attinenza con la natura dell'Associazione Cosa Nostra. Faccio detto questo, io voglio fare una premessa. Parto da una serie di dichiarazioni che sono contenute in un processo verbale. Dunque, allora andiamo alla domanda. Devo fare una premessa con una richiesta, Presidente. Se il collega me lo consente. Allora, sia per favore conciso. Non ho capito, Presidente, qual è la ragione per la quale sta subentrando immediatamente un'atmosfera frenetica di grande fretta quando siamo stati un giorno e mezzo ad ascoltare con interesse e con pazienza queste domande che la Porte ha ritenuto di fare. Ho fatto una premessa. La ragione della serie di queste domande fanno nei fatti nuovi che ha riferito l'imputato e che hanno attinenza col delitto dalla Chiesa. Vediamo avanti, Avvocato Corso. Allora, rispetto a questo, faccio una premessa e una richiesta. Noi abbiamo agli atti un verbale di interrogatorio reso. Avvocato Rigliato. Ma nessuno ha parlato di autorizzazione. Ha rinnoverato l'Avvocato Uffo dicendo che non aveva avuto la parola per l'espressione della Costituzione. No, 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 no. Non per questo. Non per questo, Avvocato Reina. Avevo detto che quando un Avvocato, va bene, ritiene di dovere, si alzi, chieda la parola perché possa usare del microfono e quindi la sua richiesta essere registrata e sentirci e capirci perché altrimenti sfugge quello, va bene, che l'Avvocato intendo vuol dire come proprio è avvenuto per quella osservazione. E lei basta che dice il numero, si attiva, va bene, il numero e lei, va bene, può fare l'intervento che vuole. Ora io vorrei dire se una spiegazione della ragione della domanda che si appresta a fare, non si tratta di una illustrazione, ma la spiegazione della ragione della domanda che si appresta a fare. Ho detto all'Avvocato Calasso di essere rapidissimo, dopodiché farà la domanda. Avanti, Avvocato Calasso. Io ho qui dinanzi un verbale di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini della Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo, trasmesso a questa corte. E poi c'è un processo verbale di interrogatorio dell'imputato ex articolo 348 bis. Cioè l'imputato è stato sentito sia col vecchio rito che col nuovo rito. E ci sono nell'uno e nell'altro, verbale di interrogatorio, una serie di omissis che rendono in alcuni casi perfino incomprensibile il senso di alcune dichiarazioni. Io sono convinto che noi ci troviamo di fronte ad una combinazione tra vecchio rito e nuovo rito in questo momento. e che secondo il vecchio rito possono essere acquisiti, a mio parere, ai sensi degli articoli 462 e seguenti del codice di procedura penale, tutti i documenti, atti che provengono anche dall'imputato, quindi anche questi verbali di interrogatorio e le altre cose che sono state prodotte dalla Procura Generale. Tuttavia ritengo che debba essere rispettato in questa sede proprio perché c'è una combinazione fra i due riti l'articolo 329 del nuovo codice di procedura penale che consente di protrarre il segreto oltre il momento in cui l'imputato, in questo caso gli imputati possono averne conoscenza, cioè in questa sede dibattimentale con un decreto motivato della Procura della Repubblica. E la ragione di questa norma è del tutto evidente. Bisogna sapere in dibattimento nei confronti delle parti presenti, non soltanto degli imputati, quali sono le ragioni di questi omissi, che possono essere varie. Non attinenza al processo, continuazione delle indagini, rispetto alle quali si forma anche un convincimento sia dei difensori delle parti che della stessa Corte. Ecco, io credo che siccome non abbiamo notizia, quantomeno di questo decreto motivato, io chiedo alla Corte che si chieda alla Procura della Repubblica anche la trasmissione delle parti nei quali sono segnati gli omissis, questo è un processo complesso, è un'associazione a delinquere di tipo mafioso, un'associazione a delinquere ordinari, a divetti delitti, con una concatenazione del tutto evidente. Per cui spetta poi ai difensori delle parti, alla Corte, rendersi conto dei nessi che non possono essere rimessi ad una valutazione non motivata della Procura della Repubblica che sta indagando su questo. Quindi io chiedo ai sensi dell'articolo 329 del nuovo codice di procedura penale che la Corte chiede come dovrà deliberare su altre richieste di acquisizioni e motivati pareri esposti dagli avvocati, dai colleghi difensori degli imputati, io chiedo che siccome ho avuto delle difficoltà a formulare una serie di domande in relazione a questi omissis che si chieda la trasmissione delle parti coperte da omissis o quantomeno che si chieda notizia del... si abbia trasmissione del decreto motivato che prevede l'articolo 329 del codice di procedura penale quando si vuole protrarre il segreto oltre il limite del momento in cui gli imputati possono averne conoscenze. Detto questo, che come vede il collega Reina io non ho anticipato e non ho riportato... Ma le difese avevano fatto delle analoghe bene richieste... Allora, detto questo, io comincio con la prima domanda. Vorrei che... C'è stato un equivoco, chiaramente. Vorrei che l'imputato rispondesse a questa domanda. Qual era la composizione a lui nota della commissione nell'estate del 1982? Se l'imputato è in grado perché era detenuto in quel momento lei può rispondere a questa domanda la composizione della commissione nell'estate del 1982? La composizione della commissione nell'estate del 1982. Dobbiamo andare un po' indietro nel caso. Nell'estate, preciso. Mi interessa precisamente l'estate. Sì, l'estate, quel periodo la parte, quell'anno, l'82, insomma. 82, ormai. Se il Presidente ritiene io posso anche indicare già alcuni no. Ma aspettiamo la risposta dell'imputato. Quello che sono i miei ricordi era composta da Michele Greco in collegamento in alternanza con Giuseppe Greco Scarpa e Salvatore Reina Giuseppe Giacomo Gambino Giuseppe Giacomo Gambino Francesco Madonia nell'estate dell'82. Pippo Galò Quindi c'è da eliminare Salvatore Scaglione Salvatore Inserillo Stefano Pontati Ricorda altri nominativi? Per adesso non mi vengono in mente oltre a queste no perché si è molto restretto l'ambito della commissione e Bernardo Brusca Bernardo Brusca ne faceva parte in quel periodo Allora Greco Michele poi Rina Salvatore Riccobono Rosario faceva parte della commissione Ecco non mi ricordo quando è stata la sua soppressione per questo ho detto vai voleva essere preciso nell'estate dell'82 io non posso essere preciso Marchese Quanto concerne Marchese è chi? Marchese? Di chi parla? No no non importa non importa No Marchese non ha mai fatto parte della commissione Comunque non importa tanto ha detto che è morto qui No non ha mai fatto parte della commissione Va bene Vernengo Pietro? Vernengo Pietro è un soldato come me Va bene Provenzano Bernardo? Come? Provenzano Bernardo? Provenzano Bernardo si alternava era insieme sempre con Salvatore Reina come tipo Michele Greco con Giuseppe Greco Scarco Gerace Antonino? Nelè Ecco Gerace Antonino era un ruolo quasi marginale diciamo Che significa il ruolo quasi marginale? Non aveva partecipazione attiva alla commissione? In quel periodo? In specie in quei fatti delettuose del parlamentare in quel periodo Di Carlo Andrea? Non ha mai fatto parte della commissione Motisi Ignazio? In quel periodo già aveva subvenciato Antonino Rotolo era solo figurativamente Ignazio Motisi Ma era fuori? Sì C'era anche Antonino Rotolo Sì Antonino Rotolo Antonino Rotolo nella commissione? Sì e solo figurativamente Ignazio Motisi come rappresentante della famiglia figurativamente significa quindi così che sulla carta ma diciamo di fatto non se ne occupava C'era anche naturalmente Pino Greco detto Scarpazzese L'ha detto proprio ora in alternanza con Michele Greco dice l'imputato Mentre invece in quel periodo secondo quanto ha dichiarato l'imputato era in funzione anche l'interprovinciale che vediamo aspetti avvocato Casso l'interprovinciale che cosa sarebbe? Ma io non ho parlato in quel periodo dell'interprovinciale per ripetere per ripetere le parole che ho sentito ora appunto L'interprovinciale è composta dai vari membri delle varie province e tutto questo è l'interprovinciale è composta dai vari capi mandamenti delle varie province delle varie province ieri lei ha fatto che di volta in volta dovevano sempre riferire e passare dall'unica commissione del liberatore che era quella palermetana punto e basta avvocato quindi non era un organismo deliberante l'interprovinciale per fatti che competevano le loro regioni ma non di grande eclatanza cioè per fatti di ordinari amministrazioni delle normali loro province forse ma per fattori eclatanti dovevano sempre passare dalla commissione palermetana quindi la commissione palermetana aveva una sorta di supremazia no quella è la commissione basta quindi in qualche modo la commissione per quanto riguarda la deliberazione di questi omicidi che lui ha definito eclatanti aveva poteri superiori diciamo solo palermetano e secondo quello che dice l'imputato del resto lo aveva detto e mi pare che l'abbia detto nelle dichiarazioni che sono in atti la commissione palermetana aveva una sorta di potestà superiore va bene questo è quello che si ricava anche nella lettura delle dichiarazioni che lui del resto già rese confermate ad eccezione credo in quel periodo non posso essere preciso che aveva subentrato anche Salvatore Montalto ecco io non posso ricordare Salvatore Montalto come componente della commissione e il periodo è capogandamento ecco non posso essere preciso perché io non ero membro della commissione quindi posso riferire noi il punto di riferimento l'abbiamo all'estate del 1982 per stare alla formulazione della domanda quindi questa partecipazione di Salvatore Montalto non la può affermare con certezza non mi ricordo bene Avvocato Calasso quindi delitti diciamo che avvenivano fuori del dominio territoriale delle famiglie del palermitano cioè in Sicilia e non diciamo nella provincia o nella zona di Palermo venivano pure comunque decise dalla commissione dipende aspetti la domanda è questa ha capito i delitti fuori dall'ambito ma che delitti 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 di sangue delitti di sangue che tipo di omicidi parliamo più chiaro e allora faccia lei una differenza tra omicidi e omicidi per esempio Pizzuto è stato ammazzato fuori del territorio deliberazione della commissione palermitana perché questa ingerenza della commissione palermitana relativamente a un fatto che si doveva perché Cicero Pizzuto era un capomandamento quando si parla di normale la giuncoli o gente comune allora nell'interprovinciale possono stabilire loro volta per volta i vari capomandamenti come deliberare e gestire le loro famiglie e il loro territorio ma quando si tratta in questo caso specie di una guerra di mafia inquaggata su una certa ottica e specie quando si doveva colpire qualche capomandamento allora doveva essere per forza informata la commissione palermitana che è la suprema commissione l'unica commissione che esiste che delibera gli omicidi di una certa eclatanza avvocato calasso lui ha fatto riferimento a proposito del delitto dalla chiesa a un gruppo di fuoco che agiva abitualmente ha fatto anche i nomi di questo gruppo di fuoco proprio così alcuni dei quali noi non ce ne occupiamo risulta da qualche notizia avuta direttamente quindi a lui sua conoscenza che tutti i componenti di questo gruppo di fuoco aggirono in via Carini per la strage è preciso avvocato lo calasso perché ci si intende l'inizio del discorso di Marino ma noia sull'omicidio della chiesa è così non mi risultano per scienza diretta particolari di sorta né sugli autori né sui momenti dell'omicidio stesso quello che viene dopo lo dobbiamo collegare con questa premessa poi continua posso dire però che fin dalla data della sua uccisione e senza che all'interno di Cosa Nostra abbia mai raccolto una voce di dissenso era assolutamente certa la convinzione che a commettere l'omicidio era stato quel gruppo di fuoco palermitano che allora si era imposto sul gruppo di bontate di inserirlo e questo è quello che lui riferisce su due articolazioni averlo non saperlo di scienza diretta ma darlo come cosa scontata come convinzione all'interno di Cosa Nostra poi quando parla di quel gruppo di fuoco che secondo quella che era convinzione sarebbe stato operativo fa l'elenco dei nomi e dice mi riferisco a ora in relazione a questo possiamo porre la domanda come chiarificatrice di questo discorso già fatto dall'imputato questo gruppo di fuoco che lei ha menzionato è il gruppo di fuoco che secondo quello che lei dice essere stata convinzione certa in sera a Cosa Nostra era una convenzione di tutti noi che quel gruppo di fuoco fosse avesse preso parte all'omicidio del generale della chiesa della signora e della gente questa era quindi il gruppo di fuoco che lei ha elencato in questa pagina del suo interrogatorio davanti al procuratore della repubblica è avvocato Galasso vuole qualche altra sì sì ne ho diverse altre allora io volevo che chiedesse all'imputato se vi risultava che in operazioni militari di questo genere venivano impegnate per esempio delle o c'era come dire un parco automobili o un parco moto per esempio se vi risulta che venivano usate moto Suzuki Honda per queste operazioni risponde a questa domanda ha sentito non ho afferrato il concetto se venivano se venivano usati mezzi per questo tipo va bene cioè noi iniziamo troppo nei particolari di cui io non sono a conoscenza io posso dire semplicemente che l'organizzazione cosa nostra non ha problemi di avere macchine dislocate in tutta Palermo o che si serve da un lattoniere di fiducia che nel frattempo la porta per riparazione gli fa le chiave o è un concessionario o un altro qualsiasi cioè un parco ambulante che si possa trovare in tutta la città di Palermo come la domanda della difesa di parte civile è finalizzata a una precisa chiarificazione ad eccezione di quando qualche macchina si è prelevata prima e si tiene conservata per un paio di mesi in qualche posto che ognuno di pertenenza ritiene sicuro per poter custodire non capisco la perfezione della domanda no non c'è nessuna perfezione della domanda io non vorrei una certa perfezione nella risposta l'avvocato ha fatto una domanda in ordine a quello di cui lei ha risposto dicendo che non mi conosco tutti i particolari e dà una risposta all'ingrande diciamo che l'organizzazione non aveva problemi in ordine ai mezzi di cui poter disporre questo è il senso della sua risposta fermo rimanendo che lei particolari sullo caso non ne può dare non è in grado di poterne dare allora avvocato Galasso dunque l'imputato ha detto che c'era a disposizione di alcune famiglie anche dei Kalashnikov il presidente aveva fatto anche una domanda in proposito queste queste armi venivano messe a disposizione di alcune famiglie quando si trattava di compiere omicidi eclatanti venivano messe a disposizione tutta la commissione lei ieri ha fatto ha dato una risposta in relazione ai depositi che le famiglie potevano avere famiglia per famiglia cioè ogni famiglia poteva avere un proprio deposito un proprio posto dove tenere in comune le armi ora la difesa di parte civile dice c'era un'analoga disponibilità avvocato Oddo che il numero avvocato 20 27 solo per per questo punto su analoga domanda della signoria vostra l'imputato ha detto a proposito di Kalashnikov ne disponevano solo eccetera e questo posso soltanto dire per sentito dire quindi non capisco come si possa andare ancora oltre questo sentito dire allora la domanda è un po' diversa di sapere se l'imputato se a conoscenza è l'imputato che vi fosse una disponibilità comune cioè che riguardasse la commissione va bene e lei in grado di rispondere a questo rilasciando tutte e due le domande sia dell'avvocato sia dell'avvocato Galasso ribadisco nel dire che l'unico Kalashnikov che era di mia diciamo così presentito dire con un'altra eccezione che aggiungerò adesso riguardava la famiglia di Ciaculli quella di Resuttano in particolar modo mio fratello ha partecipato a pomicidio Cassara e i Kalashnikov sono stati forniti direttamente dalla famiglia di Resuttano punto e basta e non c'è altro va bene avvocato Galasso aggiungo un particolare più specifico e come vede anche le domande hanno una loro insomma mirano a ottenere una risposta dunque avvocato Galasso nell'agosto dell'82 poi nel settembre furono mandati alla stampa alcuni messaggi che facevano riferimento alla operazione Carlo Alberto uno diceva l'operazione Carlo Alberto è quasi conclusa poi l'operazione Carlo Alberto è conclusa il diputato ha anche accennato a questa cosa stamane nel corso di una risposta ecco io vorrei che lei gli chiedesse Presidente se gli risultava stando in carcere dai messaggi che riceveva dalle notizie che arrivavano che questi queste segnali diciamo queste comunicazioni alla stampa partivano da posa nostra allora vuol rispondere ricorda che ci sono stati appunto dei messaggi in questo senso l'operazione Carlo Alberto mi pare è quasi conclusa poi un altro nel settembre è conclusa mi pare che uno è dei primi d'agosto e l'altro è dell'8-9 settembre credo che la domanda sia stata posta in questi termini se io ero a conoscenza che le telefonate erano fatte dell'ambiente di Cosa Nostra io credo di aver risposto stamattina e ora lo dica e mi ripeto dicendo che con spavalderia quindi parlavo dell'ambiente di Cosa Nostra stavano conducendo questa campagna indirezzata a callo aperto dalla chiesa appunto per il suo impegno contro la criminalità organizzata di Cosa Nostra quindi le telefonate erano fatte dell'ambiente di Cosa Nostra sì va bene con spavalderia Avvocato Calasso come è stata fatta anche quella al giornalista del giornale al cronista o comunque giornalista del giornale Lora non mi ricordo adesso come si chiamava in questo momento che gli è stata fatta una telefonata ci sta irrompendo posso Presidente perché devo ripetere fedelmente ci sta irrompendo i coglioni i coglioni i coglioni e te ne deve andare va bene Avvocato questo tipo di diciamo di così di telefonate di messaggi altre volte dico di rivendicazioni non mi è avvenuto altre volte no Avvocato Calasso seppe lui nel periodo in cui stava in carcere o dopo l'evasione se nell'ambiente di Cosa Nostra si rappresentava qualche rapporto tra l'omicidio dalla Chiesa e l'omicidio ferlito e mi pare che su questo punto ha dato proprio risposte ripetute perché ha messo in relazione il fatto catanese con l'omicidio ferlito e lo ha escluso per quanto riguarda credo che il giornalista era l'omonaco credo che era l'omonaco va bene comunque la cosa è superata perciò Avvocato Calasso per quanto riguarda se vuole dico un po' spiegare la ragione perché lui sul punto ha fatto una connessione agli atti di questo processo nella sentenza ordinanza e nella sentenza di condanna di primo grado si fa riferimento ad un commento che Gaetano Badalamenti che l'imputato conosce fece subito dopo avere visto in televisione lei parla dell'incontro Badalamenti Buscecca a Belem sicuramente era stato un atto di spavalderia dei corleonesi anche qui la parola spavalderia ritorna singolarmente che avevano così reagito alla sfida contro la mafia lanciata dalla Chiesa soggiunse che certamente erano stati impiegati i catanesi appunto perché sul punto di imputato per favore sul punto di imputato delicato al risposto se vuole dirci qualche cosa di più puntuale di più particolare no no ma scusi Presidente abbia pazienza mi fa finire la lettura perché c'è un altro punto sulla domanda a cui mi devo inserire soggiunse che certamente erano stati impiegati i catanesi appunto perché più vicini ai corleonesi che avevano così ricambiato il favore ricevuto con l'uccisione di Alfio Ferlito di cui il senso della domanda e disse ancora che qualche uomo politico si era sbarazzato servendosi della mafia della presenta troppo ingombrante ormai del generale notizie di questo genere la mettiamo così la domanda circolavano nell'ambiente di Cosa Nostra durante la permanenza in carcere e dopo mi ripeto circolavano notizie del genere di quelle che la domanda la sto formulando riformulando io dunque del genere di quelle che ora abbiamo sentito me la sintetizzi perché non l'ho capito se circolava notizie che i catanesi avessero va bene fosse opera di catanesi per ricambio del favore fatto va bene per l'uccisione di Alfio Ferlito non c'era motivo di ricambiare nessun favore non c'era interesse e diciamo particolare bisogno dei catanesi quindi rimangono le cose come lei aveva detto in precedenza e nemmeno del fatto che qualche uomo politico si era sbarazzato della presenza troppo ingombrante del generale mi sembra che anche su questo punto qualche cosa ieri l'imputato l'abbia detto adesso le facciamo un po' di domande su questo punto presidente questo è appena un assaggio adesso facciamo sì perché mi pare che lei parla di uomo politico e se non ricordo male ieri l'imputato stamane non ricordo a proposito i politici di politica ha detto che non intendeva sul punto o non sapeva non ricordo bene se abbia detto in un modo o nell'altro quella era una domanda generica dunque ha notizia di di si fatti interessi va bene no presidente che politici che possano avere inciso no signor presidente o indotto qualcuno a occuparsi del compianto generale della chiesa nel senso così è ferato come se ne sono occupati austri almeno no presidente no non ha non ha notizia bene presidente poi dovrebbe chiedere all'imputato se o meglio in che cosa consistevano i rapporti tra la cosa nostra palermitana e provinciale e cosa nostra di Catania aggiungo subito l'imputato ha fatto riferimento nell'elenco che gli è stato presentato dal presidente alla conoscenza di alcuni uomini d'onore di Catania che conosceva altri non conosceva ma c'erano che tipo di rapporti c'erano c'erano rapporti di collaborazione per gli affari per il traffico della droga per le operazioni militari insomma che tipo laddove lei ha fatto io quando le ho chiesto ha fatto quella rassegna di nomi e taluni di questi non sono del palermicano ma della zona catanese lei ha detto di conoscerli ecco in riferimento a questi nominativi di catanesi lei può dirci costoro in che rapporto fossero con la criminalità palermitana con la criminalità organizzata palermitana erano traffici di droga cosa nostra è una cosa unitaria questo lei l'ha detto esiste cosa nostra a Catania esiste cosa nostra in quasi tutta la Sicilia lei ha fatto ieri delle eccezioni per qualche provincia ma questi rapporti tra famiglie di Catania e famiglie di Palermo si sviluppavano sul piano di interessi comuni che avevano come particolare riferimento il traffico di droga il traffico di tabacchi c'era uno scambio ma quando si presentava l'occasione dipende cose che io non sono in questo momento in grado di ricordare episodi specifici quindi come scambio per esempio mi ricordo il fattore delle sigarette che percepivano delle quote e del traffico di droga che Stefano bontate dava qualche quota a qualcuno dei carderone e altre delle province tutto qui non conosce di altro tipo di rapporti no avvocato di collaborazione militare per compiere la difesa intende quello scambio di uomini che servono per spedizioni va bene di mezzi per spedizioni punitive trattandosi di unitarietà di cosa nostra a volte si può collaborare dipende le situazioni come hanno collaborato che non riguarda questo processo Filippo Marchese Pino Greco Scarpa Lucchi Sello e tanti altri per l'eliminazione di Salvatore Contorno in un autogrill all'uscita di Catania dove dovevano farlo cadere in un'imboscata tramite una persona di cui non riguarda questo processo questa situazione quindi c'erano rapporti unitari di cose riguardanti elementi di cosa nostra che di volta in volta si dovevano eliminare o meno c'erano dei scambi diciamo di rapporti criminosi ma quando si parla di un fattore delettuoso di una certa eclatanza di una certa cosa in quel periodo specie il Pino Greco Scarpa e e e tanti altri non non avrebbero avuto bisogno certamente della collaborazione dei catanesi per fare nella città di Palermo un determinato delitto e non è affatto vero quel che mi risulta perché siano state utilizzate scambio di favore anche perché i catanesi non erano conosciuti nella città di Palermo io mi limito a quello che quello che lei ha saputo c'è un punto però Presidente allora che conviene precisare l'imputato parla di rapporti insiste su questi rapporti unitari cosa nostra era unitaria quindi c'era un organismo di vertice eccetera e dunque quando si doveva decidere di omicidi eclatanti gli risulta che fossero comunque partecipassero alla decisione o fossero comunque informati capi delle famiglie non palermitane perché sennò l'unitarietà in che cosa consiste che era la commissione palermitana quella che aveva la potestà comunque altre famiglie che nonno di altre zone venivano informate di queste deliberazioni gli omicidi eclatanti no gli omicidi eclatanti no top secret lo sapevano solo la commissione e quelli che partecipavano e quelli che partecipavano Avvocato Calasso rimane questo dubbio su questo le risposte sono quelle che l'imputato ci dà comunque non importa andiamo avanti detto quello che ha detto ecco Presidente può chiedere all'imputato che ha parlato diffusamente minuziosamente del traffico di stupefacenti delle operazioni di raffinazione a cui lui stesso ha partecipato quali fossero gli altri affari di cosa nostra oltre il traffico di droga attività insomma gli altri affari le altre attività che producevano profitti ho l'impressione che ieri io qualcosa di simile l'ho chiesta come attività illecite diverse da quelle del traffico comunque siccome non ho un ricordo preciso la domanda mi sembra che può avere è oltre il traffico di droga e a conoscenza di altre attività altre attività in campo va bene economico che attività attività di costruttore attività di società di comode altre cose però di questo genere comunque non capisco allora faccio una attività di speculazione speculazione economica ma lei non deve lei deve semplicemente rispondere alla domanda e io ho finito di rispondere avvocato lei Marino Vannoia il rapporto io ho detto che di politica per il momento lei intanto dovrà spiegare perché non intende parlare di politica ma io a lei non devo spiegarlo per favore lei deve spiegare alla porta per favore lei non risponda direttamente se non ha il mio consenso avvocato Calasso è perfettamente inutile perché c'è un chiaro non intendimento non si parla di fatti politici allo Stato stiamo entrando stiamo per ora si parla di attività economiche che potessero riguardare traffico di droga traffico di stupefacente rapine e tante e tante altre cose quindi sono attività illecite come vedete la politica è una cosa molto diversa perché è una cosa lecita quindi è molto diversa non ci stiamo occupando va bene di attività politiche ma di attività economiche le quali invece a differenza della politica si possono distinguere illecite ed illecite e allora questo era il senso va bene l'altra seconda parte dell'osservazione dell'avvocato Calasso del perché lei nei fatti politici non potesse parlare lei ha il ditto di non rispondere a dirlo e lo ha già detto va bene rimane sempre la domanda in evasa del perché lei non ne voglia parlare ma comunque lei ha dato la sua risposta per il momento non voglio parlare e va bene e quindi lei non ne parla alla corte lei sta dicendo questo che non parla di fatti politici va bene avvocato Calasso non perché non voglia parlare alla corte no non è questo oggettivamente il risultato è che lei non ne parla va bene e noi non è che la costringiamo a farlo perché non sarebbe consentito dal nostro ordinamento avvocato Calasso va bene io comunque presidente per quanto riguarda gli affari di Cosa Nostra può chiedere all'imputato gli risulta che tra gli affari ci fosse quello di accaparrarsi illecitamente per esempio appalti commesse ricordo presidente alla corte oltre che all'imputato che è l'articolo 416 bis cioè l'associazione di tipo mafioso non stiamo divagando voglio sottolineare fa riferimento a questo oggetto di attività si parlava in seno all'organizzazione di appalti interessi negli appalti nelle commesse nelle assegnazioni di costruzione di strade di edifici pubblici qualcosa così per sentito dire evasivamente evasivamente comunque un settore nel quale lei non aveva una specifica competenza o interessi non avevo interesse va bene avvocato Calasso io qui vorrei che l'imputato spiegasse un po' meglio questo non avevo interesse evasivamente sapevo e via dicendo no perché e ha detto sentito dire scusi presidente scusi presidente sentito dire siccome siccome l'imputato è stato preciso minuzioso e ha dimostrato di conoscere tutta una serie di fatti e di personaggi che riguardano Cosa Nostra siccome questo genere di attività risulta da altri atti giudiziari era un'attività praticata abitualmente da Cosa Nostra io vorrei che spiegasse un po' più precisamente presidente stiamo facendo l'interrogatorio di un imputato viva Dio quali sono le ragioni per cui non lo sapeva ne aveva sentito parlare evasivamente che vuol dire evasivamente e avvocato Calasso ha detto che non era un suo settore di appartenenza un suo settore di specifico interesse il professore Calasso ha detto presidente risulta da documenti che Cosa Nostra era impegnata o interessata in appartenenza quali sono questi documenti c'è l'indica adesso arriviamo allora presidente colgo al volo la domanda e faccio due domande preliminari che tendono ad arrivare a questa domanda lui conosceva l'imputato conosceva Tommaso Cannella conosceva Tommaso Cannella no e comunque non lo conosceva non è un problema di imputata a proposito di appalti in questo processo si fa riferimento per esempio allora chieda direttamente a questo per questo avevo parlato di Tommaso Cannella e ha risposto che non lo conosce che non lo conosce va bene allora possiamo domandare se ha sentito parlare nell'ambito di Cosa Nostra per esempio dell'operazione che è un appalto avvocato Fileccia del Palazzo di Vetro è imputato il Palazzo di Vetro hai sentito parlare? e agli atti agli atti di questo processo e riguarda e riguarda la configurazione dell'associazione tipo mafioso prego andare a controllare l'ordinanza sentenza di rinvio a giudizio hai sentito parlare del Palazzo di Vetro operazione Palazzo di Vetro non mi ricordo però no io sono francamente molto stupito di queste opposizioni avvocato Calasso comunque sono proprio stupito proprio perché vengono dai difensori degli imputati proprio la risposta comunque è negativa avvocato Calasso perché il test l'imputato non ricorda va bene un'operazione del genere aveva sentito parlare di questo genere di affari evasivamente perché lui si occupava di altro e allora può chiedere se sa cosa faceva Talò a Roma e a conoscenza di questo particolare delle attività di Pippo Calò a Roma ma è una vita Pippo Calò che bazzica sempre a Roma bazzica va a Roma avvocato Oddo il numero senta presidente volevo chiedere un po' di nuova al gira un po' d'acqua se è possibile si va bene risponda avvocato Oddo si si possiamo portare un po' d'acqua un po' d'acqua avvocato Oddo il numero scusi signor presidente sempre il numero 27 27 un giorno una volta sacro agli impiegati e per noi no signor presidente dunque allora signor dica avvocato Oddo la pregherei di non porre questa domanda nei termini in cui è posta è richiesta dal difensore di parte civile perché in questi termini è assolutamente generica presuppone delle conoscenze delle quali negli interrogatori finora non è traccia perché non ha nessun punto che io mi ricordi ha detto qualcun che su questo punto né comunque è specifica per come il codice di rito richiede va bene comunque la domanda abbiamo sentito qui è risentito un confronto Calò Buscetta che riguardava la domanda la formulo io avvocato Oddo dunque guardi lei ha parlato di Pippo Calò abbiamo le dichiarazioni che lei ha rese in questa udienza e quello che lei ha detto anche al procuratore della Repubblica ora mi dica se a sua conoscenza dell'attività del Calò a Roma dove lei ha detto che lui ha passato una vita né a conoscenza o non né a conoscenza sapeva dell'attività svolta dal Calò o non sapeva di questa attività io qualche volta l'ho andato pure a trovare a Roma Pippo Calò ma non abbiamo mai parlato di particolarità di cose di cui lui svolgesse degli affari di lui non ne avete avuto mai occasione di parlarne né lei se n'è interessato né io me ne sono interessato né lei se n'è occupato lei in altro modo lei ha preso dell'attività del Calò no avvocato Calasso quindi naturalmente non sapeva nemmeno se questa attività quale che fosse la presenza a Roma di Calò avesse in qualche modo attinenza con l'attività di Cosa Nostra e ha detto che non sapeva degli affari quindi non sapeva nulla né mai aveva parlato con lui degli affari suoi mi pare che così lei poco fa ha detto ecco faccio un altro paio di domande ho concluso Presidente con l'ultima dunque nel processo verbale di interrogatorio che porta la data dell'otto di ottobre di quest'anno l'imputato ha detto aggiungo e all'inizio della sua dichiarazione che quanto io sto per fare un gesto di fiducia nelle istituzioni statali anche se ho constatato con mano da tempo che finora tranne pochissime persone io non noto un vero impegno dello Stato nella repressione del fenomeno mafioso e poi prosegue proprio per questo che ho deciso di collaborare esclusivamente solo con lei eccetera eccetera poi qui invece la prima domanda del Presidente ha detto la mafia è antistato ora qui io capisco che non è che ci possiamo addentrare in disquisizioni di questo genere però mi pare Presidente che ci sia una qualche contraddizione io tuttavia la domanda la semplifico in che termini ha constatato con mano da tempo che non c'è un vero impegno dello Stato nella repressione del fenomeno mafioso e questo mi sembra che sia una sua opinione più che un convincimento Presidente ha detto constatato con mano si potrebbe constatato con mano lei si ricorda di avere detto di avere constatato con mano che l'impegno dello Stato non è quello che cosa intendeva dire che cosa intendeva dire cosa intendeva dire che non c'è una grande volontà politica per combattere il fenomeno mafioso tutto qui in questo caso diciamo un tantino la politica riaffaccia ma di quello che si sentiva delle lamentele altrui lamentele di cronaca di giornale insomma quindi considerazioni sulle scorte quello che credo che leggiamo le letture fatte le letture fatte sul giornale quindi ho constatato con mano significa ho letto sui giornali si il giornale lo televo con le mani attraverso le letture attraverso va bene si è fatta un suo convincimento in ordine all'impegno statale nella lotta alla mafia mi pare che questo è quello che lei ha detto avvocato un'ultima domanda ha finito presidente a proposito sempre di questa faccenda della politica io desidero che lei chieda presidente dunque premetto che qui siamo qui siamo prego c'è problema grazie grazie io premetto presidente che anche se non siamo purtroppo col nuovo rito dico purtroppo perché questo era un interrogatorio da fare col nuovo rito e forse le domande sarebbero perché anche incrociate venute e le risposte un po' meglio tuttavia mi pare che lo spirito di questo interrogatorio dovrebbe essere lo spirito dell'esame delle parti dell'esame delle parti perché questa interpretazione delle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio dibattimentale oggi dovrebbe essere lo spirito dell'esame delle parti che è diverso dall'interrogatorio vecchio tipo perché è un mezzo di prova in maniera abbastanza evidente perché anche le non risposte e i silenzi possono essere valutati dalla porte fatta questa premessa presidente io mi permetto di chiedere alla forte che deciderà poi come ritiene il presidente di insistere su queste domande perché questo è il giudice naturale di una serie di delitti che sono stati definiti delitti politici dai giudici istruttori nell'ordinanza di rinvio a giudizio non da me ma dai giudici istruttori che tali sono stati definiti nella sentenza di primo grado di condanna quindi una insistenza probabilmente non sarebbe male visto che un qualche accenno l'imputato ha fatto la mia domanda conclusiva è questa presidente poi valuterà lei in che termini insistere se rispetto a questi collegamenti a questi legami tra cosa nostra gli ambienti politici economici e amministrativi ma mi soffermo su quelli politici l'imputato sa e non intende rispondere oppure non sa nulla Marino prendo atto di quello che lei dice e la domanda la faccio io ed è conclusiva ha sentito ci sono fatti politici fatti economici lei non sa di fatti politici o non intende rispondere su questo non intendo rispondere non intende rispondere va bene ecco finito presidente va bene e allora finito allora gli altri partecipiti mi pare che avevano detto che non avrebbero fatto domanda il procuratore generale avvocato restivo il numero il numero il numero se no niente registrazione si 20 che i rappresentanti della procura generale facciano delle domande all'imputato vorrei chiedere presidente se non ritenga opportuno di sospendere per 10 minuti l'udienza per metterci nella condizione ad evitare che anche da parte nostra si possa seguire il filone seguito dalla parte civile cioè con tutta una serie di domande che potrebbero essere oltre che i rituali ripetitive e allora vorremmo concordare i difensori per porre soltanto se lo ritengono due o tre domande quindi in questo senso come collegio se ritiene sospendiamo per 10 minuti e immediatamente dopo o dopo la procura generale no meglio prima procuratore generale la scelta a lei si allora dopo le domande della procura generale allora procuratore esatto possono sorgere esigenze e allora d'accordo il per me è indifferente questo se sospendiamo dopo ora io vorrei porre alcune domande su varie cose di cui il Marino Mannoia si è occupato e di cui tratta questo procedimento anzitutto vorrei ricordare che l'imputato ha parlato tra le altre cose anche del tentato omicidio di Salvatore Contorno dicendo che era venuto intempestivamente per la fretta che avrebbe avuto Scarpazzetta di consumare quel delitto che invece si sarebbe potuto facilmente consumare se si fosse atteso che il contorno si recasse dal barbiere è così in questa occasione ha detto io ho saputo dice sempre per sentito dire che oltre evidentemente a Scarpazzetta perché era lui che aveva anticipato questa cosa avrebbe partecipato al tentativo anche Filippo Marchese sa aggiungere io chiedo sa aggiungere l'imputato se ha avuto qualche notizia in ordine al tipo di partecipazione che aveva messo in atto Filippo Marchese e se allo stesso episodio ebbe notizia della partecipazione di altre persone può rispondere a questa domanda io credo di aver risposto ieri ha sentito dire che l'attentato era stato preparato è stato messo in atto da Pino Grefo Scarpa da Lucchi Serbio da Mario Pristi Filippo Filippo Marchese ed altri che adesso non ricordo bene e che è stata una volontà diciamo scaturita da Pino Greco Scarpa per portare a termine questa cosa per il suo iniziativo per un suo odio particolare nei confronti di contorno sa se fra gli esecutori del materiale qui è imputato come sappiamo anche Salvatore Cucuzza non ha avuto mai notizie di una partecipazione di Salvatore Cucuzza a questo avvocato Ingerillo numero nove io non lo so se sia il caso le domande su questo punto sono state fatte in maniera così particolarizzata reiterata specificata in maniera da tirare fuori tutto quello che c'era da tirare fuori fino a che si arriva alla suggestione pura e sempre non mi pare che siamo nel campo della suggestione io mi oppongo alla domanda va bene avvocato inserito dunque e allora la domanda è perfettamente ammissibile è una precisazione non è una precisazione è un suggerimento avvocato non è un suggerimento manifestamente avvocato Campo il numero undici che provengano su un certo tipo di domande dalla parte civile la cosa sorprende relativamente ma che provenga delle domande dal procuratore generale il quale è custode della legge e nel senso che si domanda se ha sentito dire io per quanto ricordi so che il sentito dire non può essere riferito e non ha nessun valore ed è da stamattina che sento sentito dire avvocato Campo infatti abbiamo registrato sentito dire non abbiamo registrato una cosa diversa ma non si deve neppure porre la domanda sul sentito dire io questa sola domandiamo e diciamo al Marino Mannoia e così si scioglie ogni va bene dubbio se ha conoscenza che Salvatore Cucuzza abbia partecipato o no avvocato inserillo numero 9 signor Presidente se potessimo riascoltare la registrazione ma no se lei la dice a me lo dica io non vorrei sbagliare e non si sbaglierà di certo io credo che ieri imputato abbia detto che avevano partecipato per sentito dire sempre Filippo Marchese Mario Presti Filippo eccetera eccetera e scarpa ciò l'ho saputo al 100% ciò l'ho appreso l'ho saputo al 100% di altro non so queste sono le parole credo se potessimo ascoltare sarebbe meglio ora dico mi sono reso conto che quello che lei dice lo ha detto ieri ora io ho già fatto bene la domanda all'imputato se è a conoscenza che nonostante ieri avesse detto d'altro non so va bene mi risponda è a conoscenza o non è a conoscenza senti Presidente io nelle cose a volte mi limito a dire quelle cose chiamamole frammentare di cui ho avuto notizia ma quando voi insistete per scendere in particolare scendo in particolare quando la mente mi fa venire qualche ricordo io mi trovavo detenuto alla nona sezione in compagnia di mio padre Rosario di Giovanni Bontade e non mi ricordo adesso di chi quando abbiamo appreso dell'attentato a Salvatore Contorno e del ferimento di un bambino io mi sono allarmato perché in quel periodo io ancora non sapevo che Salvatore Contorno avevano deliberato di ucciderlo e mi sono allarmato perché mio fratello Agostino che ancora era ragazzino andava a volte a trovarlo nella sua villa che si stava per costruire in viaggia quindi la mia preoccupazione è stata talmente grande per poi accertarmi in effetti come erano andati i fatti ho saputo dopo che quel ragazzino disgraziatamente per quel bambino ma fortunatamente allora per mio fratello che adesso non c'è più era un ragazzino parente dei Lombardo in quella circostanza ho chiesto come mai a me io non fossi stato avvertito di questa deliberazione che dovevano uccidere Salvatore Contorno e io così avrei fatto evitare a mio fratello per un motivo che avrei trovato una scusa di non farlo recare in quel suo vellino che stava costruendo in via Giaffari e allora mi è stato detto sia da Giovanni Bontà e da tanti altri successivamente dopo che i partecipanti di quella cosa avevano avuto quell'iniziativa perché in quel momento Pino Greco Scarpa insieme ad altri si avevano preso la paternità appunto di accelerare questa sua eliminazione e l'eliminazione di Salvatore Contorno ho detto anche che si recava e si è recato a Ciovallo Giovanni Battista Pullarà nella villa con la gamba ingessata per dirgli Totuccio fatti vedere perché possiamo avere bisogno di te di qua e di là e che Salvatore Contorno si recava spesso e volentieri in un barbiere chiamato Mariano che lui Contorno conosce bene la guadagna in cui sarebbe stato avvenuto l'attentato invece Scarpa insieme a Lucchesebio insieme ad altri e di quello che ho saputo tutti i componenti di quelli che sono stati elencati ad eccezione di quelli Penuzzo D'Angelo che era per i cavoli suoi quindi io ho detto questo confermo che i partecipanti a quell'attentato di cui ha riferito Salvatore Contorno che può essere più preciso di me io ho solo appreso e saputo io posso solo dire che non so come si sono svolte le modalità precise io le ho fatto del fattore del cavalcavia o se veniva da Ciaculle o usciva dalla villa o meno io su questo non posso avere chiaramente precise ma quanto riguarda il componente di quelli che sono stati partecipi in quella situazione io mi riporto fedelmente a come sono stati raccontati anche i fatti da Contorno ma io le ho detto se a sua conoscenza e lei come ha dato ieri una risposta sul punto conferma questa sua risposta sì confermo questa risposta e ho aggiunto adesso che mi sono interessato particolarmente sia perché non sapevo che Contorno doveva essere eliminato e sia perché quel ragazzino perché lo andava a trovare ogni tanto mio fratello io mi preoccupavo dalla notizia appresa in carcere credo dal gazettino non mi ricordo adesso dal telegiornale adesso non mi ricordo i particolari precisi che mi preoccupavo se quel ragazzino fosse mio fratello va bene procuratore generale va bene passiamo ad altro argomento la droga l'imputato ha parlato a lungo della produzione della droga ha riferito che lui stesso ne aveva lavorato parecchi chili o addirittura dei quintali ha riferito in ordine anche di altre persone che procedevano sia alla importazione della materia prima della motofina base sia alla lavorazione e sia alla commercializzazione del prodotto finito ha fatto i nomi che ha già confermato e che sono contenuti in quel verbale io vorrei sapere a chiarimento ed eventualmente ad ampliamento di quei nomi che ha fatto se ampliamento ci sarà questo ce lo dirà l'interessato di alcune persone in particolare di alcune persone che risultano condannate e appellanti o appellate per quanto concerne il delitto di traffico di droga e che sono fra gli altri Adelfio Salvatore il fratello di Franco Adelfio che sarebbe uomo d'onore di Villa Grazia secondo quello che ha riferito l'imputato ma non ne ha riferito se gli risulta che fosse implicato nella lavorazione o nel traffico della droga Adelfio Francesco Salvatore il fratello di Franco No di Salvatore non mi risulta Di Franco ne ha già parlato Di Franco ne ha già parlato Di Salvatore non gli risulta Anche per esempio un altro imputato è Giovannello Greco Giovannello Greco era implicato in traffici Sì con Pietro Marchese Cioè commercializzava droga o la produceva No la commercializzava Di Bistretta Filippo e Bistretta Rosario ha già detto Ha detto stamattina Ha risposto a domanda del Presidente Ora io vorrei sapere anche dei tre Martello Martello Biaggio Mario e Ugo Erano implicati nel traffico o no? Per sentito dire Martello Ugo E gli altri no? Gli altri non mi risulta niente di specifico e mi pare che stamattina ha detto una risposta simile quanto all'appartenenza all'organizzazione mi sembra ha parlato di Martello Ugo Martello Ugo Martello Mario e Martello Biaggio e di Rancatore Giuseppe cosa ci sa dire? Che il figlio di Domenico Come? Il figlio di Domenico Rancatore Giuseppe era no il padre forse il padre Giuseppe Domenico il padre di quel che mi risulta andava chiedendo prestite dovunque di assegni e cose ma non in relazione alla droga con me non ha avuto mai a che fare e per il buono? il buono per sentito dire lavoravano con l'eroino ma io non c'ho avuto mai a che fare e quando l'ha incontrato presso gli Zazza riguardava so che lei mi pare stamattina ha detto si l'ho incontrato a Napoli dove? a Napoli dove? a Napoli in casa di Michele Zazza e di che cosa si tratta? non so se era la casa di sua pertenenza o meno io ancora non ero uno d'onora addirittura in quel periodo io mi accompagnavo con Stefano Giaconino e andava a Napoli? si quindi non l'hanno messa al corrente di ciò che no va bene Giuseppe Battaglia Giuseppe Battaglia mi pare che stamattina si l'ho detto che ci sono episodi specifiche con me personalmente si però contemporaneamente ha detto che non era uomo d'onore esatto? si così e tuttavia era implicato in questi traffici esatto va bene questo lo riprenderemo a proposito degli uomini d'onore intanto vorrei sapere anche se conosce la Rosa Angelo che contorno dicessero uomo d'onore della famiglia proprio dei Ciaculli mi pare che Ciaculli era sì Angelo che è uno dei nostri imputati di cui oggi non si è fatto menzione forse si è fatta no mi pare di no oggi si è detto di Nino la Rosa ma di Angelo non se n'è parlato oggi ma Angelo sarebbe si è detto il Giamelo ha detto che non ricordava di la Rosa Angelo se io non ricordo così mi pare come ci sono altre mie dichiarazioni che riguardano Filippo la Rosa ma non hanno niente a che vedere con questo processo così per esempio stamattina ha detto di non ricordarsi di D'Amico Baldassare e non è stato molto dice ma chi è questo D'Amico Baldassare basta un'indicazione che forse lo ricorderà è il fidanzato dell'ex fidanzato della figlia di Nino Vernengo quello che lavorava all'enologica no no era solo per un prestanome questo ragazzo va bene era l'ex fidanzato della figlia solo un prestanome poi infatti si sono lasciate e tutto è finito ecco perché neanche mi ricordavo chi era la precisazione serve proprio per imparare la persona Ficarra Giuseppe che Buscetta dice uomo d'onore della famiglia di Leonardo Vitale è trafficante di droga lei sa se le risultano Ficarra Giuseppe Leonardo Vitale no della stessa famiglia a cui apparteneva Leonardo Vitale stamattina però ha risposto ma Leonardo Vitale apparteneva alla famiglia di Pippo Calò anticamente c'era la famiglia di Titta Vitale dello zio può darsi sì può darsi che fosse quindi lui si riferiva all'antica famiglia ma è lei che domanda ha fatto non ho capito su Ficarra Giuseppe ma di cui stamattina mi pare che abbiamo avuto anche una risposta stamattina ha avuto una risposta no io ho detto che ho conosciuto Filippo Ficarra ecco e non Ficarra Giuseppe Ficarra Giuseppe dovrebbe essere un omaccione sulla 60 qualche cosa no era proprio per cercare di sollecitare vabbè comunque no ma non mi ricordo niente di particolare di Ficarra Giuseppe credo che sia un portuale come ha detto stamattina può darsi comunque non mi ricordo particolare se non ha ricordi no e poi abbiamo noi un Teresi Francesco Paolo che fu ucciso l'8 gennaio dell'82 e mi interesserebbe sapere se gli risulta che fosse uomo d'onore no Teresi Francesco Paolo no il fratello il fratello Pietro Teresi che non è imputato credo in questa professione sì e poi passiamo di un altro Teresi Pietro sì un altro Teresi Pietro sì passiamo a un altro episodio l'omicidio di Salvatore Inserillo lei ha fatto cenno alla alla circostanza che Inserillo era andato in un determinato posto dove altri sapeva che era andato e c'è stato qualcuno che qualche Giuda ha detto mi pare qualche cosa del genere una parola ha un riferimento preciso a chi fosse questo Giuda che cosa intendeva dire quando lei ieri ha detto un Giuda un traditore mi pare che ha operato in trambi i termini sì a proposito le uniche persone fidate di Salvatore Inserillo e che sapeva che stesse andando lì credo e credo di essere sicuro che aveva un amante una donna in quel posto erano Salvatore Montalto il figlio Angela Labarbera e Salvatore Buscemi e Salvatore? Buscemi e Salvatore Buscemi ma lei ieri però ha detto esattamente un Giuda o un traditore aveva un Giuda nel senso della parola ma di quelle persone di cui lui si fidava potrebbe essere stato uno di questi quattro sì naturalmente quindi non sa dire quale di questi quattro no di preciso no noi qui abbiamo un imputato in particolare Giuseppe Montalto lei sa se faceva o no da autista all'inserillo? era molto intimo con Salvatore Inserillo ma qui la cosa è un po' diversa non solo che fosse intimo ma che in quell'occasione avesse fatto da autista avesse avuto un ruolo avesse svolto dice il procuratore generale un ruolo in quella vicenda il mio ricordo non è preciso procuratore va bene non è in grado di poter dire una più puntuale di dare una più puntuale risposta va bene andiamo avanti dunque pagina 31 del volume secondo parla di Salvatore Buscemi in ordine ai traffici di droga e dice questo Buscemi Salvatore era un uomo d'onore vice capo non so ne parla come di mafioso dopodiché mi riservo di dire ciò che so su di lui sui traffici di droga su questo ritorneremo e invece non ci ritorna più ha qualche non è che non ci ritorno più perché non è stata mia volontà di ritornare forse non c'è stato il tempo di ritorno era inserito nel traffico insieme a Salvatore inserire era allora non è che dice è inserito nel traffico insieme a Salvatore inserirlo Salvatore inserirlo è morto era quindi era io ho detto era era quindi era con Salvatore inserirlo che aveva interessi di che genere insieme si in traffico di giovani lavoravano insieme no lavoravano era interessato nella insomma diciamo nella morfina che noi raffinavamo esploitavano quell'attività essendo membro della sua famiglia va bene ha conosciuto Stefano Calzetta Stefano Calzetta l'abbiamo chiesto da una vita questa mattina perché Stefano la mia era una domanda preliminare a quella che vorrei fare che riguarda ciò che Stefano Calzetta aveva detto di lui in precedenza ovviamente l'imputato fino al precedente interrogatorio aveva negato qualsiasi coinvolgimento e io vorrei ricordare che Stefano Calzetta fra le altre cose aveva detto di avere di sapere che in un certo villino a piano stoppa che l'imputato avrebbe posseduto abitato aveva tenuto delle riunioni piaccio delle divertite fra mafiosi vero? si vero si parla di divertite anche con oggetto lecito mi pare forse qualcuno no semplicemente divertite ecco perché ricordo che c'è un punto in cui si parla che erano delle divertite ma Calzetta non è avuto si va bene ma dico o c'è Calzetta non so se Calzetta partecipa direttamente o meno oltre lui c'erano altre partecipazioni no vede neanche in quel periodo ero uomo d'onore io però persone che hanno partecipato che successivamente io ho appreso che erano uomo d'onore allora sono cose un po' antiche nel tempo ho venduto nel 74 ecco ma io già ero inserito dal 69 già in seno ambiente di Cosa Nostra anche se non ero io uomo d'onore perché lei nel 75 mi pare sì ma già dal 69 frequentava quell'ambiente di Cosa Nostra quindi questo mi riporta un'ulteriore domanda oltretutto mi pare che ci sia già la risposta in quello che ha detto non è necessario essere uomini d'onore per partecipare all'attività di Cosa Nostra tenuto conto che noi possiamo prendere atto della risposta dell'imputato che non perviene per la prima volta perché mi pare già detto nel corso di queste audizioni che non si era uomini d'onore e si era vicini all'ambiente dell'organizzazione dopo ho saputo che alcuni lo erano già altri non lo erano altri non lo erano ma tuttavia erano persone che erano vicini agli ambienti di Cosa Nostra esatto e oggettivamente quello che viene dalla dichiarazione esatto peraltro che lo stesso imputato ha precisato per esempio con riferimento a Rotolo a Salvatore Rotolo che non era uomo d'onore tuttavia era uno dei un più vicino dei personaggi più vicini a Filippo Marchese addirittura uno della sua squadra di killer esatto e allora quando lei ha detto stamattina che Tizio era uomo d'onore o Caio non lo era si riferisce in particolare al fatto di essere stato formalmente associato con quella cerimonia che ha descritto all'associazione Cosa Nostra sì io mi riferisco alla loro appartenenza a Cosa Nostra questa qualità di uomo d'onore che lei ha attribuito era indipendenza di una iniziazione già perché non escludo che da quando io ho collaborato adesso alcuni di essi possono già essere divenuti esatto uomini d'onore comunque per quanto riguarda mi fermo a quella che sono le mie conoscenze diretti può dirci se lei conosceva tutti assolutamente gli uomini d'onore o può essere che c'era qualche uomo d'onore che tale fosse e lei non lo sapesse in che senso che non gli era stato presentato lei tutti quali tutti quelle palermetane ovviamente ma è ovvio che non posso conoscere tutti ecco e allora può darsi che ci siano uomini d'onore non presentati a lei o da lei non conosciuti come tali tra quelli che lei ma questa è una illazione è una si può arrivare a queste conclusioni e arrivare ad altre conclusioni quindi è una domanda allora la poniamo in un altro modo da porre in un altro modo lei ha detto quindi che erano uomini d'onore soltanto quelli che le furono presentate come tali quelli che conoscevo per scienza di retta e ha detto anche che non poteva conoscerli tutti mi basta va bene poi ha parlato di alcuni uomini d'onore ha escluso e basta basta così va bene altre domande si vorrei sapere presidente chi cioè praticamente ha parlato degli scappati e ha detto che gli scappati potevano essere uccisi da chi che sia se fossero stati rinciacciati lo ha ripetuto anche ieri questo chi ha deciso che gli scappati potevano essere liberamente soppressi appunto era deliberato dalla commissione che ovunque si trovassero e dovunque fossero in qualsiasi territorio non c'era da rispettare nessuna regola dove il posto lo permettesse di essere eliminati e questa deliberazione della commissione come l'ha saputa chi gliel'ha comunicata è stata divulgata a tutti gli uomini d'onore che eravamo rimasti in campo nella cosiddetta gruppo vincente e in questo caso vi sentivate tutti vincolati all'osservanza di questa deliberazione quindi se lei si fosse trovato a fronte di un cosiddetto scappato l'avrebbe messa in esecuzione questa deliberazione questo sarebbe dovuto dalla mia coscienza dalla mia volontà quindi c'era un margine potevo anche far finta di non vederlo c'era un margine di discrezionalità no gli ordini erano quelli ma io avrei potuto far finta di non vederlo cioè avrebbe potuto contravenire se i ricordi di quella persona come io ho detto che non accettavo il fattore della cosiddetta guerra di mafia di Stefano Bontate se incontravo una persona di cui avevo un buon ricordo potevo anche far finta di non vederlo pur essendo uno scappato come è avvenuto in cui è allegato nel rapporto che una volta mi si è dato in carico di uccidere Francesco Frecano quello che è stato assassinato insieme a Cognato di Contorno poiché il fucile non era idoneo di precisione ad eliminare quella persona in una certa distanza io non ho fatto finta di capire niente pur essendo munito di un fucile di precisione e non ho portato a temere quel compito ma se mi dicevano che dovevo eliminarlo in un determinato posto dove io potevo farlo dovevo eseguire l'ordine di eliminare vieni mi animo procuratore giornale perché stamattina non ho capito bene se andò con Stefano Bontate da Badalamente in una casa di Badalamente a Cinisi o a Carini non l'ho afferrato ha detto Carini se non ricordo male a Carini no a Cinisi ah Cinisi beh allora ora prendiamo Cinisi io avevo un cattivo ricordo potesse mi sono espesso va beh ma comunque non è un non è un un grosso va bene l'omicidio di Antonino Badalamente stamattina disse inquadrato nella aspetta Presidente adesso ho detto Cinisi o Carini è Carini è Carini Carini procuratore generale mi pare che Carini era stato detto e appunto nel via nella strada principale così mi pare che era stato detto sulla strada va bene comunque dovete comprendere anche che a volte uno può avere sì ma infatti nessuno ne fa appunto di queste di memoria ne abbiamo tutti ancora dei Badalamente Presidente stamattina si è parlato dell'omicidio di Antonino Badalamente si è inquadrato nella guerra di mafia si è detto è stato ucciso o non è stato ucciso per la guerra di mafia e per varie vicende io vorrei che fosse ancora più chiaro che cosa si intende dire cioè è un caduto dalla parte ucciso diciamo dalla parte corleonese o dalla parte badalamente e lei questo come lo può dire con certezza per averlo come stamattina abbiamo parlato anche di contrasti tra i due cugini Antonino e Gaetano Gaetano era estromesso sì sì va bene ho detto pure che poi Antonino si era legato con Sarorico Bono quindi era una vecchia arrugina così chiamamola quindi lei questa risposta che ora dà così netta da parte corleonese come la sa da chi l'ha saputo ma sempre nel nostro ambiente era scontato non c'era bisogno di ulteriori commenti allora quello che ha detto a proposito di altri omicidi se sarebbe avvenuto un omicidio ci sarebbe stato un'eclatanza un allarmismo generale in seno a Cosa Nostra del gruppo omogeneo che avrebbero così detto dominato la guerra di mafia va bene poiché allarmismo non ce n'era tutto era inosservato quindi tutto era normale va bene allora voi procuratore generale va bene un'ultima anzi qualche altra piccola precisazione vorrei sapere a proposito oggi si è parlato anche dell'omicidio di Zucchetto si è parlato delle conoscenze dell'attività del Zucchetto ma io vorrei sapere se un omicidio di quel genere era tra quelli che nessuno avrebbe potuto commettere senza un'autorizzazione o un mandato della commissione o era un omicidio che invece poteva essere commesso senza particolari autorizzazioni se il presidente l'omicidio di Zucchetto sto parlando di un funzionario dello Stato si si quindi subvenge negli omicidi che vengono decretati con una certa secondo quelle regole a cui lei ha fatto riferimento nelle dichiarazioni precedenti e dice che rientra tra quelle regole alle quali lui si è riferito quando ha parlato della commissione delle deliberazioni della commissione delle decisioni che venivano prese a riguardo i funzionari dello Stato va bene se può dirci se sa quali erano i killers abitualmente usati dalla famiglia di Corso dei Mille dal Marchese diciamo posso? si si puoi rispondere quelli notori che erano erano Pietro Senapa Salvatore Rotolo Giuseppe Spadaro Francesco Giuseppe Francesco Spadaro Antonino Marchese anche se era di Ciaculli se ne servivano a Corso dei Mille perché nipote di Filippo Marchese Tempesta Pietro Alfano detto Sapuno Giuseppe Marchese Francesco Tagliavia Francesco Tagliavia Cioè questi erano killer gente a soldata a servizio per siamo tutti killer presidente cioè lei ha pure le sue ho anch'io le mie responsabilità a proposito presidente dei Kalashnikov ne abbiamo parlato già a lungo oggi vorrei sapere se sa se gli risulta per qualche motivo che anche le famiglie catanesi disponevano di armi del genere di Kalashnikov ha un'idea di questo conosce sa ho capito bene la domanda cioè se i Kalashnikov non c'è quelli palermetane c'erano dei Kalashnikov catanesi in mano ai Catanesi vedete i Kalashnikov c'erano diversi c'erano dei AK-47 che erano del modello originale russe e altri che erano fatti artigianali dalla Turchia e anche i Catanesi avevano dei Kalashnikov per sentito dire per sentito dire questo procuratore generale ne sa se qualcuno di questi arrivò a Palermo o venne da Palermo a Catania ci è stato uno scambio da Catania a Palermo da Catania a Palermo si può essere più preciso in qualche modo no più preciso no ma in che occasione questo lo può dire senta anche mio fratello custodiva Kalashnikov e se ne è servito si no se ne è servito sono servite altri però alcuni li ha custoditi anche lui lui non se ne è servito in un'occasione se ne sono servite altri ma non lui Kalashnikov che erano AK-47 che venivano da Catania o che erano di Palermo questi che erano a Palermo che erano a Palermo il pubblico ministero voleva sapere da Catania a Palermo che c'era stato un travaso si ce ne sono state alcune che sono state regalate da Catanese ai Palermo e in particolare a Ciacul a Pino Greco Scarpa che se ne serviva personalmente o lo cedeva anche ad altri com'era l'Istri aveva questo incarico chi o era lo Scarpa se ne serviva lui personalmente era diciamo un conoscitore di questo procuratore generale io volevo chiedere soltanto altri due particolari per quanto concerne Abbate a pagina 107 del volume secondo delle dichiarazioni originariamente rese si dice qualche cosa di particolare che vorrei capire un po' meglio perché stamattina ha detto che uno degli Abbate non era coinvolto nelle attività di Cosa Nossa era completamente strano a questo tipo di attività è vero ha detto questo si si proprio così per Abbate però lì dice fra l'altro Abbate Giovanni si e Abbate Mario anche ai tempi di Filippo Marchese si godeva dice così un grosso prestigio ed era particolarmente aderato nei loro confronti ciò perché tra l'altro nella tenuta agricola degli Abbate sita nei pressi del laboratorio via Messina Marine in quel periodo si tenevano spesso delle riunioni tanto che detta tenuta era diventata una vera e propria base operativa per spedizione punitiva nel cosiddetto c'è angolo della morte conferma queste si confermo e quindi com'è che uno degli Abbate era completamente strano a questa vicenda non ne sapeva niente non ci partecipava io completamente non l'ho mai conosciuto né come uomo d'onore nemmai mi è stato detto e l'ho conosciuto in carcere e non ho avuto mai appreso niente su questo Abbate Giovanni e anche il suo diciamo si vedeva completamente da escludere al 100% anche perché con Giuseppe Abbate ero molto intimo e me l'avebbe presentato normalmente va bene ne prendo altro a pagina 62 del stesso volume a proposito dell'organizzazione di Cosa Nostra ha reso delle dichiarazioni un po' diverse da quelle che ha reso poco fa io vorrei che si vorrei leggere brevemente questo periodo perché il presidente chiedesse se corrisponde all'esattezza quella prima versione o la seconda che ha dato è una contestazione da una domanda dice così risponde per quanto ne so soltanto a Palermo l'organismo di vertice di Cosa Nostra è la commissione nelle altre province vi è un organismo singolo costituito dal rappresentante provinciale vi è però anche la commissione interprovinciale costituita dai capi delle rare province un rappresentante per ogni provincia e da precisare che a Palermo la commissione non è composta da tutti i capi mandamento della provincia ma soltanto da quelli di Palermo città e delle zone più vicine della stessa a dove si estende fino a Partinico a destra fino a Villa Bata e la commissione è un organismo paritario quindi in questa sede lui afferma che vi è una commissione interprovinciale costituita dai capi delle varie province oggi ha detto qualcosa di diverso ma credo di aver detto la stessa ha detto che questa interprovinciale si riferiva va bene al appunto ai rappresentanti delle province se io non ricordo male ma che la commissione di Palermo rimaneva sempre in una posizione di supremazia cioè aveva una potestà maggiore mi pare che questo è stato quello che se c'è se non ho capito male aveva negato che la commissione interprovinciale fosse composta in questo modo come dice qui io credo che dunque allora cerchi di riepilogare di nuovo questo punto in modo che sia fugato ogni equivoco la interprovinciale che cosa era? la interprovinciale è semplicemente composta dalle varie famiglie varie rappresentanti di ogni famiglia interprovinciale di cui ci sono i vari capipandamenti di volta in volta anche questi capipandamenti si riuniscono fra di loro e creano una mini commissione interprovinciale però per i fatti eclatanti di una certa importanza devono sempre riferire alla commissione di Palermo alla commissione di Palermo ecco questo forse non mi è chiaro se il fatto avviene mettiamo caso a Enna per esempio l'omicidio di Madonia quello che avvenne lì nella zona di Enna dovevano riferire ugualmente alla commissione di Palermo o deliberarlo solo nella commissione di Palermo certo ecco perché è stata la casuale della posta fuori famiglia del Gaetano Badalamente non so io procuratore io sono anche un po' stanco nel senso che ritorniamo molto spesso sulle domande va bene un'ultima cosa soltanto lei ha parlato nel nel verbale reso al procuratore della Repubblica di di circostanze che sono state qui riferite alla corte dai testimoni greco Giovanni e De Grandi Antonino specificando che si trattava di circostanze false e indicando alcune ragioni di questa falsità conferma se si conferma è stato confermato tutto la dichiarazione che queste due i verbali di queste due testimonianze siano trasmesse al mio ufficio perché possa procedere eventualmente per i reati commessi ho finito la richiesta il procuratore generale può avere le copie di qualunque dichiarazione quindi saranno trasmesse al suo ufficio e va beh ha finito allora facciamo quella sospensione così voi fate il punto che vi interessa 11 avvocato campo signor presidente anzitutto una premessa che non attiene alla domanda ma alle ragioni per le quali formulerò soltanto due o tre domande in ordine alle dichiarazioni che il signor Marino Mannoia ha reso oggi e ciò in relazione al fatto che quegli atti dei quali è stata chiesta l'acquisizione da parte della procura generale la corte non ha ancora sciolto la sua riserva circa l'ammissibilità o meno e poiché sono convinto che non possono essere introdotti non desidero attraverso eventuali mie domande in un certo senso introdurli e utilizzarli nel processo stesso se lo ritiene signor presidente e desidero che lei domandasse al signor Marino se Mannoia se ha conosciuto personalmente il chiaracane Salvatore il chiaracane Salvatore sì lei ha conosciuto il chiaracane Salvatore personalmente e non pronto va bene il chiaracane Salvatore parliamo dell'avvocato il chiaracane Salvatore sì l'ho conosciuto personalmente a Cian dove al carcere di Trani al carcere di Trani in precedenza quindi non lo conoscerà no in precedenza no l'avevo visto qualche volta così distruggita qualche volta distruggita sì avvocato quindi è una conoscenza che lui ha fatto durante la carceraria sì sono stati per lungo tempo assieme siete stati assieme per lungo tempo ma qualche mese ma non detenuti nella stessa cella cioè nella sezione blu del carcere di Trani anche se eravamo in diciamo non nello stesso piano ma a volte andavamo al passeggio assieme cioè assieme ci incontravamo sì ho capito e ancora un'altra domanda questa volta riguarda Soresi Giuseppe se ha conosciuto personalmente Soresi Giuseppe Soresi Giuseppe stamattina ne abbiamo parlato sì personalmente e di Borgetto mi piace sì sì lo faccio alla domanda perché sì sì professore Campo l'ho conosciuto a me lei deve rispondere sì Presidente l'ha conosciuto allora penso come quando sì l'ho conosciuto prima della carcerazione e poi durante il carcere prima della carcerazione lei si riferisce alla prima sua carcerazione prima di questa carcerazione cioè in questa carcerazione dell'85 è prima cioè in stato di libertà è prima in stato di libertà sì desidera qualche altro però non ho avuto grande frequenza con lui sì e adesso ritornando un attimo al Chiaracane Salvatore sì questa pretesa conoscenza della carceraria volevo scuse Presidente volevo fare una premessa quando si è parlato dell'avvocato Chiaracane e poi si è parlato di un altro Chiaracane credo di aver fatto un errore io mi riferivo al vecchio Vincenzo Chiaracane non quale nome mi sia stato fatto io ho conosciuto il vecchio Vincenzo Chiaracane che anticamente era rappresentante di Corso dei Mille quindi non so se non credo che sia il padre dell'avvocato Chiaracane ecco Chiaracane Giuseppe no io invece ho conosciuto Vincenzo Chiaracane Vincenzo Chiaracane quindi a modificazione di quanto ha detto questa mattina adesso parlando di Chiaracane mi sorviene questa cosa Chiaracane Vincenzo lei ha conosciuto il vecchio Vincenzo Chiaracane non Chiaracane Giuseppe che peraltro anche lui ha la sua età va bene e allora Presidente a questo punto data questa puntualizzazione io devo fare una domanda perché questa situazione ha creato già un equivoco in quanto si riteneva che l'avvocato o meglio gli risulta se l'avvocato Chiaracane sia figliolo di questo Chiaracane Vincenzo o di quell'altro Chiaracane Giuseppe perché già era sorto no questo non lo so professore Chiaracane Salvatore del quale l'avvocato avvocato perché altro progetto lo indicava come figliolo del Vincenzo non lo so lei quindi ha conosciuto Chiaracane Vincenzo un vecchio che era anche padrino di Piergio Vernengo non so di fatto o di diciamo di così di rispetto ha conosciuto in carcere a Trani il Chiaracane Salvatore avvocato qualche volta l'ho visto così fuori in libertà però di sfuggita di sfuggita è stato circa un mese insieme in quel carcere non proprio assieme ci vedevamo sì non è nella stessa cellula va bene nella stessa sezione e per quanto riguarda quest'ultimo particolare se si trattasse di un Chiaracane Salvatore figlio di Vincenzo lei ha detto o figlio di Giuseppe lo conosco l'avvocato Chiaracane ma non so se figlio di Vincenzo o figlio di Giuseppe o figlio di Giuseppe Chiaracane Giuseppe allora diciamo lei invece niente in questo momento se vedo la foto potrei stabilire se lo conosco o meno ma in questo momento non ho ricordo di conosciuto io ricordo adesso perfettamente di conoscere il vecchio Vincenzo Chiaracane va bene l'ultima domanda se questa pretesa qualità l'ha saputo per sentito dire per scienza diretta questa pretesa qualità dell'avvocato Chiaracane questa appunto di appartenenza diciamo all'organizzazione di uomo d'onore sì sì prima lo sapevo per sentito dire poi mi è stato presentato da Giovanni Bontade a Trane anche perché lui era stato protagonista l'avvocato Chiaracane di una voleva scrivere una letta una qualcosa di protesta come reclusazione ai giudici istruttori e lei l'ha avuto presentato da Giovanni Bontade sì purtroppo è morto come uomo d'onore sì avvocato Campo nient'altro va bene avvocato avvocato Garbo numero 37 avanti avvocato è attivato 37 sì avvocato Giovanni Garbo difensore di Costantino Antonino il signor Costantino desidera essere posto a confronto con il signor Marino Mannoia Francesco va bene e vediamo un po' se ci sono altre domande io non ho nessuna domanda da porre Presidente mi scusi gli dica che fosse meglio che Costantino non venga a confronto perché no prima che ha tutto da perdere e secondo poi con quale dignità vuole venire a fare un confronto non faccia di queste né dichiarazioni né considerazioni lo deve decidere la Corte non è nessuna minaccia e se sapete Presidente se è una minaccia o una promessa per il mio figlio no siamo cugini ha risposto che non è una minaccia né una promessa siamo cugini figli di fratello e sorella mia madre era sorella di suo padre va bene e allora quindi non vedo perché voglio venire avvocato Inserillo avvocato Inserillo vedete per quanto riguarda quest'atto ho detto vediamo un po' le domande e lo lo scioglieremo subito dopo le domande ho detto questo nel suo interesse allora avvocato Inserillo signor Presidente io desidererei conoscere dal signor Marino Mannoia se egli conosca personalmente quel cancelliere che ha indicato come uomo d'onore perché poco fa mi pare che abbia detto di avere conosciuto presso un carcere del quale adesso non ricordo l'ubicazione il fratello escludendone la qualità di uomo d'onore e attribuendola invece a quello diverso da quello conosciuto presso il carcere ecco allora lei che cosa vorrebbe sapere? se quest'altro indicato come uomo d'onore lo conosce personalmente sì certamente il cancelliere che lei ha indicato come uomo d'onore lei sa chi è? non quello che è stato detenuto a tranne con me ma l'altro credo che sia Domenico Domenico lo conosce personalmente siccome l'ha conosciuto e quando? l'ho conosciuto prima del mio arresto arresto si intende prima del 2 dicembre 80 o l'arresto questo? credo nel periodo della mia latetanza nel periodo quindi dall'83 ai primissimi dell'85 e come? l'ho conosciuto tramite credo con Lucchiesello e non mi ricordo chi c'era comunque lo conosco perfettamente se vuole fare il confronto lo conosco e l'è stato presentato o lei sapeva che era un uomo d'onore sì avvocato insedito signor Presidente le chiedo scusa vorrei chiedere all'imputato se nel raccontare i fatti che riguardano la organizzazione criminosa le persone che vi appartengono dicono delle bugie cioè lei vuole sapere se all'interno della organizzazione si dicono bugie o verità ecco sì avvocato inserirlo la bugia è antica quanto il mondo ma anche la verità è antica quanto il mondo noi partiamo da una situazione di presupposti dati per scontati su cui si è costruita tutta una teoria scientifica e quindi la domanda non è assurda ma guardi che su questo punto l'imputato ha detto ha dato delle risposte cioè ha detto che si dicono delle bugie no ha dato delle risposte in ordine al problema se si dicono delle verità o non ci dicono delle verità se circolano oltre alle verità se circolano anche delle bugie mi sembra un tantino va bene allora presidente diciamo una cosa facciamo una domanda se è vero così come ci è stato detto da altri lei ha percepito mai avvocato inserirlo ha percepito mai che nell'organizzazione talvolta più volte siano state dette delle bugie a riguardo di fatti riguardanti l'organizzazione i fatti dell'organizzazione le vicende che la mia mente si ricordi adesso no perché dovrebbe essere ed è tassativamente vietato tranne se qualche notizia non è data ad hoc per coprire certe situazioni ma nell'ambiente di Cosa Nostra è obbligo dire la verità è un canone delle regole di Cosa Nostra dire la verità salvo a ricorrere alla bugia quando se ne può parlare per coprire determinate cose che non riguardano certamente l'ambiente di Cosa Nostra ma fattore più in alto fattore diversi avvocato inserito non ho sentito per esempio si dice sempre la verità che la regola è che si dica la verità la bugia può essere detta qualche volta per determinate situazioni che si vengono a creare in relazione a che cosa per esempio si può anche bleffare di fingere con qualcuno come se la morte di un suo familiare come nel caso di Mario Cristi Filippo si è attribuita gli è scappato questo e quell'altro perché si ha tutto un piano da perseguire allora si tende a dire qualche bugia quindi signor Presidente se ho ben capito l'uccisione di un determinato avvocato registriamo la risposta è registrata per questo è registrata se ho ben capito la uccisione di un determinato individuo può essere per motivi giustificabili o meno questo si vedrà attribuita a persone diverse da quelle che invece materiali non ha detto mi pare questo in quel caso specifico è da collocare sotto una strategia tutta particolare e quale strategia per esempio quella da attribuire alle persone scappate o perdenti di un eventuale omicidio ma non quanto riguarda le persone che sono regolarmente che sono regolarmente regolarmente facenti parte del gruppo omogeneo e riconosciuto legalmente inserito ma in sostanza andiamoci un poco più diciamo a fondo lei dice che si possono attribuire dei fatti a determinate persone che abbiano una particolare qualificazione ecco cerchiamo di capire veramente questo discorso perché è molto importante l'obbligo nell'ambiente di Cosa Nossa è quello di dire sempre la verità quando se ne può parlare e quando se ne parla perché non sempre si può parlare di tutto e non sempre si è autorizzato a parlarne in certi casi sporatici quanto riguarda quando si deve perseguire un disegno criminoso di una certa strategia a volte qualcuno può essere indotto a dire una bugia alla persona interessata per non metterlo in allarme per ciò che dovrebbe adverire dopo quindi credo di essere stato chiaro ecco questo in sostanza mascherare un atteggiamento nei confronti della persona verso cui si indirizza un piano va bene invece diciamo criminoso un piano una punizione Avvocato Inserillo Sì signor Presidente le chiedo scusa ma stavo riflettendo cioè dire si dovrebbe si può nascondere o mascherare l'esecuzione di un determinato delitto per quanto riguarda l'attribuibilità a determinati soggetti nei confronti di quei soggetti che non meritano fiducia in sostanza No non mi pare che sia stato detto questo mi sembra che abbia detto questo che correrebbe l'obbligo di dire il vero come fatto per ora ci riferiamo a quello che dice l'imputato come fatti di principio ma in determinate circostanze volendo perseguire determinati disegni e quando si vuole in particolare colpire una persona ma quella persona la si coltiva ugualmente allora si maschera un atteggiamento nei confronti di questa persona per poi poterlo raggiungere va bene più facilmente quindi in sostanza la bugia viene detta soltanto ad una persona specificata cioè a qualcuno soltanto ma in generale all'interno dell'organizzazione circola la verità è questo che vuole dire io credo di aver esaurito la mia risposta non ho altro da dire avvocato mi prendo atto presidente grazie non ci sono altre domande signori avvocati non ci sono altre domande va bene allora avvocato garbo e lei ha chiesto il confronto e allora e procuratore generale va bene mi pareva che si fossero va bene e allora chi è Costantino Presidente io mi rifiuto di fare confronto con Costantino perché non voglio vederlo in faccia perché non ha mandato neanche un mazzo di fiore alla morte di sua zia la sorella del padre che è stata assassinata perché non credo che c'è donne non parli se non la invito io c'è donne rientravano nella cosiddetta guerra ai confronti di un collaboratore della giustizia quindi che cosa vuole che venga a fare vuole venire venga lo faccia venire lei ha detto che si rifiuta ma venga vediamo quello che mi deve dire lo faccia venire allora accetta Costantino che non si prolunghi nei suoi discorsi Presidente mi scusi sono l'avvocato garbo avvocato garbo se consente un attimo io desideri comprendere prima anche nell'interesse del Costantino visto che c'è un momento se questo confronto può essere esperito o meno cioè dire se abbiamo una posizione l'ha chiesto lei siamo pienamente d'accordo però c'è l'imputato l'altro imputato che dovrebbe essere l'altro soggetto che ha assunto un certo atteggiamento un certo contegno e contemporaneamente ha anche detto che si rifiuta ora ha cambiato opinione ha cambiato IEA e ha detto va bene che venga prima non lo voleva vedere in faccia ora ha detto invece e il Costantino suo difeso stava cominciando a contestare qualche cosa quindi mi sembra che tutto si svolga in modo assolutamente regolare allora volevo precisare una cosa signor Presidente che io la dignità ce l'ho ma lui no perché questo non è un momento un momento lasci parlare di limitarti Marino Mannoia ma lui non può permettere di dire Marino Mannoia lei aspetti quando avrà la parola poi lei lasci parlare va bene il Costantino al quale raccomando di usare termini corretti io entro soltanto in argomento ho brevissime cose da dire io prima devo replicare quello che ha detto va bene ed è già registrato però aspettiamo che lui dica quello che vuol dire e poi lei dirà la sua Marino Mannoia mi accusa di reati specifici di droga commessi insieme a lui ma vai a cagare ma sei vastato e beh dico che mi credete che siamo in piazza e no e cerchiamo di tenere il confronto è un atto giudiziario e si deve svolgere in termini di correttezza quindi adoperiamo termini corretti e anche lei adopera i termini corretti allora contestazione di fatto va bene allora io quello che chiedeva lui era questo mi aveva contestato dei fatti di droga specifici commessi insieme a lui allora a me non interessa quello che sono di questa accusa interessa quello che lui dice di me lui mi vuole portare i giorni i mesi l'anno in cui si sarebbe svolto questi fatti questo solo voglio sapere ecco risponda lui contesta nega dice che non è vero tutto quello che lei ha detto di lui risponda io posso dire semplicemente una cosa tu sei il figlio dello zio Agostino fra di noi c'è stato sempre un legame di sangue e ora non rinnego questo legame di sangue dopo quello che tu fai io l'ho rinnegato io più parlo più cerco quello che non hai capito tu cerco di salvarti la vita perché più mi schiero contro di te più la tua vita vuoi cercare di essere salvata tu adesso vieni qua per chiedere un confronto con me io ti ho accusato di mancanza di dignità nel senso che ho detto che per paura per cose non hai sentito il dovere morale di mandare un mazzo di fiore a tua zia alla sorella di tuo padre questa moralità la dovevi sentire tu in che senso? tu ce l'hai diciamo in mia colpa non che me l'hai chiede a me la moralità perché sono un collaboratore non lo so per quale motivo tu sai per quale motivo ma la mia colpa ma la mia colpa tu stai combinando tu stai combinando tutti questi canti tragedie ma scusa tutti questi canti silenzio se parlate contemporaneamente non ci comprende il vostro contrasto lei dica quando finisce uno e io l'ho detto già si parli uno e poi risponda l'altro avanti ha finito lei signor Presidente io ho finito anche di fare il confronto la prego gentilmente tagliamo perché non ho parole per definire un momento perché deve rispondere l'imputato risponda io stavo rispondendo correttamente e io non le sto dicendo tu mi stai dicendo che la mancanza tra virgolette di dignità è la mia perché sono un collaboratore della giustizia ce l'ho sulla coscienza io a mia madre mia sorella e mia zia è questo che hai voluto dire lo sai tu solo cosa voglio dire no ma tu hai fatto un accento la prego gentilmente altrimenti andiamo no e questo ora adesso tu mi chiedi basta io vorrei ritornare al posto no no non te ne puoi andare tu mi hai chiesto di sapere quant'è che ho lavorato io con te i giorni i mesi gli anni e tutte queste cose tu che cosa hai le carte perché sei in grecia tu hai lavorato con me nello stallone dei chiavelli nel 79 nell'estate del 69 ah i film di fantascienza così lo 79 non lasci completare posso dire anche nell'estate non lasci completare ma perché sei venuto qua ti ho detto che non sei un uomo d'onore perché io so dire solo la verità ma che cosa vuoi che ti dica le altre vuoi che ti dico che non hai lavorato mai con me con Gioca la realtà è quella hai lavorato hai lavorato di fronte al villino di Stefano di Giovanni Fontate con me nel laboratorio quello che ha preso fuoco in via per la grazia hai lavorato con me in altri posti ma che vuoi che ti dico non lo capisco le date giorno, mese, anno in cui è avvenuto queste fatte ma come le date i giorni, mesi e gli anni hai lavorato con me per circa due anni in quali anni hai lavorato tu dall'inizio del 79 tutto il 79 ai principi dell'80 a fine 80 dopo che ci siamo divisi che io mi sono diviso con i Vernengo per te e per Cosimo Vernengo perché non ti volevano dare la quota intera abbiamo lavorato io tu e Cosimo Vernengo anche nel casa mia a Ciaculli anche nell'estate e anche prima di essere arrestato io nel dicembre dell'80 ma che cosa vuoi Cugino? hai voluto fare il confronto non chiamare cosa ha da dire ma come vuoi che ti chiamo un pezzo di merda allora se non ti devo chiamare Cugino come ti devo chiamare non consento che si usino in un'aula giudiziaria questi temi il Presidente dice non mi chiamare Cugino è perché non ha detto una cosa diversa da quella che poteva dire in un altro modo ma non usiamo va bene di questi termini lei vuole rispondere ha fatto delle precise aspetti ha fatto delle precise contestazioni ha riferito gli anni ha detto dove i luoghi cosa ha da dire lei lo dica in faccia poi lo dirò signor Presidente poi avremo un interrogato dove io dimostrerò l'opposto ma lei lo dica in faccia va bene all'imputato ma no Marino ma no un'altra cosa da giugge un'altra cosa tu hai scambiato dollari per conto mio nella banca di Cefalù nel 79 a tuo nome vuoi sapere altre cose non lo so che vuoi e ha scambiato dollari signor Costantino cosa vuoi che provenivano dal traffico di giovani lei può dire da Salvatore non ho nulla da dire signor Presidente mi ritiro di ogni discorso ma allora che sei venuto a fare e allora lo chiudiamo il confronto va bene allora è chiuso il confronto va bene e allora ci sono altre domande o richieste va bene di confronto o altre no allora la Corte si ritira per sciogliere quelle riserve va bene